Salve a tutte e a tutti. In questo lungo video inizieremo a cambiare radicalmente la prospettiva con cui da circa mezzo secolo si è guardato la vicenda del mostro di Firenze. Ciò che andremo a sostanzialmente provare sono infatti circostanze da cui discendono conseguenze che cambiano radicalmente il quadro. Ma prima di iniziare a entrare nel vivo dell'importantissima argomentazione che cercheremo in questo video di sviluppare in modo intelligibile e logicamente robusto, vorrei fare con voi due parole sui recenti contributi e discussioni che ho seguito in rete, nei vari canali e nei gruppi che trattano la vicenda che ci occupa, anche per chiarire alcune questioni. Abbiamo assistito a vari sinceramente ridicoli e tentativi di taluni sacerdoti del mainstream mostrologico di smentire gli esiti della nostra profilazione dell'entità mostro per capacità o competenze distintive. Profilazioni che abbiamo sempre detto essere un po' l'architrave della nostra ricostruzione della vicenda, cosa che ci fa piacere e ci incoraggia molto perché le nostre tesi generano fastidio a questi estremi estantivi difensori della non verità o al più del quarto di verità scaturito dai processi. Come era prevedibile vista la presa che stanno avendo certe idee innovative che noi, come anche altri studiosi della vicenda del mostro di Firenze, stiamo introducendo nel petrificato mondo della mostrologia, si è cominciato da parte di questo mondo, a quanto retrivo e reazionario, a cercare di smontare queste nostre visioni che, dal loro interessatissimo punto di vista, sono eretiche nocive da estirpare. Ecco dunque che alcuni viechi inquisitori e ciechi difensori della fede hanno iniziato a predicare che la nostra teoria è quella degli omicidi delle coppie, quali atti di strategia dell'attenzione. Falso, noi non diciamo questo. Noi diciamo invece che il killer o i killer era o erano, diciamo così per mestiere, uomini che erano attivi o comunque legati alle strutture, presentissime a Firenze e dintorno in quegli anni del resto, che furono dietro ad alcuni attentati riconducibili alla strategia dell'attenzione. Ma in quanto mostro di Firenze, costui o costoro agiva o agivano per propri individuali deviati eventualmente patologici e narcisistici si muovendo. Ed abbiamo anche sentito dire a un letto che noi siamo tra quelli che sostengono che i servizi segreti furono dietro duplici omicidi del mostro, falsissima accusa anche questa, per la quale vale quanto appena detto. Se infatti il mostro fosse stato individuo dei servizi o legato ai servizi, il che va provato, ciò non vorrebbe affatto dire che i servizi sono dietro alle uccisioni delle coppie. Vorrebbe semmai dire che il mostro faceva quel mestiere. Nessuno pensa, almeno credo, che siccome il condannato all'ergastolo per quelle uccisioni faceva di mestiere il postino, come sappiamo, allora le poste sono dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Insomma, abbiamo preso atto che una tecnica per cercare di sminuire la nostra ricerca è quella di metterci in bocca false tesi costruite ad hoc per risultare poco credibili. Di recente però si è cercato di fare attacchi più mirati e meno roggi alla nostra ricostruzione, ma così facendo alcuni sono giunti a negare l'evidenza. Si è infatti cercato addirittura di negare la mostrofobia. Per questi sacerdoti dell'ortodossia la mostrofobia non sarebbe mai esistita. Non è dunque mai esistito per costoro un fenomeno sociale che ha addirittura stabilmente mutato i costumi sessuali a Firenze e dintorni e che all'epoca generò situazioni paradossali di cui parlarono molto giornali e televisioni, quali le lunghe fila di auto di giovani coppie che amoreggiavano dentro la città di Firenze, un'auto parcheggiata dietro l'altra, con i vetri coperti da fogli di giornale per creare un po' di privacy e fuori sulla strada a volte anche vigilante sarmate che facevano una ronda. Mentre nella campagna fuori città, a volte, prima sostanzialmente, prima del mostro pululante di coppie che si appartavano in auto, a volte in certe zone, in certe notti, nelle zone, nelle notti che ormai ci sapeva essere di proprietà di questo demone dell'oscurità, era quasi più facile imbattersi in una coppia civetta anziché in una vera coppia diamanti. Ma per questi signori che si autodefiniscono conoscitori della vicenda ed esperti di cosa non è dato sapere, in realtà oscillanti tra l'imbecillità e la disonestà intellettuale, tutto questo non è mai esistito. Certo, un po' li capisco, perché è ben chiaro al costoro che è un mostro che continua a colpire nelle stesse ristrette zone e negli stessi tempi, facendosi letteralmente beffe dei controlli delle forze dell'ordine sempre più penetranti per intercettarlo sul terreno, specie nel tempo dell'allarme sociale massimo, da fastidio, non quadra proprio con la loro mio previsione di un ignoto assassino solitare, con seri problemi mentali o con quella di personaggi semi-analfabeti, più usi all'alcol che non hanno studio delle difficili tecniche della deception. Noi abbiamo invece dimostrato che per conseguire questo risultato straordinario quattro duplici omicidi nel tempo della mostrofobia, cioè tra l'ottobre 81 e il settembre 1985, tre su quattro in un fazzoletto di territorio, una ristretta zona attorno a San Casciano e un mal di pesa, sempre un weekend di bella stagione con scarsa illuminazione lunale, prevedibilissimo. Il mostro doveva per forza essere un killer informato e informato su diversi piani, informato sul piano topografico, sul piano c'è della conoscenza estremamente dettagliata delle sue zone di caccia e dei suoi teatri di azione, informato quanto alla sua preda unica, cioè la coppia appartata in luogo relativamente isolato, coppia giusta e non civetta, specialmente a partire da una certa epoca in avanti. Preda che era divenuta un'assoluta rarità nella campagna fiorentina dopo l'eccidio di Travalle e ancora più dopo quello di Maccaiano, straordinariamente informato sul piano dei movimenti e dei piani anche riservati dalle forze dell'ordine che gli davano la caccia sul territorio e alle quali erano ampiamente noti, in particolare a far tempo da 1982, luoghi e tempi delle aggressioni, ma la cui azione di contrasto sul terreno non fu mai un problema per questo assassino. O per questi assassini? Anche nel tempo dell'anarme sociale massimo, tempo nel quale i controlli, i blocchi stradali, i pattugliamenti nelle note zone del mostro, divennero sempre più intensi. Ma il mostro era un assassino seriale che era anche capace di condurre imboscate che non lasciavano scampo alle sue vittime, restando freddo, lucido e determinato anche quando capitavano imprevisti, vedi baccaiari, vedi scopiti, e che fu anche capace di non lasciare sulle scene dei suoi crimini tracce utili all'indagine scientifica del suo tempo, nonostante la violenza delle sue azioni omicide e il prolungato tempo di permanenza su quelle scene criminis, si dice in latino, sulle sue scene del crimine, dovuto anche all'azione sul cadavere della vittima femminile prevista dal suo protocollo. Ma questo mostro fu anche capace di fare staging delle sue scene del crimine e addirittura di depistare le indagini che lo riguardarono clamoroso il depistaggio della pista sarda del 1982 di cui molto parleremo in questo video. Ma potrei continuare a lungo con gli esempi. In sintesi noi abbiamo dimostrato, in forza del nostro esercizio di profilazione, per capacità o competenze distintive di questa entità assassina, che il cosiddetto mostro di Firenze possiedete informazioni e conoscenze che per numero e livello sono ineguagliate nella storia dei serial killer. Un mostro che in virtù di queste capacità, in taloni casi senz'altro fuori della norma, si è per fare della deception e dell'invisibilità, assai più che del suo armamento, la propria bandiera e il proprio biglietto da visita. Chiaro dunque che, per difendere le loro stantie visioni, i mostrologi cosiddetti della tradizione, i cui brillanti risultati li possiamo facilmente vedere, mi pare, stiano cercando di attaccare la nostra analisi, che però per loro sfortuna si basa e parte sempre dalla semplice osservazione di fatti e circostanze urgenti. Cito ora due tra i più recenti interventi che sono andati nel solco del tentativo di sminuire le nostre tesi, che inevitabilmente hanno una componente speculativa, ma che ripeto sono sempre basate, cioè partono, come abbiamo letto ora, per metodo di indagine del resto adottato e dichiarato sin dal primo mio video, da evidenze oggettive e incontestabili. Il primo intervento di cui voglio parlare con voi amiche ed amici è quello del noto comico di Anagni, il devo dire simpatico, molto simpatico conduttore, nonostante le violente e infettive che scagliano i miei confronti, del canale umoristico Mark & Friends Channel Show, esilaranti le ultime uscite, io vi invito a guardarle, dico sempre, lo guardate in pochi, guardatelo, perché tra la cartolina Precetto e l'ultima con Carlo Provettoni è da schiantarsi dalle risate. Un secondo intervento, questo sul piano metico ben peggiori di quello del comico Anagnino, è quello dell'autoproclamato esperto balistico di Brescia. Ultimamente risce munitosi. Mi è capitato in questi giorni di leggere un suo recente intervento nel quale ipotizza che la nota pausa di sette anni del mostro tra il 74 e l'81 sarebbe dovuta ad un problema di caricatore dell'arma. Sette anni di inattività per via di un problema tecnico dell'arma da fuoco. Ma questo, ragazzi, soffre di arteriosclerosi precoci, ha veramente bisogno di aiuto a sto poveretto. Comunque, ospite qualche tempo fa sul canale di YouTube che porta il nome di un'emittente radiofonica fiorentina, che in questo momento è un po' la roccaforte di questa controoffensiva ideologica irreazionaria contro chi è portatore di diverse visioni riguardo alla vicenda del mostro di Firenze, l'espertico balistico gresciano se ne è uscito con un'affermazione che definirei vergognosa, come ora vedremo. Comincio a commentare alcune affermazioni, fra le tante un po' adminchiam fatte dal simpatico comico Giananni, che ovviamente fra coloro che, per dar contro alle tesi di questo canale, negano il fenomeno della mostrofobia nella campagna fiorentina, negli anni del mostro. E cosa prende quale esempio dimostrativo di questa bestialità, l'uomo, il nostro uomo del Mark and Friends Channel Show? La zona di Baccaiano nel 1982, ricordando ai suoi follower che c'erano non so quante coppie appartate in quella zona, la notte dell'uccisione di Antonella e Paolo. A proposito, caro, comicissimo amico, leggi bene per cortesia quando trascrivi o chiedi di trascrivere ai tuoi sgherri e burattinai pezzi nei miei video. Quando parlo di preda unica intendo dire in generale la coppia appartata in auto, no? Perché il mostro, quantomeno nella veste di mostro, uccideva solo questo tipo di bersaglio, come dovresti sapere. Non intendevo quindi in quel passaggio che hai letto che c'era solo la coppia Fitorini-Mainardi lungo la via di Virginia Nuova. Come tu hai malcapito leggendo una qualche trascrizione di un mio video. In maniera del tutto disinteressata, credimi, perché mi sei simpatico, ti consiglio di non leggere solo verbali della vicenda e del mostro, ne hai letti pure troppi, ma anche testi di grammatica e sintassi, probabilmente di esercitarti nella tecnica della comprensione di testi, insomma di frequentare una qualche scuola, magari serale, se di giorno non vuoi perché sei al lavoro, perché guarda che ti potrebbe essere alquanto utile anche per parlare con cognizione di causa e soprattutto logica della vicenda del mostro. Ma a parte il mirabolante numero di coppie appartate, la notte tra il 19 e il 20 giugno 82, lungo la via di Virginia Nuova, io ho chiaramente detto nel mio video, ma forse il comico Nagnino e i suoi volatinai hanno problemi di udito, che il mostro attacca nel giugno 82, in quel luogo, cioè in quel tratto della via di Virginia Nuova, perché solo in quel luogo e non altrove, a dipesa di sicuro, ma direi non altrove negli intorni di Firenze, si poteva replicare lo schema dell'81, cioè attacco a colpo sicuro il luogo dove coppie appartate si sarebbero quasi certamente trovate, specialmente in certe serate, perché in quel tratto della via di Virginia Nuova le coppie si sentivano erroneamente purtroppo, al sicuro, non essendo quello un luogo appartato come quelli dove il mostro aveva colpito fino a quel momento. Questo naturalmente fino alla tragica notte del 19 giugno 82, poiché dopo quella data anche quella zona si svuotò. Un esempio quindi che l'ho scelto dal nostro simpatico comico Nagnini e dai suoi burattinai per dimostrare l'indimostrabile, cioè l'inesistenza del fenomeno mostrofobia in quegli anni, che non solo è del tutto inadeguato a smontare la mia tesi, ma al contrario, hanno trovato un esempio pienamente in linea con quanto io vado ripetendo da un pezzo. Poi il nostro simpatico pagliaccione è passato a snocciolare i miei errori sull'episodio della Boschetta, il duplice omicidio Rontini-Stefanacci. Parlavo di quell'episodio nel mio ultimo video, quello precedente a questo, a dimostrazione della capacità di intelligence, che vuol dire informazione del mostro, quanto alla sua prena unica, che vuol dire il bersaglio del mostro di Firenze, cioè la coppia appartata in auto, non una sola coppia, te lo ricordo ancora una volta, caro amico Claudio Nagnini. A dimostrazione ciente la capacità di venire a conoscenza e quindi di intercettare le coppie che smagliarono, appartandosi in certe zone della campagna fiorentina nel tempo dell'allarme sociale massimo, o per sottovalutazione del rischio, e questo è il caso purtroppo dei poveri Claudio e Pia, o per ignoranza del pericolo, è il caso delle coppie straniere uccise negli intorni di San Casciano. Una capacità del mostro questa che emerge con forza proprio nel periodo della mostrofobia. Qual è chiaro esempio di questa notevole capacità di intelligence del mostro? Ho appunto citato nel mio precedente video il triste caso di Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Ho detto che la serata di fine luglio in cui Pia e Claudio vennero uccisi non era molto tempo che i due giovani si appartavano con una certa regolarità a una boschetta. Eppure il mostro, che nei due anni precedenti aveva colpito un'area che rispetto al centro di Firenze era diametralmente opposta a quella di Vicchio, viene comunque a sapere di questo errore di sottovalutazione del pericolo che i due giovani stavano commettendo. Ne ha studiato un po' le abitudini e gli orari e infine purtroppo li ha uccisi. Nella notte fra il 29 e il 30 luglio 1984, come sappiamo, mi ha quindi attaccato per questo mio precedimento il nostro comico amico Anagnino, menzionando la testimonianza di Piero Becherini, dipendente e anche amico di famiglia degli Stefanacci, colui che ha consentito il ritrovamento dei cadaveri dei due giovani all'albare il 30 luglio 1984, alla boschetta. Testimonianza che, secondo il divertentissimo conduttore del Mark and Frank Channel Show, proverebbe che la boschetta era il luogo di appartamento abituale di Pia e Claudio almeno dal 1982. Al contrario, la testimonianza di Piero Becherini non autorizza affatto ad affermare che quando Pia e Claudio furono uccisi, quella piazzola era il luogo di appartamento abituale, addirittura da due anni. Pia, fra l'altro, aveva solo 16 anni nel 1982, come invece ovviamente si è fatto nel canale comico Mark and Frank Channel Show, nel classico stile di quel canale che tira fuori dal suo ampio archivio la cartuccella e poi la spara grossa per cercare di attirare l'attenzione e magari gli sticker di qualche sproveduto, cosa che del resto questo spassuoso canale aveva già fatto con la lettera anonima del Galluzzo di cui torneremo a parlare tra poco in questo video. Nel verbale datato 30 luglio 84, letto dal comico conduttore di Anagni, il Becherini dice di aver visto all'incirca un paio d'anni prima, non ricordando peraltro neppure in quale mese, quindi si presume nell'82, ma di questo non c'è certezza, mentre percorreva la strada tra Dico Mano e Vicchio, Claudio e Pia, nell'auto del Claudio evidentemente, all'altezza del bivio per il boschetto. Però aggiungendo, e qui il Becherini è più preciso, di aver visto l'automobile dello Stefanacci da quelle parti solo in quell'occasione. Al processo o Pacciani o compagni di merenda, lo ricordo meglio, il Becherini sotto giuramento invece non fa menzione del dato temporale, che pure avrebbe avuto la sua importanza, dei due anni prima del 30 luglio 84. Dice a quanto vagamente che quello, cioè la piastola della boschetta, era un luogo dove si sapeva da quelle parti che ogni tanto ci andavano coppie e che ci aveva visto qualche volta anche l'auto dello Stefanacci. Ma, tiene a precisare il Becherini, non nella piazzola, ma su quelle strade, da quelle parti. Questa è la terminologia del Becherini nella sua deposizione giurata al processo Pacciani o compagni di merenda, almeno quella che ho sentito io. Il Becherini dunque, in sede dibattimentale, deponendo sotto giuramento, non fornisce riferimenti temporali e si mostra a quanto prudente, per usare un eufemismo, a identificare nella piastola della boschetta il luogo di appartamento abituale di Pia e Claudio da chissà quanto tempo. Non si può in alcun modo inferire dalla testimonianza del Becherini che la boschetta fosse il luogo di appartamento abituale di Pia e Claudio, addirittura dal 1982, come invece sostenuto, sulla base di questa testimonianza, il simpatico comico di Anagni. Ma io comunque nel mio video oggetto dei suoi strali parlavo del 1984. Sappiamo infatti che nell'82 e nell'83 il mostro aveva avuto il suo bel da fare in luogo diametralmente opposto alla piazzola della boschetta rispetto al centro di Firenze, cioè in Val di Pesa, tra San Casciano e Montespertoli. Considerando questo, osservo che nella fuoga di beccare qualche mirrore o imprecisione, il comico e i suoi burattinai non si sono resi conto, perché questi guidi verbali ce ne hanno, ma ci hanno tanti, ma di cervello poco, che pur di enfatizzare il mio errore, perché ho detto che Pia era stata in Danimarca un mese, hanno in realtà rafforzato la mia tesi circa la capacità assolutamente fuori dall'ordinario del mostro di intercettare il suo bersaglio unico, la coppia appartata e l'uomo relativamente isolato. Visto che in quel tempo di mostrofobia le coppie appartate in autoveicolo negli intorni di Firenze erano diventate rarissime, una capacità che è evidente, cartina tornasole, del fatto che il mostro doveva avere qualcuno nei suoi territori di caccia che lo informava, la sua intelligence sul territorio, e noi sappiamo anche chi costituiva il cuore di questa sua intelligence. Lo sa pure il nostro amico di Anagni. Infatti i burattinai del Mark & Fair Channel Show e il loro burattino di Anagni mi fanno sapere che Pia è stata in Danimarca cinque mesi e non un solo mese, come erroneamente avevo detto io, nel 1984. Bene, sicuramente hanno ragione loro in merito a questo punto, ma vi rendete conto amiche ed amici che Arontini nel 1984, perché io lo ribadisco stavo parlando del 1984, ha purtroppo vissuto per soli sette mesi. Circa cinque dei quali, e non solo uno, mea culpa, trascorso in Danimarca. E non è che Pia, tornata in Italia a metà maggio, ha cominciato il giorno stesso ad appartarsi con lo Stefanacci alla boschetta, credo. Quindi confermo tutto, anzi con molta più forza grazie alla correzione che mi hanno fatto il comico di Anagni e i suoi occulti suggeritori. Quando i due giovani furono trucidati, non era molto tempo, in quel 1984, che frequentavano la boschetta, quale loro luogo di appartamento abituale. E soprattutto dopo che Pia era stata fuori d'Italia per ben cinque mesi, e tenuto conto che molto probabilmente Pia fu per un certo tempo studiata e seguita, anche nelle girate alla boschetta con il suo Claudio, questa coppia fu individuata davvero molto presto dopo che i due ragazzi avevano ripreso ad appartarsi. Una volta che Pia fu rientrata dalla Danimarca, dove, ribadiamolo, era stata nei precedenti cinque mesi e quindi certo non si era potuta appartare abitualmente alla boschetta con il Claudio in quei cinque mesi. Ciò appiena e anzi più forte conferma di una capacità di intelligence, presidio e controllo di certe porzioni di territorio attorno alla città di Firenze, che mostrebbe in misura assolutamente fuori dal comune. Una capacità che io infatti ho evidenziato nella mia analisi di profilazione per capacità o competenze distintive dell'entità a mostro, tra quelle possedute in massimo grado da questo assassino seriale o da questo sudalizio. Ringrazio quindi il simpatico comico Anagnino e chi ne muove i fili, perché continuano loro malgrado a dar forza alle mie tesi. Ma molto più odiosa di quello dello spassosissimo Mark and Friends Channel Show e persino Caro Ignesca, poiché ha addirittura tirato in ballo la madre di una vittima del mostro, una signora che non può rispondere o precisare perché di recente è deceduta. La squallidissima argomentazione dello stolto esperto balistico, ammesso e non concesso che lo sia veramente un esperto balistico, di Brescia, cui consiglio comunque di limitarsi a scrivere e discutere di temi di balistica, non di tematiche dove continua a rimediare figuracce, anche se ultimamente ha trovato una maniera di sparare cazzate anche discutendo gli argomenti balistici e ribadisco quella recentissima pubblicata su Gruppone dove è arrivata a sostendere che la pausa di sette anni nel mostro tra il 74 e l'81 sarebbe dovuta a un guaio o a una posizione scorretta del caricatore della sua arma, un eventuale difetto corregibile in pochissimo tempo, specie da chi abbiamo in mente noi come mostro di Firenze. Fatto sta che il sedicente esperto balistico Bresciano, ospite del canale YouTube Fiorentino cui ho prima fatto accenno, ha inteso anche lui cimentarsi nel ridicolo tentativo di voler negare la mostrofobia, adducendo a riprovare questa assurda tesi, cioè del fatto che la mostrofobia in realtà non esistette negli anni del mostro, che la mamma di Pierontini, la signora Winnie Christensen, la notte in cui via fu trucidata dal mostro, aveva spinto la figliola a uscire con il suo fidanzato. Bene, bisognerebbe che qualcuno ricordasse a questo signore, che evito di definire perché doveva usare parole eccessivamente pesanti, in quanto costui ha chiamato maldestramente a testimone delle sue farlocche tesi una persona non solo deceduta ma anche sventurata madre di una vittima del mostro. Bisognerebbe ricordare a costui che la mostrofobia era la paura di appartarsi con il fidanzato o la fidanzata in un luogo isolato, non la paura di uscire fuori e frequentare persone. Pertanto dire come costui ha avuto la faccia di bronzo di dire sapete perché non è vero che ci fosse la paura del mostro in quegli anni? Perché la mamma di Pia, la signora Christensen, quella sera spinse la figlia ad uscire con il fidanzato. Significa insinuare, dicendo così, che la povera signora Christensen spinse la figlia ad appartarsi in luogo isolato con il fidanzato Claudio e questa è una pura falsità, anzi è un'ignominia. I genitori di Pia avevano ormai da qualche anno paura del mostro, vista l'età della figlia e la sua prolungata frequentazione del Claudio e certo neppure immaginavano che i due ragazzi potessero avere un loro luogo isolato dove si appartavano con una certa frequenza in cui il 1984 sarebbero immediatamente intervenuti mettendo non solo in guardia la figlia del suo fidanzato ma avvertendo anche la famiglia del Claudio qualora fossero venuti a conoscenza di questa circostanza. Pia e Claudio purtroppo sottovalutarono tragicamente il pericolo e furono tra i pochissimi ragazzi a far questo a Vicchio, nel servizio del telegiornale RAI realizzato all'indomani della scoperta dei cadaveri dei due giovani, i loro coetanei e compaesani, uno o due giorni dopo voglio dire, i loro coetanei e compaesani intervistati dal giornalista e ancora sconvolti da quanto era accaduto a Pia e Claudio che ovviamente molti conoscevano a Vicchio, dissero che loro non osavano appartarsi in luoghi isolati, che avevano paura e che bisognava che fosse fermato questo mostro, che erano poi le stesse cose che la stragrande maggioranza dei giovani all'epoca che vivevano a Firenze e dintorni facevano e dicevano. La mamma di Pia disse effettivamente alla figlia che da un po' di tempo vedeva stanchettesa di uscire con il fidanzato Claudio quella sera, ma certo non per appartarsi in auto in un posto come la Boschetta, ma per uscire fuori, per andare per non girato, per andare al cinema, per vedere altri giovani nella piazza del paese, per distrarsi e rilassarsi. Si dovrebbe vergognare il signore di Brescia di averti dato in ballo in questo modo la povera madre di Pierontini solo per cercare di negare ciò che sanno perfettamente tutti coloro che, come il sottoscritto, hanno vissuto da quelle parti e che avevano l'età per appartarsi negli anni del mostro, quindi non il cosiddetto esperto balistico bresciano che in quegli anni nei paraggi di Firenze chissà se ci è mai capitato. C'era invece tanta paura del killer delle coppie a Firenze e dintorni, e non solo a Firenze e dintorni, ma paura di appartarsi, specie di notte, non di uscire fuori luoghi pubblici, ripeto, e questa paura era massima nel 1984. Il tempo dell'allarme sociale massimo, il tempo della mostrofobia, gli anni che vanno dalla fine di ottobre 81 fino a parecchio tempo dopo il settembre 85, furono gli anni delle piazzole deserte e dei controlli sempre più pressanti delle forze dell'ordine che davano la caccia e l'assassino delle coppie. C'è l'unica ragione al mondo perché certi personaggi cerchino di mistificare in maniera così evidente e ruzza la semplice realtà dei fatti, perché questa realtà loro l'avranno ignorata per anni, costruendo di conseguenza, spiace per loro, castelli di cazzate. Ma noi, cari amici ed amici, non ci curiamo di loro, ma guardiamo e passiamo. E andiamo nei nostri temi di questo video, ancora lungo. Gli esiti dell'esercizio di profilazione non criminologica, cioè per capacità o competenze distintive del mostro di Firenze, hanno messo in evidenza diverse abilità di questa entità assassina, che per il numero e il livello delle capacità possedute fu con ogni probabilità un gruppo. Con gruppo intendendosi però non necessariamente più persone attivamente presenti sulle scene dei duplici delitti, ma più persone che a vario titolo potevano e possono o potevano, se decedute, essere ritenute penalmente responsabili per quei duplici delitti. Questa è la definizione di gruppo che noi adottiamo in questo canale. Un gruppo che nella sua configurazione di base, che verosimilmente si raggiunse, come vedremo meglio nel prossimo video, alla vigilia degli anni Ottanta o all'inizio del decennio Ottanta, costava di tre funzioni fondamentali. Chi uccideva? Chi informava chi uccideva? Chi copriva chi uccideva? Con qualcuno della banda che evidentemente poteva assolvere a più di una di queste funzioni. Questa fu l'entità plurima, la banda responsabile della serie omicidiaria avvenuta tra il giugno dell'Ottantuno e il settembre dell'Ottantacinio. Alcune di queste capacità che questa entità plurima sodalizia ha mostrato di possedere specialmente nel tempo della mostrofobia, ed ecco perché chi cerca di smontare la mia ricostruzione del caso cerca di negare l'evidenza, come abbiamo visto, cerca cioè di negare questo tempo di allarme sociale massimo e di paura sia mai esistito. Invece in questo tempo della mostrofobia sono risultate alcune, diciamo che abbiamo individuate alcune capacità altamente profilanti. Capacità cioè che sono risultate, come dire, che sono capacità di cui pochi soggetti potevano essere in possesso. In larga misura coincidenti queste capacità con le competenze che tipicamente avevano in quegli anni, in quanto c'erano stati addestrati, appartenenti o ex appartenenti a corpi investigativi o svolgenti anche funzioni investigative collegati, eventualmente anche di appartenenza, con il mondo dei servizi segreti. Soggetti questi che sappiamo che furono particolarmente addestrati alle difficili tecniche della deception, quali penetration o infiltrazione in ambienti target per finalità di recruiting, mix minaccia e compartimentazione, staging delle scene del crimine e depistaggio attivo delle indagini, tecniche che troviamo descritte in documentazione di grande importanza storica prodotta da servizi segreti occidentali dell'epoca della guerra fredda. Non a caso noi in questi nostri video di questa serie Leviamo la maschera al mostro di Firenze ci siamo dilungati ad esaminare documenti importanti, targati CIA e SIFAR e abbiamo anche dato diversi riferimenti bibliografici in ordine alle strutture che furono create a partire dall'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso per condurre nel nostro paese un particolare tipo di operazione coperta o camuffata, sempre utilizzando il gergo dei servizi segreti, nota con il termine giornalistico di strategia dell'attenzione e alle tecniche cui gli agenti di queste strutture furono intensamente addestrati. Anche a queste tecniche abbiamo dedicato del tempo per approfondirle nei nostri video. Ebbene abbiamo dimostrato come alcune di queste tecniche furono impiegate e con sorprendente maestria dal sodalizio mostro di Firenze. Questo ha consentito di tracciare un profilo non psicologico ma tecnico professionale nel mostro o credendo noi che l'entità mostro fu un'entità plurima e non singolare di almeno qualcuno del ristretto nucleo storico o fondatore, il nucleo assassino e non mandante, del sodalizio passato alla storia criminale del nostro paese con l'appellativo, anche questo giornalistico, di mostro di Firenze. Sappiamo infatti, abbiamo più volte dimostrato in questa nostra serie di video, sempre sulla base dei documenti e testimonianze dell'epoca, che gli agenti o case officers, e questo utilizzando ancora una volta il gergo CIA, che poi era il gergo dei servizi segreti d'Occidente in epoca di guerra fredda, dell'operazione camuffata campfledged, guerra psicologica o non ortodossa. La strategia, cioè che il comando sovranazionale del blocco occidentale a guida USA, Gran Bretagna in guerra fredda, decise di applicare in Italia per stabilizzare il nostro paese all'interno di questo blocco occidentale. Questi agenti o case officers furono intensamente addestrati a queste tecniche della deception, in particolare quando? Negli anni Sessanta, soprattutto, del secolo scorso, e in basi USA nato, godenti del principio della extraterritorialità. E una scuola particolarmente importante per questo speciale tipo di addestramento, fu la base USA di Camderby a Tirregna di Pisa. E sappiamo altresì che questi agenti erano stati reclutati all'acme della guerra fredda, a cavallo cioè dei decenni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Documenti di Sifar ci dicono che, quantomeno in Italia, questa iniziale azione di reclutamento dei case officers di guerra non ortodossa, che poi dopo un intenso periodo di addestramento, una volta dislocati sul territorio, avrebbero avviato le operazioni di penetration e recruiting finalizzate a costituire i nuclei di territoriale di guerra non ortodossa. Quindi questa prima ondata di reclutamenti avvenne a partire dal 58-59, un grosso modo, 1958-1959. Questo dato ci consente di determinare una probabile fascia di età dell'assassino o, questa è la nostra tesi, di almeno qualcuno del vertice assassino e non mandante, il nucleo storico primigenio del sodalizio mosto di Firenze. Perché sappiamo che l'età tipica degli agenti o case officers di guerra non ortodossa, reclutati per lo più tra il 59 e il 65, era intorno ai 30 anni e quindi molti di questi agenti erano individui nati nella prima parte degli anni 30 del Novecento. Siamo dunque alla ricerca all'interno della vicenda del mostro di Firenze di qualcuno, uno o più di uno, con il seguente profilo tecnico-professionale, appartenente o ex appartenente, a un corpo con funzioni investigative e forti legami con il mondo dei servizi di intelligence, più probabilmente servizi di intelligence militari, verosimilmente addestrato alle tecniche della deception, molto probabilmente nato nella prima metà degli anni 30 del secolo scorso. Questo è secondo noi il profilo, un identikit tecnico-professionale arricchito anche da un dato anagrafico, come si è detto, del mostro di Firenze. Ovvero, se si crede come noi crediamo che il mostro fosse in realtà un sodalizio banda, ma nell'accezione di cui abbiamo prima detto, è il profilo di almeno qualcuno del ristretto nucleo di vertice, un nucleo primigenio di vertice assassino e non mandante di questo sodalizio criminale. Sempre sulla scorta di documentazione estremamente importante dal punto di vista storico, abbiamo visto che una struttura o un nucleo di guerra non ortodossa di questo tipo, il livello più occulto, nascosto secondo un meccanismo a scatola cinese all'interno di una struttura territoriale stay behind, fu attivamente presente in Toscana, con base e soprattutto testa in provincia di Firenze. Esattamente negli anni del mostro, compresso che identico spam temporale di attività e che gli uomini del livello alto di questa struttura, evidentemente segreta, il quartier generale della struttura territoriale toscana di guerra psicologica o non ortodossa, gravitavano attorno al centro di contospionaggio del servizio di intelligenza militare fiorentino, ubicato presso il comando dei carabinieri di Borgogni Santi e comandato per vent'anni dal colonnello dei carabinieri Federico Manucci, ben in casa. L'uomo chiave dell'ala militare, della rete che fu dietro la strategia della tensione in Italia, colui che prima strutturò e organizzò dal centro di contospionaggio del SID di Padova il nucleo di guerra non ortodossa Vento, che entrò in azione alla fine del 69. Poi nel 71 il Manucci ben in casa si trasferì a Firenze, presso il locale centro di contospionaggio del SID, per preparare il terreno al nucleo di guerra non ortodossa Toscana, che prese il testimone da quello veneto, uscendo dalla condizione di sonno nel 74, 1974. La fonte primaria di quanto ho appena detto, e in particolare delle location geografiche dei nuclei di guerra non ortodossa operativi in Italia, quelli a vocazione bellica come si dice, a partire dalla fine degli anni 60, sono gli atti della fondamentale indagine istruita a Padova dal giudice Giovanni Tamburino, indagine denominata Rosa dei Venti. Testimonianze e documenti di grande importanza storica, di cui più volte abbiamo dato lettura nei nostri video, ci dicono che all'interno di una formazione territoriale di guerra non ortodossa di questo tipo, un'unità o un nucleo a composizione mista, fatta cioè da militari e civili selezionati in loco dagli agenti case officers, di cui abbiamo prima detto, sul modello delle formazioni francesi dell'Organizzazione dell'Armese CRE, l'OAS, che operarono negli ultimi anni della guerra di Algeria. E un'importante unità di questo tipo, lo voglio ribadire, fu presente in Toscana, con testa, oltre che in basi in provincia di Firenze, esattamente negli anni del mostro. Ebbene, la probabilità di imbattersi in unità di questo tipo, in soggetti con caratteristiche di potenziale o effettivo assassino seriale, era n volte più grande della probabilità di imbattersi in soggetti di questo tipo nella realtà di tutti i giorni. Diverse sono le fonti di questa davvero molto importante circostanza che io ricordo sempre, no, a voi, c'era una unità a Firenze, la cui attività coincide temporalmente, con lo stesso spanno temporale, con quella del mostro di Firenze. E in questa realtà era la probabilità di imbattersi in soggetti potenziali o effettivi serial killer, era n volte la probabilità di imbattersi in soggetti del genere nella realtà, nella vita normale. E qui ci sono delle fonti documentali molto importanti che abbiamo letto, no? Ricordo in particolare ciò che ebbe a dire un testimone privilegiato del periodo clou della Guerra Fredda, il capitano OSS e poi CIA, OSS è l'organizzazione che precede la CIA, no? Il capitano Peter Tompkins, particolarmente attivo in Italia nel periodo tra la fine degli anni 50 e i primi 60 del Novecento, il periodo in cui si avviò la costituzione di queste unità combattenti clandestine, nonché documenti risalenti ai primi anni 60 del servizio segreto italiano dell'epoca, il SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, e del CASM, Centro Alti Studi Militari. Quest'ultima importante istituzione di fatto è una nazione del SIFAR e in particolare dell'unità speciale di guerra non ortodossa che era stata appositamente creata all'interno del SIFAR. Ebbene, questi documenti che risalgono tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, lo dicono chiaro quali furono i criteri di reclutamento di queste strutture e mettevano in guardia questi documenti dicendo occhio perché dati questi criteri di reclutamento queste strutture potrebbero andare fuori controllo o almeno alcuni soggetti di queste strutture. con gravi danni irreparabili, dice proprio il documento del CASM del 63, per le popolazioni civili residenti nelle zone di insediamento di queste strutture. Detta in altri e più diretti termini, in queste peculiarissime strutture di guerra occulta, non ortodossa, non era improbabile, anzi era probabile che più potenziali o effettivi serial killer potessero incontrarsi e interagire. Evento invece a probabilità molto bassa, quasi nulla, in ambienti normali. Tuttavia, anche se tutte le corrispondenze che abbiamo trovato, e sono tante pesanti queste corrispondenze. Ci indicano che è necessario, ma direi obbligatorio, andare a guardare all'interno dell'ambiente nucleo di guerra in ortodossa toscano, il cui quartier generale era dentro Borgogni-Santi. Oltre alle corrispondenze cui abbiamo ora solo accennato e di cui abbiamo proprio volte parlato nei nostri video, cito ancora una volta il fatto oggettivo che il mostro sparì di scena quando il pallino delle indagini e del coordinamento dell'attività antimostro sul territorio è passato da Borgogni-Santi all'unità Interforze SAM, diretta da funzionari della Polizia di Stato. Nel nostro precedente video abbiamo concluso che stava a noi però trovare l'elemento di raccoglio, un elemento fattuale nei labirinti della vicenda del mostro di Firenze, idoneo a confermare, cioè a sostanzialmente provare, quantomeno da un punto di vista storico, la correttezza di questo profilo identikit che abbiamo tracciato nel nostro canale. Ripeto, un identikit non psicologico, non somatico ma tecnico e professionale, per intenderci, il lavoro che faceva il mostro o qualcuno della testa assassina e non mandante di questo sodalizio. Abbiamo infatti sottolineato nel nostro ultimo video che se non vi fosse o non fossimo noi in grado di trovare almeno un elemento fattuale di rilievo all'interno della vicenda del mostro di Firenze che possa provare o riscontrare la correttezza di questo profilo tecnico-professionale che abbiamo tracciato per il cosiddetto mostro e che abbiamo ottenuto semplicemente analizzando le capacità o competenze distintive di questa entità assassina, anche i pure evidenti parallelismi e comunanze fra le due micidiali realtà che è storicamente accertato che coesistette la Firenze nel medesimo tempo e con identico span temporale di attività, incluso alla pausa post 1974 e fino all'alba del decennio successivo, e cioè la realtà del nucleo toscano di guerra psicologica non convenzionale e la realtà del mostro di Firenze, resterebbero questi parallelismi e comunanze una vera ipotesi, una suggestione, ancorché tutt'altro che infondata secondo noi, evidentemente, ma pur sempre una suggestione. Ebbene, la sequenza di eventi dell'estate del 1982 più precisamente è la prova del 9 che dimostra definitivamente che il profilo che anche in questo video, così come nei nostri precedenti video, abbiamo tracciato per almeno qualcuno del nucleo primigenio o fondatore del gruppo, la banda che poi diverrà celebre con l'appellativo giornalistico di mostro di Firenze, è il profilo corretto, è il profilo tecnico-professionale del mostro di Firenze, è il mestiere del vero mostro di Firenze. La sequenza di eventi dell'estate del 1982 è in particolare un decisivo passaggio all'interno di quella sequenza di eventi che ora noi proveremo, perché noi ora abbiamo l'ora di provarlo, per dimostrare che il nostro profilo è corretto. Noi proveremo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questa sequenza di eventi avvenne delle modalità che in questo video ora andiamo a descrivere. E questo è inequivocabile cartina tornasole del fatto che effettivamente il nucleo territoriale di guerra molto rossa a Toscano, le cui principali basi operative furono a Firenze e dintorni, fu l'ambiente che ha prodotto, quasi per gemmazione, il fenomeno mostro di Firenze e dove pertanto dobbiamo cercare il vero mostro. Colui che per noi che crediamo che l'entità mostro fosse entità plurima è il mostro numero uno. A un mese dall'aggressione, dalla coambolesca aggressione di Baccaiano e dall'errore commesso dal killer nell'occasione, cioè il killer aveva abbandonato una scena del crimine lasciando dietro di sé una delle sue vittime ancora in vita, un unicum nella storia del mostro, perché questo errore l'assassino sparatore non l'aveva mai commesso e non lo commetterà mai più nella sua storia. Avvenne dopo questo unicum un altro unicum, un unicum questo nella storia dell'indagine sul mostro. Si aprì cioè in maniera del tutto in attesa e improvvisa una nuova pista investigativa, che in quel momento sembrò la svolta decisiva, la gognata risoluzione del terribile caso del mostro di Firenze, che tanto assillava gli inquirenti, che cercavano esperatamente di fermare questo ospitato e sanguinario se era il killer e ai quali un'intera collettività, la collettività che viveva in provincia di Firenze, chiedeva a gran voce di fermare lo spaventoso assassino che spezzava giovani vite, le vite dei figli, dei fratelli e della gente che viveva nei rintorni di Firenze. A circa un mese dall'aggressione di Baccaiano, dall'errore del mostro che per la prima è rimasta unica volta aveva abbandonato la scena del crimine, lasciando dietro di sé una delle sue vittime ancora in vita e dal conseguente blef della PM Silvia e della Monica si aprì la cosiddetta pista santa. Dimostreremo ora che l'apertura di questa pista investigativa, proprio in quel frangente, fu un deliberato ed epistaggio. E non può che adottarsi tale definizione, altro che impistaggio, atteso che nell'estate 82 il regolato corso dell'indagine sul mostro fu deviato su una falsa pista investigativa che allontanò gli inquirenti dalla possibilità di fermare il killer delle coppie. Ma la cui finalità primaria non fu deviare il corso dell'indagine sul mostro su una falsa pista investigativa. E qui, in questo apparente gioco di parole, sta una delle maggiori difficoltà a comprendere cosa realmente accadde in quell'estate di 41 anni fa. Ma la vera finalità fu quella di andare a vedere se e quali assi, quali carte, avesse in mano la procura fiorentina, in seguito all'errore potenzialmente molto grave, questa era almeno la percezione dell'assassino e di chi lo proteggeva. E noi oggi non sappiamo, possiamo solo immaginare perché era ritenuto così grave questo errore, commesso dal killer di Baccaiano, in quell'estate dell'82. Quindi se volete andare a vedere quali erano le eventuali conseguenze dell'errore che aveva fatto il killer di Baccaiano. In quell'estate dell'82, a un mese circa dalla noma l'aggressione del mostro di Baccaiano, come si è detto, svoltasi il luogo in quanto diverso da quelli all'epoca noti dove il mostro aveva sin a quel momento colpito, e con dinamica che rende quell'aggressione un unicum nella storia del mostro di Firenze, l'indagine su questo assassino seriale, più precisamente la procura di Firenze che quell'indagine stava conducendo, e all'interno della procura di Firenze i magistrati, che in quell'estate del 1982 si occupavano del caso del mostro, quindi i sostituti Adolfo Izzo e Silvia della Monica, e il giudice istruttore Vincenzo Tricomi, si concentrò improvvisamente e inaspettatamente su un caso di duplice delitto passionale o d'onore. All'epoca un caso chiuso da poco meno di dieci anni, con sentenza definitiva di Cassazione, che era avvenuto 14 anni prima, nell'agosto del 68 nella frazione di Castelletti del comune di Silvia, cioè l'uccisione ad opera del marito della vittima femminile di una coppia di amanti, tecnicamente clandestini, in quanto entrambi sposati con prole, ma la cui relazione era nota a tutti, quantomeno a tutti quelli del loro ambiente, tanto che la vittima femminile, Barbara Locci, la sera del delitto, il 21 agosto del 68, uscì tranquillamente con l'amante per andare al cinema, portandosi dietro il suo bimbo di sei anni, come se fossero stati una serena famiglia. Bene, tutto a un tratto, nel luglio dell'82, dopo una perizia balistica eseguita su certi reperti, apparentemente riconducibili a questo duplice delitto del 68, fortunosamente ritrovati nel tribunale di Firenze, quindi 14 anni dopo il duplice delitto di Castelletti di Signa, i magistrati incaricati dell'indagine sul killer delle coppie, attorno a Firenze, giunsero alla conclusione che quel fatto di sangue passato e aggiudicato come diritto d'onore era in realtà da collegarsi alla serie omicidiaria sino a quel momento nota dell'assassino delle coppie, chiamato mostro di Firenze, pervenendo alla conclusione che il suo duplice omicidio, commesso dal 68 ai danni di una coppia appartata in auto, dovesse essere considerato il probabile esordio del mostro di Firenze. Si aprì così la pista investigativa nota come pista sarda, poiché quel duplice delitto di 14 anni prima era presumibilmente maturato in ambiente di immigrati sardi, e infatti di origine sarda erano quasi tutti i soggetti che finirono poi indagati, quali sospetti mostri, quasi tutti, solo Mucciarini, era il toscano, era il cognato del nero. In questo e nel prossimo video, questo e nel prossimo video, dimostreremo come andarono effettivamente le cose nel luglio-agosto dell'82, cioè come si aprì e chi aprì questa pista investigativa sarda, e questo lo faremo in questo video, e alla luce degli avvenimenti dell'estate del 1982, finalmente correttamente interpretati, vi dimostreremo, e questo lo faremo nel prossimo video, come si ottenga finalmente un quadro razionale degli avvenimenti del 68, radicalmente diverso, sia da quello scaturito dalla verità giudiziaria, delitto d'onore commesso da marito più ricorduto in cerca di deparazione del proprio onore, sia dalla reinterpretazione di quel fatto di sangue da parte degli inquirenti del caso del mostro nell'82, primo duplice delitto del mostro di Firenze. Dimostreremo, cioè in questo video e nel successivo, che il duplice delitto di Castelletti di Signia fu sotto l'abili regia della medesima persona, magistralmente camuffato per due volte, una prima volta nel 68 da delitto d'onore commesso dal marito della vittima femminile, una seconda volta nel 1982 da primo delitto del mostro di Firenze. Le conclusioni che trarremo cambiano piuttosto radicalmente la prospettiva con cui si è guardato da quasi mezzo secolo a questa parte, alla vicenda del mostro di Firenze. Dimostreremo in particolare che questo collegamento del duplice omicidio di Castelletti di Signia con i delitti del cosiddetto mostro di Firenze fu un depistaggio nell'accezione del termine che abbiamo prima precisato, poiché la genesi, i moventi, i personaggi che rimassero coinvolti nell'indagine su quel fatto di sangue e che una quindicina di anni dopo finiranno nel milino dei magistrati incaricati nell'indagine sul mostro di Firenze, nulla avevano a che vedere con la vicenda del killer delle coppie, ma che, nonostante questo, quel duplice delitto avvenuto a Castelletti di Signia ha un forte collegamento con i delitti del mostro, ma del tutto diverso da quello cui sino ad oggi si è creduto. Figure insospettabili e mai sospettate che ebbero un ruolo dannatamente attivo in quel fatto di sangue del 68 e che ritroviamo anni dopo quali personaggi coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze, individui ovviamente mai entrati come inquisiti nell'indagine sul caso di Castelletti di Signia e anzi qualcuno di loro protagonista di queste indagini, rappresentano il vero collegamento fra il duplice delitto dei Castelletti di Signia e i delitti del mostro di Firenze. Assai più che l'arma e le cartucce utilizzate in questi omicidi ai danni di coppia. Divorceremo, e questo lo faremo nel prossimo video, che è tempo perso. Fatica sprecata a spremersi le meningi intorno all'oggi ormai risolvibile questione se l'arma sia sempre stata la stessa in 8 o 7 duplici omicidi, se ci sia stato o meno il passaggio di mano di quest'arma e così via. Sono come sempre gli individui, le persone, non le cose, ciò che dobbiamo seguire e studiare, perché le cose non hanno vita propria, non prendono decisioni, ma fanno ciò che le persone, gli esseri umani, fanno far loro. E dimostreremo in questo video, lo abbiamo appena detto, che l'obiettivo primario di questo depistaggio non fu tanto lo sviamento e conseguente impantanamento dell'indagine sul mostro. Questo fu l'obiettivo secondario della clamorosa e magistrale operazione di lì depistaggio che fu concepita e messa a terra in una ventina di giorni, più o meno, non di più, tra la fine di giugno e la metà di luglio del 1982. Ma fu quello di scoprire se e quali carte avesse eventualmente in mano la procura di Firenze in seguito all'errore commesso a Baccaiano dal killer delle coppie, il quale aveva abbandonato quella scena del crimine lasciandosi dietro, prima e unica volta nella sua terribile storia, una delle sue vittime ancora in vita. Fu un po', come dire, vedo al gioco del poker per smascherare il blef di un avversario. Questo fu il depistaggio della pista santa. Dimostreremo in questo video che questo depistaggio fu materialmente messo in atto. Sottolineo materialmente, ma vedremo anche su ordine di chi, con ogni probabilità. da uomini del nucleo investigativo di Borgogni Santi, guidati da colui che nel 1982 era a capo di quel nucleo investigativo e che 14 anni prima aveva condotto in prima persona l'indagine sul campo sul caso di Castelletti di Sini, caso in merito al quale egli disponeva, sin dal 1968, di ogni documentazione utile, compresa naturalmente la perizia eseguita da covonello Zuntini sui reperti balistici raccolti e repertati lungo l'argine del vingone a Castelletti di Sini. Lo stesso ufficiale, che solo un poco più di un paio di mesi prima del fatto di sangue di Castelletti di Sini, aveva indagato con successo, risolvendolo in breve tempo, sul cosiddetto fattaccio del galluzzo. Un banale episodio di cloraca nera che niente ha a che vedere né con il duplice delitto di Castelletti di Sini, né tantomeno con i successivi delitti del mostro di Firenze, ma che il noto canale comico Mark & Friends Channel Show ci obbliga ad approfondire, poiché, come ormai ampiamente noto, questo divertente canale, ormai un paio di anni or sono, ha inteso di dar fuori dal cassetto, cioè dal fascicolo PM, del PM rubricato Montespertoli, dove questo anonimo del galluzzo dormiva pacificamente da quasi 40 anni, questa alquanto delirante, nonché priva di qualsivoglia valore investigativo, lettera anonima, nota appunto come lettera del fattaccio del galluzzo, almeno scopo di sollevare il fumo sulla realtà invece semplice e lineare degli accadimenti, attribuendo a questa lettera anonima, come in questo video torneremo inoppugnabilmente a dimostrare, una del tutto inappropriata e di fatto depistante funzione nella vicenda dell'apertura della pista sarda. Ma ci torniamo tra poco su questo punto. Dimostreremo una volta di più, sempre in questo video, che è l'evidente realtà che sta di fronte a tutti noi che abbiamo occhi per vedere. Il classico elefante nella stanza non è quella fantasiosa infondata, in alcuni casi costruita d'arte da chi vuole a tutti i costi convincerci che l'apertura della pista sarda fu banalmente dovuta a casuali ricordi di un qualche sotto ufficiale dell'arma del nucleo investigativo di Borgogni Santi e che, se oggi ci sono dubbi, questi ci devono al più a sfortunate coincidenze, a cattiva comunicazione o a equivoci in sorti fra magistrati che in 1982 erano incaricati dell'indagine sull'assassino delle coppie. La realtà di cui forniremo ora prova è diversa. Proveremo che si raccontarono bugie ai magistrati incaricati dell'indagine sul mostro e si dissero bugie in maniera diretta non mediata al malleabile giudice e istruttore Vincenzo Tricomi in particolare. Questo è un fatto molto importante su cui ci trondeamo. Proveremo in questo video che almeno due dei magistrati fiorentini incaricati dell'indagine sull'assassino delle coppie cioè il pubblico ministero Silvia della Monica e il giudice e istruttore Vincenzo Tricomi ma è del tutto verosimile e ragionevole di ritenere che anche Adolfo Izzo sapesse questo erano a conoscenza cioè ritenevano a partire da una certa non nota data del mese di luglio 82 ma verosimilmente ricompresa nella prima quindicina di quel mese che è raggiunta in procura e quindi era stata letta a Borgogni Santi come una procedura concordata una lettera o un biglietto anonimo segnalante che il primo di pertanto 5 e non 4 duplici delitti del cosiddetto mostro di Firenze era il duplice delitto di Castelletti di Signa dell'agosto 68 l'omicidio l'orcillo bianco un caso che questa come vedremo fantomatica lettera anonima suggeriva agli inquirenti di riprendere in esame dimostreremo che questo sapevano cioè fate attenzione al termine che uso amiche ed amici avevano in mente la PM mesiva della Monica e il giudice istruttore Vincenzo Tricomi quando citarono l'importanza di una lettera anonima nelle loro comunicazioni scritte erano richieste formali per la precisione dopo ne daremo lettura rispettivamente del 20 agosto 82 a Borgogni Santi la della Monica e addirittura del 29 ottobre del 1982 al tribunale di Palermo il Tricomi il giudice istruttore menziona dunque una lettera anonima riguardante il duplice comisidio l'occilo bianco esatte parole del Tricomi in questa sua richiesta scritta a quasi tre mesi dall'apertura della pista sarda e a due mesi dalla richiesta avanzata dalla collega della Monica Borgogni Santi e dalla lettera di risposta di Borgogni Santi del 24 agosto sia a questa richiesta della Monica del 20 agosto sia la lettera della procura del precedente 2 luglio questa lettera anonima di cui i due magistrati scrivono in queste loro note del 20 agosto del 29 ottobre 1982 era una lettera anonima secondo questi magistrati che parlava del caso di Castelletti di Signia e non certo del fattaccio del Galluzzo semplicemente perché questi due magistrati hanno scritto a chiare lettere che si trattava di una lettera anonima che segnalava il duplice delitto di Castelletti di Signia le leggiamo dopo queste comunicazioni ma a volte i cosiddetti mostrologi riescono a mettere in dubbio anche ciò che è scritto nero su bianco pur di difendere i loro orticelli ed era dunque questa segnalazione anonima sul caso di Signia l'anonimo che a far tempo dal 20 luglio 82 più o meno la PM Silvia della Monica aveva più volte a più riprese verbalmente richiesto senza peraltro alcun esito al nucleo investigativo di Borgogni Santi volendo la PM rientrarne al più presto in possesso perché ed è la stessa della Monica scriverlo bisognava capire chi potesse essere l'autore di quello scritto anonimo in quanto aveva verosimilmente persone a conoscenza dell'identità dell'assassino in sostanza che aveva scritto della lettera anonima di cui le aveva parlato il giudice sottore Tricomi come vedremo imbeccato dal dell'amico e dal suo sottoposto maresciallo Fiori era secondora della Monica o il mostro o uno vicino al mostro per questo motivo la PM voleva che Borgogni Santi le restituisse senza indugio quello scritto anonimo che la procura aveva smistato insieme con altre segnalazioni giunte nel post Baccaiano verso il comando di Borgogni Santi per l'esame preliminare della funzione di polizia giudiziaria quando il 2 luglio precedente la PM rivolgeva subito indietro questa segnalazione poiché ella riteneva visti i clamorosi sviluppi impressi all'indagine dal nucleo investigativo di Borgogni Santi a lei e al collega Izzo peraltro sempre tempestivamente riferiti ma dal giudice sottore Tricomi e non direttamente da Borgogni Santi che questo anonimo avesse un grande valore investigativo questo riteneva la della Monica in quanto su input di questa segnalazione aveva visto cosa era successo si era andato alla ricerca di un fascicolo processuale il processo allo Stefano Mele nel quale si erano ritrovati i reperti balistici che sottoposti subito a perizia erano risultati esposi all'arma del mostro di Firenze questa era la ragione dell'attribuzione al mostro o a qualcuno vicino al mostro da parte della PM della paternità di questa lettera anonima e per questo motivo la PM voleva indagare su chi potesse aver scritto e inviato questa lettera il ragionamento di Silvia della Monica era come torneremo a sottolineare in questo video più che corretto scusate era più che corretto perché era più che corretto perché era successo quello che era successo si erano trovati grazie a questa lettera anonima secondo quanto l'aveva detto il Tricomi questi reperti balistici che erano reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro ma la PM in quel momento cioè il 20 agosto dell'82 non sapeva che questa lettera anonima che lei aveva in mente aveva che lei che lei aveva in mente ripeto per via di ciò che l'aveva detto così scrive la della Monica il 20 agosto il giudice il sottore Vincenzo Tricomi a seguito dei colloqui che lo stesso giudice istruttore aveva avuto con dell'amico e sottoposto dell'amico Fiori questa lettera anonima in realtà non esisteva questo che non sapeva il 20 agosto della Monica anzi lei riteneva il 20 agosto che esistesse questa lettera anonima non è mai stata trovata in atti una lettera anonima scritta cioè da un ignoto informatore esterno all'ambiente di indagine che parlasse del caso di Castelletti di Signia una lettera del genere in realtà non risulta essere mai arrivata quantomeno per vie postali né in procura né altrimenti era una richiesta precisa e direi pesante quella rivolta da Signia della Monica a Borgogni Santi il 20 agosto 82 anche perché come si è detto la PM precisava in quella sua richiesta scritta le ragioni per cui ella voleva rientrare subito in possesso di questo scritto anonimo richiesta alla quale però Borgogni Santi come ora vediamo in maggior dettaglio stranamente non dette mai una vera puntuale risposta perché la nota del 24 agosto del nucleo investigativo di quel comando successiva di solo quattro giorni alla precisa e inequivocabile richiesta scritta di una particolare lettera anonima avanzata dalla PM il 20 di agosto a questa richiesta la risposta di Borgogni Santi il 24 agosto non dà alcuna a questa richiesta la nota del 24 agosto di Borgogni Santi pur riportando nei suoi riferimenti in calce sia la lettera della procura sia la richiesta della Monica del 20 agosto che la lettera della procura del precedente 2 luglio ma non chiarisce non dà una risposta alla richiesta della Monica del 20 agosto e men che meno chiarisce sempre questa nota di Borgogni Santi il 24 agosto l'eventuale equivoco che si fosse creato il 24 di agosto perché niente parla più chiaro dei meri fatti non ci fu alcuna lettera o un biglietto scritto da un anonimo cittadino esterno a Borgogni Santi che richiamava l'attenzione sul caso ci fu invece un contatto iniziale una segnalazione fatta a voce per le vie brevi è il termine burocratico da uomini di Borgogni Santi segnatamente dal tenente colonnello Lindo dell'Amico e dal suo sottoposto maresciallo Francesco Fiori al giudice sottore Vincenzo Tricomi in un imprecisato giorno della prima quindicina luglio 82 comunque prima del 17 luglio 82 data in cui Tricomi fa partire la richiesta formale che agli atti al tribunale di Perugia questo contatto iniziale fra Borgogni Santi legasi dell'Amico e del suo subordinato Fiori e il giudice istruttore incaricato dell'indagine sul mostro il quale prima di questo contatto iniziale con gli uomini di Borgogni Santi del duplice delitto dei castelletti di Signa non aveva mai neppure sentito parlare è il momento cruciale che innesca la sequenza di eventi che nel giro di due settimane o poco più porterà l'apertura ufficiale della pista sarda dimostreremo infatti in questo video che si contattò e sappiamo chi contattò il giudice istruttore Vincenzo Tricomi per fargli acquisire un fascicolo processuale nel quale erano stati immessi reperti balistici esplosi dall'arma con cui in quel momento nel 1982 il mostro di Firenze stava uccidendo giovani coppie intorno a Firenze e che pertanto una volta che gli inquirenti acquisirono gli esiti della perizia cui questi reperti furono subito sottoposti consentirono l'apertura della nuova pista investigativa ecco dunque quello che la faremo amiche e amici dimostreremo al di là di ogni ragionevole dubbio che i fatti andarono come si è sin qui detto facciamo ora con ciò cambiando radicalmente la prospettiva con cui si è guardato da circa mezzo secolo a questa parte la vicenda del mostro di Firenze potrebbe apparire naturale che chi nel 82 si ricorda del dubbio omicidio di Castelletti di Signa caso che l'ho mai chiuso con una sentenza definitiva da una decina d'anni abbiamo detto sia lo stesso che aveva indagato in prima persona su quel caso nel 68 in quell'occasione portando non senza sforzo dopo vari tentennamenti il marito della vittima femminile ad ammettere la propria esclusiva responsabilità dell'uccisione della propria moglie di lei amante marito che sarà poi processato e condannato quale colpevole di un delitto passionale o d'onore ma c'è un'anomalia il classico elefante nella stanza che non si riesce o non si vuole a vedere tant'è grosso l'evidente anomalia è che dell'amico scusate l'evidente anomalia è che dell'amico non se ne sia ricordato mai prima di quel momento del duplice delitto di Castelletti di Signa sin dal duplice omicidio del 74 avvenuto solo sei anni dopo il fatto di sangue di Castelletti e a meno di un anno dalla sentenza di Cassazione che aveva condannato definitivamente Stefano Meri una grande anomalia in effetti considerata la stessa vittimologia coppia in auto dell'episodio del 74 lo stesso tipo di arma con munizionamento analogo fra l'altro nel 74 il munizionamento identico che era nel 68 cioè proiettili winch SSRH calibro 22 a palla ramata arma che come nell'episodio del 68 non si era trovata tanto più che fatto ovviamente ben noto a un libro dell'amico che sul caso di Castelletti di Signa aveva condotto in prima persona l'indagine di polizia giudiziaria nel caso del 68 c'era una serie di soggetti sui quali c'era più di un semplice sospetto che fossero stati presenti sulla scena del crimine di Castelletti di Signa e che quantomeno avessero aiutato l'imbelle Mele che mai aveva veramente preso un'arma in mano in vita sua tanto meno per uccidere a eseguire per duplice omicidio del quale Mele il dell'amico aveva potuto ampiamente constatare anche durante l'indagine del 68 la personalità succube al limite del subnormale il Mele era un oligofrenico conclamato oltre che l'evidente sua incapacità rendersi protagonista di un'azione omicida così fredda rapida ed efficace come quella dei Castelletti di Signa ma c'era anche l'assenza al di là delle apparenze su cui si è giocato per presentare l'improbabile oligofrenico Mele alla procura come unico responsabile di un belitto d'onore di un vero movente ci torniamo ovviamente su questo punto nel prossimo video specialmente ma dico ora potevano essere le corna della moglie il movente di un omicidio di tale portata per uno che era da anni abituatissimo alle relazioni extraconiugali della consorte insomma un complesso di circostanze che rende altamente improbabile che in ben 14 anni e 4 duplici omicidi ai danni di coppia commessi intorno a Firenze con arma calibro 22 munizionata con proiettili Winchester e serie H al capitano poi tenente coloniello Lito dell'Amico non sia mai venuto in mente il duplice delitto dei Castelletti di Signa e che qualcun altro abbia dovuto ricordarglielo nell'82 ma su chi sia questo qualcun altro oggi a 41 anni da quell'estate dell'82 pare incredibile a dirlo ma la realtà è proprio questa c'è buio fumo forse una lettera anonima di un cittadino amico di cui ci sono perse le tracce forse una lettera anonima che si dice essere stata equivocata dai magistrati che indagavano sul caso del mostro tirata fuori da un canale youtube a quasi 40 anni in distanza dai fatti dell'82 forse la diminescenza improvvisa di un maresciallo dei Carabinieri mentre chiacchierava con un collega che però forse non era neppure in forza al comando di Signa questo maresciallo dei Carabinieri stando ad alcune recenti indagini dell'avvocato Vieri Adriani forse un dossier di un carabiniere del comando di Prato riportante confidenze riportante confidenze fatte a questo carabiniere da una misteriosa mai disvelata fonte anche questo dossier è peraltro salito agli onori della cronaca mostrologica anni dopo il 1982 per la prima volta lo cita a Rutella nel 1989 questo fascicolo parretti e chi più ne ha più ne metta insomma sono in tanti il cittadino amico Fiori a Firenze Parretti a Prato e guarda caso tutti in quella prima quindicina di luglio dell'82 a ricordarsi del duplice delitto dei Castelletti di Signa del 68 ma come mai tutto questo fiorire di ricordi sui fatti di Castelletti di Signa nel luglio dell'82 tutti sembrano ricordarsi di quel fatto di sangue l'omicidio l'occilo bianco avvenuto 14 anni prima tutti meno uno proprio colui che su quel caso 14 anni prima aveva condotto in prima persona l'indagine di polizia giudiziaria la memoria storica suona ironico dirlo del nucleo investigativo di Borgogni Santi ma amiche ed amici questo è tutto fumo è tutto fumo come più volte vi abbiamo detto solo fumo che è stato ad arte prodotto per coprire la vera semplice lineare realtà dei fatti e la vera semplice lineare realtà dei fatti è che la pista sarda è stata volontariamente aperta da olinto dell'amico con il suo uomo Francesco Fiori che peraltro dell'amico era un subordinato per cui possiamo serenamente affermare che fu olinto dell'amico ad aprire la pista sarda dell'amico che al fine di aprire questa pista investigativa fece in modo che reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro fossero ritrovati nell'uglio 82 nel fascicolo processuale mele signa che era presso il tribunale di Firenze non a Perugia vedremo tutto questo proveremo tutto questo ora reperti balistici che con la complicità del perito incaricato Ignazio Spampinato anche lui storico uomo come dell'amico del resto del ventennale comandante del coesistente in Borgogni Santi centro di controspionaggio fiorentino del servizio segreto militare il colonnello Federico Mannucci ben in casa e che l'amico fece in modo che quei reperti non fossero confrontati con le risultanze della perizia balistica del colonnello Zuntini nel 68 perché quel confronto avrebbe evidenziato differenze potenzialmente compromettenti per l'apertura della falsa pista investigativa Sard ancorché noi dimostreremo che lo scenario praticamente certo della manipolazione di quel fascicolo è non di meno compatibile anche con l'ipotesi su un'unica identica arma con la quale sono stati uccisi sia l'Occi e l'ombianco del 68 sia le coppie di fidanzati tra il 74 e l'85 ancorché questa ipotesi non possa dirsi provata con certezza come il mainstream numostrologico ottusamente crede sono dunque queste le cruciali circostanze dell'estate 82 che in questo video andremo a dimostrare su questi fatti è stata innalzata dagli autori del pistaggio dell'82 o apertura della pista sarda una pesante cortina fumogena tesa ovviamente ad impedire che l'operazione false flag apertura della pista sarda potesse essere scoperta in primis dai magistrati che furono depistati ma la cortina fumogena che è stata innalzata sul perché e per come dell'apertura della pista sarda si dirà da sé come sempre e come metodo di questo canale mettiamo in fila uno dietro l'altro una serie di fatti oggettivi o almeno altamente probabili e poi traiamo le conseguenze nella maniera più semplice possibile secondo il principio noto come rasuoglio di Ockham un principio a volte irriso da zotici e ruzzi appassionati del caso che si fanno talvolta chiamare mostrologi e che potete facilmente incontrare nei gruppi facebook e in youtube ma che invece è la via più efficace per giungere a formulare scenari incredibili tanto più in una vicenda così complessa come quella del mostro di Firenze che semmai ha bisogno di semplificazioni non di astrusi ragionamenti mettiamo dunque in fila i fatti noti per provare quello che abbiamo letto le affermazioni pesanti gravi che abbiamo fatto ora dobbiamo provarle ok cominciamo per mettere in fila i fatti noti è il nostro approccio no? poi dopo faremo delle deduzioni ma sempre partendo da fatti e circostanze novi e oggettive scusate primo fatto di cui dobbiamo sempre tenere in mente questi fatti ricordiamoci fu il tenente colonnello olinto dell'amico comandante il capo del nucleo investigativo di Borgogni Santi a contattare il giudice istruttore Vincenzo Tricomi nel corso della prima quindicina del mese di luglio 82 e comunque prima del 17 luglio la data in cui il Tricomi fa partire la sua richiesta di acquisire il fascicolo mele al tribunale di Perugia ma il fascicolo come sappiamo era a Firenze e non a Perugia da almeno 9 anni il dell'amico contattò dunque il giudice istruttore Tricomi per dirgli che occorreva riprendere in mano il caso del duplice omicidio di Castelletti di Signale 68 un caso di cui il giudice istruttore competente per l'indagine sul nostro mai aveva sentito parlare in precedenza ricordiamocelo sempre quest'altro fatto mai aveva sentito parlare in precedenza Tricomi di Signa così come mai di Castelletti di Signa avevano sentito parlare prima di questo contatto iniziale della prima quindicina di luglio 82 fra dell'amico Fiori da una parte e Tricomi dall'altra i due sostituti incaricati del caso del mostro Izzo e della Monica i tre magistrati incaricati di indagine sul mostro non sapevano che era che era successo cosa era successo a Castelletti di Signa 14 anni prima prima di un certo momento quando del contatto iniziale dell'amico Fiori col Tricomi ok quindi il dell'amico contattò il Tricomi per dirgli che a questo scopo occorreva cioè per riprendere in mano il caso del duplice omicidio di Castelletti di Signa nel 68 occorreva acquisire il fascicolo del processo Mele il condannato in via definitiva nel 73 per quel fatto di sangue nell'occasione dell'amico inviva dal giudice istruttore Tricomi un suo uomo testimonianza questa dello stesso giudice istruttore il maresciallo Francesco Fiori del nobolo investigativo di Borgogni Santi il quale si ricorda all'ufficio del giudice istruttore col famoso foglio di giornale in mano che parlava del caso di Castelletti di Signa e di Stefano Mele secondo Mario Spezzi e David Preston in Dolci Colline di Sangue il Tricomi avrebbe riferito allo stesso Spezzi in un'intervista del 2002 che su quel foglio di giornale c'era un'annotazione o un biglietto di un anonimo in cui si diceva presso il tribunale di Perugia invece nella dichiarazione scritta che in occasione di quell'intervista lo Spezzi si fesse rilasciare dal Tricomi a riprova di ciò che il giornalista avrebbe scritto in Dolci Colline di Sangue dichiarazione in atti questa il Tricomi scrive Del Fiori che si era presentato nel suo ufficio con in mano il foglio di giornale che parlava del caso di Signa e dello Stefano Mele senza citare alcuna annotazione o biglietto con il suggerimento di cui Spezzi e Preston scrivono in Dolci Colline di Sangue fu comunque in occasione di questo contatto iniziale fra dell'amico Fiori fra il duo dell'amico Fiori e il giudice Sottore Tricomi avvenuto nella prima quindicina di luglio 82 che si parla per la prima volta del duplice delitto di Signa in relazione alla vicenda del Mosto prima di questo contatto iniziale nella prima quindicina di luglio 82 nessuno in procura salvo Vigna e quindi nessuno dei magistrati incaricati dell'indagine sul Mostro i due sostituti della Monica Izzo e il giudice Sottore Tricomi aveva la benché minima conoscenza di quel fatto di sangue avvenuto 14 anni prima nella frazione di Castelletti e che era stato ufficialmente rubricato con sentenza passata in giudicato come delitto d'onore commesso dal marito della vittima femminile dopo questo contatto iniziale con gli uomini nel nucleo investigativo di Borgogni Santi il Tricomi fa partire la richiesta di acquisizione del fascicolo mele al tribunale di Perugia e agli altri la richiesta del Tricomi al tribunale di Perugia datata 17 luglio 1982 per cui questo decisivo contatto iniziale fra dell'amico Fiori e il giudice di istruttore Tricomi è senza altro avvenuto prima di questa data e da questo contatto iniziale che parte tutta la FEPP sta sarda ricordiamoci di questi fatti per ora stiamo solo mettendo i fatti noti certi uno dietro l'altro si è detto che chi ulteriore fatto si è detto che chi contatta Tricomi per parlargli per la prima volta di questo duplice delitto avvenuto 14 anni prima a Castelletti di Signa è olinto dell'amico quindi colui che aveva condotto prima persona l'indagine sul campo cioè l'indagine di polizia giudiziaria su quel caso un'indagine complessa con due morti ammazzati e tante figure potenzialmente coinvolte un presunto colpevole al limite del subnormale la presenza di un bimbo di 6 anni sulla scena del crimine un'indagine che impegnò il dell'amico per diversi mesi a far tempo dall'agosto del 68 basti qui dire che il test Silvano Vargio uno dei due con cui Salvatore Vinci sarebbe andato a giocare al biliardo la sera del delitto l'occelo bianco fu sentito da Borgogni Santi per la prima volta a maggio del 69 ed avendo è durata questa indagine ed avendo condotto le indagini di polizia giudiziaria il dell'amico su quel caso altro fatto disponeva da sempre sin dal 68 in Borgogni Santi di ogni informazione utile incluso ovviamente la polizia balistica del 68 redatta dal colonnello Zuntini unica eccezione è la famosa bustina con i reperti balistici che sarà ritrovata alcuni giorni dopo il contatto iniziale fra dell'amico Fiori e Tricomi presso il tribunale di Firenze secondo la maggior parte delle fonti spillata al fascicolo del processo Mele praticamente secondo tutte le fonti spillata al fascicolo del processo Mele aggiungo e non doveva essere lì ma questo lo vedremo aggiungo e ci sarà utile questa informazione tra poco quando tratteremo specificamente della lettera anonima del Galluzzo che il dell'amico è anche colui che sempre nel 68 due o tre mesi prima del fatto di sangue di Castelletti di Signa indagò e velocemente risolse assicurando il balordo colpevole alla giustizia il cosiddetto fattaccio del Galluzzo un banale fatto di prova canera in cui il balordo entrato nella casa di un'anziana signora per derubarla venne sorpreso dalla stessa sicché gliela percorsi violentemente anche con il caccio di una pistola mandandola in ospedale fu dunque l'iniziativa del luglio 82 del tenente colonnello dell'amico figura di riferimento memoria storica all'interno del nucleo investigativo di Borgogni Santi a spingere giudice e strutture Tricomi la richiede del fascicolo del caso di duplice omicidio sul quale lo stesso dell'amico aveva condotto l'indagine di polizia giudiziaria 14 anni prima questa è l'iniziativa dell'amico condurrà di lì a pochi giorni dell'apertura della pista sarda in ragione di ciò che si troverà nel tribunale di Firenze secondo la maggior parte delle fonti nel fascicolo processuale melecigna e cioè reperti balistici che risulteranno a perizia affidata all'esperto balistico ignacio spampinato per il tuo amico esplosio della pistola del mostro l'esito della perizia spampinato apre ufficialmente la pista sarda ho sentito dire in rete nel noto canale comico youtube che ho anche citato prima che fu una strana circostanza in quanto mai veramente spiegata del ritrovamento della R4 Renault 4 del Francesco Vinci infrattata Civitella Marittima frazione di Civitella Paganico a Grosseto avvenuto il 21 giugno 82 quindi due giorni dopo l'aggressione di Baccaiano ad aprire la pista sarda questa tesi è del tutto farlocca è uno è uno dei due falsi prodotti dagli occulti burattinai che muovono le fila del simpatico comico conduttore di quel canale riguardo al tema peraltro cruciale nella vicenda che qui ci occupa quindi devo puntualizzare dell'apertura della pista sarda l'altro falso ve lo illustriamo tra un attimo in maniera più dettagliata ma voi sapete già che ha a che fare con la lettera anonima del Galluzzo contrariamente a quanto si va blaterando nel peraltro assai divertente canale comico mark and friend channel show show lì per lì cioè nell'immediatezza del ritrovamento gli inquirenti non mettero alcuna particolare importanza all'auto del Vinci infrattata a Civitello Paganico fatto che fu successivamente ripescato a pista sarda già aperta cioè dopo che fu acquisito l'esito della verizia sfampinato sui reperti balistici fortunosamente ritrovati verso il tribunale di Firenze e fu tra gli elementi considerati e poi gli elementi indiziali a carico del Francesco Vinci il primo fra coloro che il Mela aveva provato a coinvolgere nel duplice delitto ai danni di lei amata già all'indomani di quel fatto di sangue a figli del mirino degli inquirenti del caso dell'assassino delle coppie quale sospetto mostro pertanto in questo strano episodio si inizia a parlare in procura in relazione alla vicenda del mostro di Firenze tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto dell'82 e i testimoni che potevano aver notato l'auto del Vinci lungo la via di Virginia Nuova i quattro ragazzi che per primi si fermarono accanto al lato del Mainari ormai fuori strada con le ruote posteriori furono sentiti addirittura a novembre dell'82 quindi a pista sarda aperta da mesi naturalmente come abbiamo come sempre avviene per i clamolosi scoop del canale comico Mark and Friends Channel Show l'abbiamo già visto con l'etra del Galluzzo nella quale ora torneremo ad occuparci nessuno e quando dico nessuno vuol dire nessuno nessuno ha mai parlato nell'estate 82 e neppure successivamente di questo ritrovamento dell'auto del Francesco Vinci quale causa dell'apertura della pista sarda la prima autoevolissima fonte che qualifica ma forse sarebbe più corretto dire si inventa quale fatto cui si deve l'apertura della pista sarda il ritrovamento della macchina di Francesco Vinci infrattata a Civitella è il canale comico Mark and Friends Channel Show la verità il fatto che dobbiamo sempre tenere bene a mente cari amiche ed amici è che nessuno in procura nessuno aveva neppure pensato a un possibile collegamento fra il duplice delitto del 68 caso come si è detto tutto ignoto agli inquirenti del caso del mostro sino a luglio 82 e i quattro duplici delitti del mostro sino a quel momento riconosciuti come tali prima del contatto della prima quindicina di luglio fra il dell'amico e il fiore da una parte e il Vincenzo del ricome dall'altro è questo crucialissimo contatto iniziale o contatti iniziali presumibilmente ci sarà stata più di un'occasione di scambio tra gli uomini del nucleo di Borgo di Santi e il giudice istruttore incaricato dell'indagine sul mostro prima del 17 luglio ma sono questi contatti iniziali che portano il caso di Signa sul percorso dell'indagine sul mostro di Firenze a deviarne il regolare corso come un macigno piovuto all'improvviso chissà come ma non chissà da dove perché sono i fatti a dircelo da dove è piovuto questo macigno sul corso delle indagini sul mostro in un frangente delicato di quelle indagini cioè dopo i fatti di Maccaiano e il blef giocato dalla della Monica il macigno è piovuto dal nucleo investigativo di Borgo di Santi lanciato nella prima quindicina di luglio del 1982 sul regolare corso dell'indagine sul killer del coppio dal tenente colonnello linto dell'amico il quale si servì all'uopo del suo sottoposto al nucleo investigativo il maresciallo Francesco Fiore non ci sono tutti questi misteri che si crea da sola la mostrologia riguardo l'apertura della pista sarda i meri fatti è un minimo di ragionamento logico diciamo ci dicono che ad aver aperto la pista sarda fu colui che sul duplice omicidio di Cassetti di Signa aveva indagato il luogo è largo in prima persona il capo del nucleo investigativo di Borgo di Santi nell'82 il tenente oninto dell'amico è lui che contatta il tricomi per iniziare a parlargli di Cassetti di Signa in relazione ai delitti del mostro di Firenze il quale dell'amico per aprire questa pista si servì di un suo uomo fidato il maresciallo Francesco Fiore questi in sintesi i primi fondamentali fatti di cui noi abbiamo il dovere amiche e amici di tenere conto altrimenti non teniamo conto della realtà dei fatti in una vicenda dove invece c'è estremo bisogno di stare alla realtà dei fatti non andare a lucubrare a parlato forse con quello i fatti ci dicono che dell'amico d'improvviso vada a Tricomi contatta Tricomi ci manda fiori e da lì parte tutto questi sono fatti non ipotesi tuttavia un ulteriore fatto di cui di cui dobbiamo sempre ricordarci tuttavia ulteriore fatto di cui dobbiamo sempre ricordarci un altro fatto mentre è chiaro che fu dell'amico a contattare Tricomi e poi a inviare di giudice strutture il suo uomo Fiori e così facendo a portare dentro l'indagine sul mostro il caso del duplice delitto di Castiretti di Signa è altrettanto chiaro che egli non dice mai che era stato lui ad essersene ricordato un ulteriore fatto da tenere presente qui abbiamo due versioni diverse riguardo a come Borgogni Santi si era giunti a ritirare fuori quel vecchio caso di 14 anni prima una segnalazione anonima di qualcuno esterno a Borgogni Santi forse il cittadino amico dell'appello a mezzo stampa di cui ora parleremo e la seconda versione invece la reminiscenza dell'uomo gearchicamente subordinato al dell'amico che lo stesso dell'amico invia dal tricomi col foglio di giornale in mano prima del 17 luglio cioè il maresciallo Francesco Fiori ma il fatto veramente rilevante è che fra i vari che pagano ricordarsi di Castiretti di Signa l'anonimo cittadino amico il maresciallo Fiori a Borgogni Santi il brigadiere Parretti a Prato e sicuramente tutti costoro in quel luglio del 1982 non ci sia mai stato fra questi proprio colui che a differenza di tutti questi altri personaggi e suoi colleghi sul duplice delitto di Castiretti di Signa aveva il lungo e largo indagato del 68 e che aveva indagato anche sui quattro successivi duplici delitti ai danni di coppia appartata anche questi eseguiti con l'arma da fuoco calibro 22 e proiettili Winchess SRH arma che anche in questi casi analogamente a quello di Castiretti di Signa non si era mai trovata è pertanto un fatto che sia obbligatorio che dobbiamo porci la domanda questa domanda è possibile che il tenente come nell'olito dell'amico investigatore esperto e figura di riferimento all'interno del nucleo investigativo di un comando dei carabinieri importante come quello di Borgo di Santi avesse semplicemente rimosso dalla sua memoria un caso di duplice delitto ai danni di una coppia appartata come quello di Castiretti di Signa e come mai sulle vere cause che hanno portato al momento decisivo a inizio luglio dell'82 in cui dell'amico decise che era il momento di contattare il Tricomi per parlargli di Castiretti di Signa cioè come mai su queste vere cause vigono molti più dubbi e ombre che certezze tanto più che non appare credibile alcuna delle ragioni di volta in volta adotte a giustificazione di quell'improvvisa svolta impressa nel luglio 82 all'indagine sul mostro dal tenente colonnello dell'amico e dal suo subordinato maresciallo Fiori quindi nella lettera anonima di un qualche suggeritore esterno a Borgogni santo mai trovata nella memoria del mitico maresciallo Fiori che assigna nel 68 probabilmente neppure era a distanza contrariamente a quanto si è detto e qui la fonte dell'avvocato di Evere Adriani ragioni queste le ragioni cioè che diciamo sono state portate a giustificazione di questa improvviso di questa improvvisa reminiscenza di Borgogni santi queste ragioni sono ancora oggi a 42 anni di distanza dai fatti non chiare e dividono profondamente la mostrologia ulteriore fatto di cui dobbiamo prima di tenere conto prima di andare a ricostruire ciò che accade nell'estate del 82 dopo l'aggressione di Baccaiano questo ulteriore fatto è l'esistenza in atti il merito qui va riconosciuto dall'avvocato veri Adriani che ha scoperto questi importantissimi documenti molti anni dopo la data in cui essi furono redatti di due comunicazioni scritte dagli uffici della PM incaricata del caso dell'assassino delle coppie intorno a Firenze che con questa sua comunicazione richiedeva al comando di Borgogni santi che le fosse quanto prima restituita una lettera anonima che aveva segnato agli inquirenti il caso di Castelletti di Signa portando infine all'apertura della cosiddetta pista santa e l'altra comunicazione è quella del giudice istruttore del caso Vincenzo Tricomi che nell'arrogatoria al competente tribunale di Palermo con cui chiedeva che fossero sentiti quali testimoni tali Barranca parenti di Antonio Lobianco che il magistrato aveva attenzionato nell'ambito del riesamine dei fatti di Castelletti di Signa in relazione all'episodio della scommessa tra lo stesso Lobianco e Francesco Vinci e anche il Tricomi in menzione con una lettera anonima che aveva condotto a riaprire il caso del duplice omicidio l'occino bianco così scrive il Tricomi nella sua richiesta al tribunale di Palermo o rogatoria comunicazioni queste della della Monica e del Tricomi rispettivamente del 20 agosto 82 la della Monica e del 29 ottobre 82 il Tricomi le leggiamo queste comunicazioni poiché poiché diciamo così dobbiamo tenere sempre bene stiamo mettendo i fatti uno dietro l'altro in fila quindi tra questi fatti sono queste due note ritrovate dall'avvocato Vieri Adriane vi leggo la prima parte quella che conta della nota di Silvia della Monica e poi uno stralcio di quella del giudice Tricomi il giudice scrive della Monica il 20 agosto 82 il giudice istruttore del tribunale di Firenze dottor Vincenzo Tricomi segnalava a questo ufficio l'importanza di una lettera anonima questa lettera è dirizzata alla scrivente e trasmessa per indagini a codesto e parto la quale evidenziava come i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 non 4 ritiamando l'attenzione su episodio analogo avvenuto in passato in altra località della provincia questo ufficio ritiene indispensabile al fine delle ulteriori indagini concernenti l'identificazione dell'autore dell'anonimo rientrare in possesso dello scritto potendo si presupporre che esso sia attribuibile a persone a conoscenza dell'identità del vero assassino facendo seguito pertanto a passate sollecitazioni verbali si prega di voler procedere a pronta trasmissione della Monica 20 agosto 82 tricomi 29 ottobre 82 quindi due mesi dopo la dell'amore cosa scrive al tribunale di Palermo scrive a seguito di segnalazione anonimo che esisteva un quinto duplice omicidio commesso dal cosiddetto mostro si risaliva all'omicidio di lo bianco Antonio e lo c Barbara commesso nel 68 in relazione al quale era stato condannato il marito della noce quindi si era andati su segno a seguito di una segnalazione anonima questo il tricomi il 29 ottobre del 82 ok o quindi ma sempre ricordiamoci questo che hanno scritto questi signori questo è molto importante e come avete visto in tutte e due le comunicazioni si parla di un duplice omicidio che una lettera anonima avvenuto prima del 74 che una lettera anonima aveva fatto ricordare diciamo aveva portato all'attenzione degli inquirenti ma c'è ancora un ultimo importante fatto che dobbiamo tenere sempre presente sempre presente prima di andare a ragionare su ciò che accadde in quella decisiva estate del 1982 per le indagini sul mostro è in effetti un fatto oggettivo che i frequenti contatti fra procura e il nucleo investigativo di Borgogni Sani tra la metà di luglio e la metà di agosto del 82 i giorni decisivi per l'apertura della pista sarda furono essenzialmente contatti fra dell'amico e il suo uomo Francesco Fiori e il giudice Vincenzo Tricomi è dal Tricomi che si va per fargli acquisire il fascicolo del processo Miele con sorpresa di Pasqua allegata è al Tricomi che come ora vi mostreremo si dicono certe clamorose bugie come quella della lettera che aveva spinto il nucleo investigativo a risumare il caso dei cassetti di Signa e che si era fatto il confronto tra i reperti balistici ritrovati presso il tribunale di Firenze e la perizia Zoncini nel 68 quando invece questo più che obbligatorio il confronto se si voleva verificare che l'arma del mostro fosse quella che aveva ucciso Barbara Loccia e Antonio Bianco non lo si era fatto questo lo vedremo bugie che sarebbero potute facilmente venire a galla se non che attenzione amiche ed amici questo è un passaggio fondamentale a chi si dissero queste balle con chi si parlò nei giorni dell'apertura della pista sarda del caso dei cassetti di Signa con il tricomi con il giudice istruttore Vincenzo Tricomi e il tricomi era uso a prendere per oro colato tutto ciò che gli diceva Borgogni Santi e faceva sempre quello che gli diceva di fare Borgogni Santi cioè la sua funzione di pulizia giudiziaria e questo aspetto del tricomi all'ottimo conoscitore e valutatore di profili umani olinto dell'amico era ampiamente noto i nostri uomini di Borgogni Santi quando si trattò del luglio 82 prima quindicina di portare dentro le indagini sul mostro il caso del duplice delitto dei cassetti di Signa all'epoca chiuso ormai da una decina d'anni andarono a raccontare certe cose certe balle come ora si vedrà esclusivamente al giudice istruttore incaricato delle indagini sul mostro il dottor Vincenzo Trico si evitò sempre in quei giorni decisivi di luglio 82 di esporsi direttamente con i PM incaricati Silvia Della Monica e Adolfo Izzo i due sostituti peraltro e per certo la Della Monica perché per quanto concerne la Della Monica questo è documentalmente provato furono sempre puntualmente informati degli inattesi e clamorosi sviluppi tutto ad un tratto impressi all'indagine sul mostro da colui che in cui il 1982 era la figura di riferimento e la memoria storica del nucleo investigativo di Borgogni Santi cioè il tenente Cornelio L'Unito dell'Amico le due PM ne furono informati di questi clamorosi sviluppi sempre per il tramite del giudice istruttore Tricomi cioè dal magistrato che era uso prendere per lo colato tutto ciò che gli diceva Borgogni Santi e che era di solito fare quello che gli diceva di fare Borgogni Santi cioè la sua funzione di polizia giudiziaria ma Borgogni Santi ha evitato in quei giorni ogni contatto e comunicazione diretta con Silvia Della Monica e Adolfo Izzo ben conoscendo quel lato del giudice istruttore incaricato del caso del mostro perché dell'amico è il suo vero capo è il vero capo dell'amico Federico Mannucci ben in casa aggiungo io perché un'operazione così sofisticata e magistralmente magistralmente congegnata è praticamente firmato quindi dell'amico e il ben in casa i loro polli in procura li conoscevano alla perfezione questi maghi dell'arte del camuffamento e del depistaggio fecero genialmente in modo che fosse il tricomi a informare i due PM incaricati dell'indagine sulla sassima delle coppiette circa gli improvvisi e inusitati sviluppi dell'indagine sul mostro del luglio 82 evitando contatti diretti potenzialmente compromettenti e rischiosi con gli assai meno accondiscendenti PM e in particolare con la silve della monica con la quale i contatti a parte quelli inevitabili da procedura si erano praticamente interrotti sin dai giorni successivi l'aggressione di Baccaiani ma io mi sento di dire che i contatti veri non quelli veramente d'ufficio fra il nucleo investigativo e silve della monica si erano interrotti sin dal bleff giocato dalla PM con i giornalisti tre giorni dopo l'aggressione sulla via di Virginia Nuova è da questo momento che tra il nucleo investigativo di Borgogni Santi e la PM e Silve della monica cala il silenzio sapeva evidentemente molto bene che aveva in mano in quegli anni il comando di Borgogni Santi e l'attività investigativa di questo comando e più in generale dell'arma in provincia di Firenze cioè Federico Mannucci ben in casa e Olinto dell'amico che al confronto del giudice istruttore i due sostituti Izzo e della monica erano assai meno propensi a bersi qualsiasi cosa che venisse propinato loro dalla funzione di polizia giudiziaria sicché dell'amico e il suo uomo Fiori interloquirono con il solo Vincenzo Tricomi nei cruciali e delicati passaggi dell'apertura della pista sarda questa fu una geniale intuizione peraltro basata su una conoscenza profonda dei magistrati della procura fiorentina e quindi sulla prevedibilità dal punto di vista dell'amico che come dimostreremo del capo dell'amico nella gerarchia parallela della locale sotto la state behind il colonnello Federico Mannucci ben in casa dei comportamenti di questi magistrati per aprire la pista sarda bisognava parlare direttamente sempre e solo con Vincenzo Tricomi questa è la brillante intuizione degli uomini di Borgogni Santi ma meglio sarebbe dire degli uomini del quartier generale della struttura state behind unità di Psycho World to Scan quando si trattò di stabilire la modalità più efficace e sicura per provare a dare una spinta alle indagini sul mostro in una certa voluta direzione direzione restando però coperti cioè coprendo la mano mentre stava lanciando il sasso intuizione attribuibile a chi conosceva menadito i magistrati incaricati delle indagini sul mostro e chi a Borgogni Santi aveva schedato e sapeva tutto di tutti almeno di tutti quelli che contavano qualcosa in procura se non Mannucci ben in casa e dell'amico i due ufficiali che negli anni del mostro ebbero in mano il comando di Borgogni Santi e quindi l'attività dell'arma in provincia di Firenze è un fatto che nei giorni dell'apertura della pista sarda gli uomini di Borgogni Santi parlarono esclusivamente con il giudice incaricato dell'indagine sul mostro per la verità tuttavia si vede la Monica tentò di mettersi in contatto con il nucleo investigativo dopo il 20 luglio quando cioè le fu dal tricomi reso noto cosa si era ritrovato attaccato al fascicolo del processo me allo scopo di riavere indietro la lettera anonima di cui aveva parlato il tricomi a sua volta imbeccato da dell'amico e fioni come si è detto ma senza alcun esito la prima comunicazione che si vede la Monica riceverà da Borgogni Santi in tema segnalazioni anonime è quella in forma scritta del 24 agosto 82 data in cui il nucleo investigativo di Borgogni Santi rinvia in procura tutte le segnalazioni anonime Galluzzo inclusa che la procura aveva inviato allo stesso Borgogni Santi il precedente 2 luglio per l'esame preliminare della funzione di polizia giudiziaria ebbene in quell'occasione cioè il 24 agosto il nucleo investigativo di Borgogni Santi comunicò con lettera accompagnatoria che ancora oggi è presente in atti che nessuna di queste segnalazioni aveva un qualche valore investigativo e che potevano essere pertanto serenamente archiviate nel fascicolo del PM come meglio ora vedremo in quel momento particolarmente delicato per i depistatori la sostanziale cessazione dell'interlocuzione fra la PM della Monica e il nucleo investigativo di Borgogni Santi dopo il cosiddetto blef della PM del 22 giugno portò i suoi frutti l'interruzione l'interruzione nei cruciali giorni dell'apertura della pista sarda dell'interlocuzione confidenziale tra il nucleo investigativo di Borgogni Santi e PM e non solo della Monica ma anche Izzo è una circostanza molto importante come ora vedremo ignorata e negata dal mio promondo mostrologico ma torneremo tra pochissimo su questo cruciale passaggio parlando della bugia dell'amico e del suo sottoposto tricomi riguardo la fantomatica lettera anonima che avrebbe fatto ritornare la memoria allo smemorato non di Collegno ma di Borgogni Santi l'olinto dell'amico ecco abbiamo messo quindi uno dietro l'altro i fatti ora dobbiamo ragionare su questi fatti quindi fino ad ora abbiamo solo elencato fatti ok se per tutto ciò che abbiamo sin qui detto è oggettivo che fu uno dell'amico e Fiori ma essendo il secondo subordinato al primo possiamo serenamente affermare che fu dell'amico a fare entrare il caso dei castretti di Signa nell'indagine sul mosto di Firenze è anche vero che prima di entrare in conclusioni che potrebbero risultare affrettate dobbiamo acclarare cosa si dissero il dell'amico e il Tricomi quando il dell'amico prese l'iniziativa di contattare il giudice sottore Tricomi nella prima quindicina di luglio dell'82 per degli di acquisire il fascicolo del processo Melli inviando poi da lui il suo uomo Francesco Fiori con in mano il foglio di giornale che parlava del caso di Signa e di Stefano Melli una prima domanda che a questo riguardo dobbiamo porci è come giustificarlo il dell'amico e i fiori nel luglio dell'82 il fatto che essi stavano chiedendo agli udici e strutture Tricomi di acquisire il fascicolo processuale di un caso chiuso con sentenza definitiva da una decina d'anni e perché quell'improvviso ricordo solo in quel momento è infatti praticamente certo che il Tricomi chiese al dell'amico e a fiori come si fosse arrivati a tirare fuori il duplice del dittore di castretti di Signa così come è palese che il duplice così come è palese che il dell'amico investigatore abile ed esperto era tenuto a fornire spiegazioni non fosse altro che per il fatto che era strano che uno dell'esperienza e del livello del capo del nucleo investigativo di Borgogni Santi potesse aver completamente rimosto dalla sua memoria un assassino di coppia appartata in auto eseguito con arma anche in quel caso mal ritrovata dello stesso tipo di quello utilizzato dal mostro una Cairo 22 Long Rifle probabilmente di fabbricazione Beretta munizionata con proietti di Winchester e serie H analoghi a quelli che se in alcun momento erano stati utilizzati dal mostro avvenuto qualche anno prima del primo duplice unicidio che era stato attribuito al cosiddetto mostro di Firenze un duplice omicidio quello del 68 sul quale come al solito era stato lo stesso dell'amico ad aver condotto le indagini sul campo su via signori quindi non cadiamo nel ridicolo perché chi pensa che invece si è possibile che dell'amico nel 82 dopo ben 4 duplici omicidi del mostro commesso ai danni di una coppia con l'arma calibro 22 munizionata con cartucce con inceste SRH cioè con un'arma dello stesso tipo di quella utilizzata a cassetti di signa e che non c'era mai ritrovata avesse completamente rimosso dalla sua memoria il duplice ditto del 68 sul quale era stato proprio lui e dell'amico ad aver condotto le indagini sul campo beh chi pensa così o è uno stordito o è uno che vuole proprio coprirsi di ridicolo a meno che non provi che dell'amico fosse uno che non doveva stare al nucleo investigativo di Borgogni Santi ma piuttosto in qualche centro di recupero per smemorati totali perché dell'amico non era uno qualsiasi e neppure era che so un giornalista di inchiesta il dell'amico era un investigatore professionale di primo ordine il cui lavoro consistiva fra l'altro in ricordare ed eventualmente ricollegare fatti a circostanze tanto più se questi fatti a circostanze fossero stati gravi e Cassetti di Signa era venuto un duplice omicidio mica un furto di noccioline e addirittura l'oggetto di suoi precedenti indagini e questo è esattamente il caso di dell'amico consigna dove la complessa e decisiva per consegnare alla giustizia il colpevole predestinato indagine sul campo era stata condotta anche una persona proprio da dell'amico dell'amico era un brillante investigatore professionale che operava da quasi vent'anni all'interno di uno dei comandi dei carabinieri più importanti ed edifici d'Italia nel quale egli aveva fatto una carriera piuttosto rapida salendo in poco più di un decennio dal grado di tenente al grado di tenente colonnello non era un incapace totale il tenente colonnello dell'amico come alcune anime pie vorrebbero invece farci credere tutt'altro ebbene dell'amico e il suo sottoposto fiori i due folgorati sulla via di damasco giustificarono questa improvvista reminiscenza dicendo attenzione sempre rigorosamente al solo trecomi una serie di cose non vere una serie di bugie e questi sono semplicemente i fatti che ora andiamo a snocciolare a dircelo non si tratta di una nostra deduzione arbitraria o illazione come qualche idiota scrittore da strapazzo sostenitore della tesi di tale Paolo Poli solitario serial killer delle coppiette sostiene no amiche e amici si lasciano parlare i fatti poi vediamo tuttavia prima ancora di andare a vedere le bugie di voi con gli santi in quell'estate dell'82 cioè le tante cose non vere dette dal duo dell'amico Fiori al giudice istruttore del caso mostro in occasione dei contatti che aprirono la cosiddetta pista sarda vogliamo sottolineare che in una qualsiasi indagine che si rispetti chi non dice il vero assume sempre un certo interesse investigativo diventa cioè un potenziale sospetto un soggetto la cui posizione va indagata e chiarita è semplicemente un metodo di indagine universalmente accertato che ci dice che si deve procedere in questo modo ma certo non si fece questo nel 1982 poiché in procura non ci si accorse al di là delle perplessità della sola PM civil della Monica del gioco avvilmente condotto da chi aveva in mano una funzione di polizia giudiziaria noi però in questo canale osservando semplicemente i fatti e non ipotizzando nulla al contrario di ciò che abitualmente fanno i nostri detrattori nel tentativo di smontare le nostre tesi che rovinano i loro consolidati tranquilli orticelli di questo abile gioco di prestigio ce ne siamo infine accorti ce ne siamo accorti tardi questo è vero dopo circa un quarantennio ma infine ce ne siamo accorti ce ne siamo accorti del gioco di prestigio che fece Borgogno santi in quell'estate del 1982 e quindi ora regoliamo a dovere il focus sulle condotte tenute in quel frangente dal dell'amico e dal suo uomo di fiducia fiori e sugli eventi di tutto eccezionale dell'estate del 1982 gli eventi successivi all'aggressione perpetrata perpetrata dal killer del coppio a Baccaiano nella quale questo killer commise l'unico grave errore della sua storia omicida o l'into dell'amico al di là delle apparenze spesso contrarie a volte da lui stesso volute ricercate in ragione del suo doppio ruolo di ufficiale di riferimento del nucleo investigativo e come ora dimostreremo di uomo chiave della locale struttura e del livello più occulto più segreto a tale struttura il nucleo di guerra non ortodossa toscano era come abbiamo detto un investigatore di primordi e quindi persona intelligente scaltra era un esperto nella difficile arte della valutazione di profili e condotte umane non a caso egli non solo interagiva con il centro di contospionaggio del servizio segreto militare in borgogni santi in qualità di informatore e recettore di informazioni ma era anche funzionale a questo centro di contospionaggio un centro di contospionaggio quello di Firenze comandato per vent'anni da un medesimo cavo è ampiamente noto alle cronache giudiziarie e agli estudiosi del periodo della cosiddetta strategia dell'attenzione in Italia svolgendo per conto di questo centro di contospionaggio il ruolo di recruite più precisamente come emerge non solo dalla testimonianza dell'agente Sismi Vincenzo Fenilli ma anche come vedremo nel nostro prossimo video dai fatti di Castelletti di Siglia oltre che da quelli dell'estate 82 oggetto della disanina che stiamo ora facendo in questo video il dell'amico era esperto in operazioni cavuffate e nelle connesse tecniche di penetration recruiting e depistaggio un know-how strategico nel mondo dei servizi della sua epoca ricordiamoci della dottrina Bissell e della testimonianza dei dirigenti CIA degli anni 50 e 60 del 900 Vincent Marchetti e John David Marx fonti delle quali abbiamo molto parlato nei nostri video e ora dobbiamo ricordarcene di queste tecniche e sia lui che il suo vero capo colui al quale dell'amico riportava nella gerarchia parallela della locale struttura stay behind di guerra psicologica non solossa il colonnello Federico Mannucci ben in casa che come si è detto del centro di contospioraggio del servizio segreto militare ferentino fu a capo per un ventennio conoscevano benissimo i personaggi e le dinamiche all'interno della procura fiorentina sicché i due hanno agito alla perfezione affinché del gioco sul filo del rasoglio che i nostri uomini di Borgogni Santi condussero nell'estate dell'82 in procura non si avesse il ben che minimo sentore la strategia di gioco è adottata si fondò come si è detto sull'esclusività dell'interlocuzione con il malleabile dell'occasione senz'altro pilotabile giudice istruttore Vincenzo Tricomi e sul fatto mera conseguenza di questa esclusività di interlocuzione che fosse il Tricomi a tenere informati i PM Izzo e della Monica dei clamorosi sviluppi inaspettatamente impressi dal nucleo di Borgogni Santi all'indagine sul killer delle coppie nel luglio del 1982 l'apertura della pista sarda non nacque dall'interazione fra dell'amico e il suo sottoposto Fiori da una parte e la procura di Firenze dall'altra ma dall'interazione fra il dell'amico e il suo uomo Fiori da una parte e il malleabile pilotabile giudice Vincenzo Tricomi giudice istruttore Vincenzo Tricomi dall'altra vediamo ora come dell'amico e il suo uomo Fiori pilotarono il Tricomi facilmente anzi più facilmente di quanto avessero previsto e senza fastidiosi domande ed obiezioni di sorta verso il ritrovamento del fascicolo del processo Mere con la sorpresa di Pasqua attaccata sorpresa di Pasqua che una volta acquisita fu affidata alle cure cioè all'esame balistico del perito amico spampinato al pari di oriento dell'amico più che fidato uomo di Federico Mannucci Pelli in casa nominato dalla procura evidentemente su iniziativa cioè su proposta di Borgogni Sala il quale spampinato garantì che non fossero fatte dal perito incaricato domande o richieste imbarazzanti quale ad esempio quella di acquisire documentazione sui reperti balistici che si dovevano esaminare da dove fossero stati presi da dove provenissero quei reperti che strada avessero fatto per arrivare al temolare di Firenze ed essere ancora lì dopo quasi dieci anni da una sentenza passata ingiudicata domandine innocenti di questo tipo magari anche la richiesta della parizia a Zuntini e 68 che sicuramente lo spampinato avrà visionato ma non c'è una mezza parola al riguardo nella sua relazione per Italia eh? no niente di tutto questo avvenne e niente che possa anche solo indicare che questo possa essere accaduto e presente in atti come ora vediamo nel 82 si fece solo il confronto tra i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze e le risultanze della perizia eseguita sui reperti malistici ritrovati sulla scena del crimine della roveta e così i reperti ritrovati a Firenze risultarono esplosi dalla pistola del mostro ma non una parola riguardo al fatto ma non una parola riguardo al fatto se questi reperti provenissero o meno dalla scena del crimine di Carselletti non un accenno a un qualcosa che potesse indicare che la basilare verifica della provenienza di questi reperti era stata effettivamente fatta verifica della provenienza che poteva essere fatta vista l'assenza di ogni altra utile documentazione informatoria solo tramite il confronto con la perizia Zuntini del 68 ma in atti non vi è alcuna evidenza che questo confronto sia stato fatto nel luglio dell'82 ne consegue che questo necessarissimo confronto non è stato fatto o se fu fatto si fece in modo di non lasciare traccia dei suoi risultati ma al Tricomi e non a caso al Tricomi il magistrato che da Borgogni Santi cioè nella sua funzione di pulizia giudiziaria si beveva qualsiasi cosa i nostri amici di Borgogni Santi dell'Amico e Fiori dissero invece un'altra cosa e ciò che quel confronto era stato fatto come ora vi dimostreremo pazientate sono un atti amiche ed amici c'è comunque della genialità bisogna riconoscerlo in questa operazione che tecnicamente ricorrendo al linguaggio dei servizi segreti dell'epoca vedaci ad esempio dalla dottrina bis del leggendario 68 si configura come un'operazione camuffata di tipo false flag basata cioè sulla intelligente disseminazione di credibili ma falsi segnali a indicare agli inquirenti nella fattispecie a chi in procura innagava sulla vicenda del mostro una falsa pista investigativa fu un'operazione di depistaggio mirabile da un punto di vista squisitamente tecnico tanto mirabile che è praticamente firmata questa operazione infatti pochissime persone avevano non solo il livello di preparazione ma anche le conoscenze le informazioni anche riguardo a fatti che potevano essere noti solo in ambito locale necessario a mettere in piedi in relativa sicurezza un'operazione del genere possiamo tranquillamente dire che solo due persone al mondo potevano concepire e poi realizzare un depistaggio come quello dell'apertura della pista sarda fra l'altro nel poco tempo una ventina di giorni approssimativamente in cui si progettò e realizzò questo magistrale depistaggio facendo fra l'altro nominare al tricomi il perito balistico giusto cioè Ignazio Spampinato fedelissimo di Mannucci venne in casa così da poter immettere nel fascicolo del processo mele riperti esplosi della pistola del mostro minimizzando il rischio di essere smascherati queste due persone a Borgogni Santi erano il capo del nucleo universitario di Borgogni Santi tenente colonnello l'inter dell'amico e il suo vero capo nella generatia parallela e quindi prioritaria del livello più segreto della locale Cellula Stadia il nucleo di guerra il nucleo di guerra non ortodossa a Toscano cioè il ventennale capo del centro di contrasplenaggio Silvio poi ai Sismi di Firenze colonnello dei carabinieri Federico Mannucci bene in casa questi due potevano fare un'operazione di questo tipo solo questi due sulla base dei fatti certi che abbiamo prima elencato e che vi chiedo amiche ed amici di tenere ben fermi in mente andiamo ora a dimostrare che le cose andarono come vi ho ora a grandissime linee descritte l'estate del 1982 è l'estate delle bugie del nucleo investigativo di Borgogni Santi nelle settimane tra luglio e agosto del 1982 in cui si aprì la pista investigativa cosiddetta sarda è in effetti assai più difficile trovare cose vere dette in quel frangente da Olinto dell'Amico e dal suo sottoposto Francesco Fiori che non bugie il tenente colonnello dell'Amico e il maresciallo Fiori e ricordiamoci sempre che Fiori è figlio sottoposto dell'Amico al nucleo investigativo di Borgogni Santi a giustificazione della loro decisiva per l'indagine sul mostro iniziativa dei primi di luglio 1982 dicono una serie di cose non corrispondenti al vero senza mezzi termini dicono una serie di bugie a chi? al giudice istruttore Vincenzo Tricomi ricordiamoci sempre uno dei fatti che abbiamo detto prima circoscrive l'interlocuzione col solo giudice istruttore Tricomi nei giorni dell'apertura della pista santa e questo è un fatto della massima importanza perché non vogliamo qui ribadire in una qualsiasi indagine che si rispetti chi dice bugie cioè chi mente diventa un soggetto sospetto uno che va attenzionato e la cui figura e ruolo nei fatti oggetto di indagine devono essere approfonditi le prime bugie due bugie per la precisione come la vedremo il dell'amico e il suo sottoposto Fiori le raccontano subito direttamente al giudice istruttore Vincenzo Tricomi quando lo contattano nella prima metà del mese di luglio del 1982 per dirgli che doveva attivarsi per acquisire il fascicolo del processo a Stefano Meli fascicolo che a dire di costoro doveva trovarsi ancora presso a dire di costoro doveva ancora trovarsi presso il tribunale di Verugia la sede del secondo processo di appello a carico dello Stefano Meli e che invece era da una decina d'anni almeno presso il tribunale di Firenze prima bugia la lettera anonima che non c'era si disse al Tricomi di una lettera anonima ma questa lettera anonima non era mai giunta vediamo cosa si vissero dell'amico e Tricomi e poi Fiori e Trico nell'ufficio del Trico in quei decisivi contatti iniziali dell'aprile 15 di luglio 82 che infine sfociarono nella richiesta formale avanzata dal Tricomi al Tribunale di Perugia del 17 luglio 82 due prevesse prima di andare ad analizzare questo cruciale passaggio è immersi tutto un fatto incontestabile che gli uomini di Borgogli Santi protagonisti dei primi contatti con i giudici sottori della prima quindicina di luglio 82 quindi dell'amico e Fiori parlarono in questa occasione al Tricomi del duplice delitto dei castretti di Signa e non di altri casi sappiamo che fu lo stesso Tricomi a raccontare nel 2002 a Mario Spezzi che il Fiori si era recato fisicamente nel suo ufficio con in mano il foglio di giornale che parlava dei castretti di Signa sul quale foglio secondo lo Spezzi vi era l'annotazione di un anonimo che suggeriva di andare a dare un'occhiata al fascicolo processuale Mele-Signa a Perugia e sappiamo anche che la dichiarazione scritta rilasciata dall'occasione dal Tricomi allo Spezzi ha comunque confermato se non il biglietto anonimo almeno la circostanza che il Fiori avesse in mano questo foglio di giornale che parlava del Mele e del duplice delitto di Signa non di altri casi è quindi indubitabile che in questi decisivi contatti iniziali tra dell'amico Fiori e Tricomi si parlò di Castelletti di Signa e fu più parlare di Castelletti di Signa che dell'amico inviò il suo sottoposto Fiori nell'ufficio del giudice istruttore competente per il caso del mostro tuttavia è altrettanto aggettivo secondo questa è la seconda premessa che il dell'amico anche sulla base di semplici considerazioni di logica e di buon senso era nella posizione di dover giustificare il fatto che proprio in quell'estate dell'82 lui stesse ritirando fuori il caso chiuso di Castelletti di Signa un caso che in effetti presentava immediatamente evidenti agganci ai successivi duplici omicidi attribuiti al mostro vittimologia arma munizionamento arma che non si era mai trovata ritrovata e sul quale proprio il dell'amico aveva condotto in prima persona le indagini sicché era del tutto naturale che ci si potesse chiedere come mai solo in quel momento dopo ben quattro duplici omicidi di coppio e gli stesse facendo questo collegamento ed è chiaro che il tricomi pur non uso a sollevar dubbi a far troppe domande riguardo ciò che gli diceva la sua funzione di polizia giudiziaria come abbiamo detto e come meglio specificeremo tra poco sicuramente chiese al dell'amico o al fiori scusate ma come ci siete arrivati a ritirare fuori questo caso del 68 tanto più lo ripetiamo che era lo stato lo stesso dell'amico a condurre le indagini sul campo su quel caso circostanza che non è che si poteva tenere nascosto e si trattava di un caso con due morti ammazzati non di un furtarello di noccioline e con una serie di singolarità la presenza di un bambino in auto un marito oligofrenico del tutto incompatibile con la dinamica dell'azione omicidiaria la probabile presenza sulla scena di più duplice delitto di tutta una serie di personaggi di cui il male era succubo da anni alcuni dei quali avevano anche avuto prolungate storie sessuali peraltro più che sentimentali quella di lui moglie uccisa un caso che era che non era certo facile sostenere di aver completamente rimosso dalla memoria il dell'amico era tenuto a spiegare il motivo per cui se ne veniva fuori tutto ad un tratto e solo in quel momento con la storia del duplice omicidio del 68 e con la richiesta rivolta al giudice istruttore di acquisire il fascicolo del processo Mele dal tribunale di Perugia è chiaro che doveva giustificare come dice perché viene fuori ora a dirmi avrà pensato che devo richiedere il suo fascicolo del processo Mele a Perugia ebbene le note scritte dall'ufficio della PM e dall'ufficio del giudice istruttore Vincenzo Pericomi le abbiamo lette prima sono uno dei fatti che abbiamo messo uno dietro l'altro rispettivamente del 20 agosto e del 29 ottobre 1982 provano e verrebbe da dire al di là di ogni ragione pure dubbio che il dell'amico Eolfiori che però del dell'amico era sottoposto dissero al giudice Sottore Trico in quei primi contatti avevano venuti nella prima quindicina di luglio 1982 che si era resumato nel caso dei castelletti di Signa per via di una lettera anonima parrebbe dunque più che più veritiera la versione dell'incontro tra fiori e Tricomi che troviamo in dolci collinei sangue che non la dichiarazione scritta scusate che lo stesso Vincenzo Tricomi rilasciò allo Spezzi in quell'occasione a inizio nel 2002 ipotizzo che quando si trattò di mettere il nero su bianco cosa era veramente accaduto in quell'incontro come diciamo gli chiedeva allo Spezzi il Tricomi non spese tutta la storia poiché comunque per anni si era raccontato anche a magistrati la favoletta dell'improvviso ricordo del maresciallo Fiori fulminato sulla via di Damasco e quindi l'ex giudice sottore del caso mostro ebbe probabilmente qualche remola a mettere per iscritto che si erano raccontate frotto ma anche se fosse vera la versione dei fatti raccontata da Mario Spezzi comunque quel biglietto attaccato al foglio di giornale sarebbe stato quasi certamente scritto da un cittadino amico o dell'amico perdonatemi la facile battuta di Borgogni Santi , più che da un cittadino amico esterno al mondo delle indagini perché del tutto è un verosimile che una segnalazione di quell'importanza una volta mostrata al giudice e istruttore del caso mostro sia poi immediatamente sparita per caso cioè per distrazione o ciaccioneria di qualcuno a Borgogni Santi come qualche animapia fra i mostrologi crede sia avvenuto quindi una segnalazione anonima su Singa o non c'è mai stata o se c'è stata è nata ed è subito morta più correttamente è stata fatta sparire a Borgogni Santi ma in entrambi i casi si deve parlare di segnalazione non anonima ma di Borgogni Santi quale segnalazione che ha aperto la via alla pista santa ma fate attenzione amiche ed amici la lettera anonima menzionata prima nella signora della Monica e successivamente dal Tricomi nelle loro richieste del 20 agosto del 29 ottobre non è una segnalazione anonima necessariamente esistita cioè non è necessariamente una segnalazione di un soggetto anonimo esterno a Borgogni Santi realmente esistita è semplicemente la lettera anonima che avevano in mente i due magistrati a seguito dei contatti della prima quindicina di luglio avvenuti tra il dell'amico e il suo sottoposto Fiori e il giudice istruttore Vincenzo Tricomi e cioè la lettera anonima di cui lo stesso dell'amico e o il suo subordinato Fiori parlarono al Tricomi parlarono al Tricomi per giustificare il fatto che si stesse chiedendo al giudice istruttore del caso mostro di andare in cerca del fascicolo del processo Mele con relativa sorpresa di Pasqua attaccato e nella quale lettera anonima il giudice istruttore riferì poi all'APM del caso mostro Silvia della Monica questo teniamolo sempre bene in mente amiche ed amici quindi una lettera anonima di cui parlano dell'amico Fiori quello che innesca poi le eventuali le eventuali malinformazioni ma dell'amico Fiori non è che avevano equivocato hanno detto che era stata una lettera anonima una lettera anonima su sì che gli aveva fatto tornare in mente il caso ma a questo punto nell'estate del 2021 addirittura quindi 39 anni dopo i fatti che stiamo qui analizzando colpo di scena dopo un video di un paio di anni fa appunto del nostro canale riguardante proprio il cruciale passaggio dell'apertura della pista salda e in particolare la segnalazione la segnalazione anonima nata e morta a Borgogni Santi e quindi di Borgogni Santi con cui si aprì la pista salda se ne esce il noto canale comico Mark and Friends Channel Show con l'usuale clamoroso scoop grande scoperta di questo canale ladies and gentlemen proclavo allo spassoso anchorman di quel canale o anchorman di noi inglesi ci aspettiamo sticker e offerte varie a pioggia in anteprima solo per voi abbonati diamo la grande notizia è la lettera anonima del fattaccio del galluzzo quella di cui scrivono la della Monica e il Tricomi nelle loro comunicazioni scritte del 20 agosto e del 29 ottobre dell'82 ci sono i riferimenti esulta il comico conduttore di quel canale ma in realtà questa è la prima in ordine temporale delle due stupidaggini prodotte dal comicissimo Market Friends Channel Show e più precisamente dai burattinai che muovono le fila del simpatico comico conduttore Aragnino stupidaggini riguardanti il cruciale passaggio dell'apertura della pista sarda che è un po' la vera scoperta di questo canale l'altra essendo quella del ritrovamento dell'auto del Francesco Vinci a Civitella Paganico che avrebbe aperto la pista sarda bufala di cui si è già detto osserviamo innanzitutto che questi riferimenti che secondo questo canale comico inequivocabilmente collegherebbero la lettera del galluzzo effettivamente giunta in procura nei giorni successivi all'aggressione di Baccaiano indicativamente negli ultimi giorni di giugno 82 alle comunicazioni scritte dagli uffici della Monica e del Tricomi rispettivamente del 20 agosto e del 29 ottobre del 1982 riferimenti che il simpatico comico Aragnino lascia intendere agli sproveduti che gli danno retta che siano una sorta di numero di protocollo questi riferimenti sono in realtà una frasetta che si legge nella lettera del galluzzo il cui anonimo estensore che oggi alcuni ritengono possa essere tale a Maruccelli De Biase che l'avrebbe scrittamente se si trovava in carcere un dato questo che sarebbe anche interessante ma questa info noi la prendiamo col beneficio di inventario perché non riteniamo sia sufficientemente verificata ebbene scrive questo anonimo estensore che il fattaccio del galluzzo era il primo di cinque non di quattro delitti del mostro sono questa frasetta i tanto strombazzati riferimenti annunciati in pompa magna dal nostro comico amico del Mark and Friends Channel Show che ovviamente non dà la ben che minima considerazione né ai contenuti di questa lettera anonima né tantomeno all'iter cui questa segnalazione è stata sottoposta una volta giunta in procura e il perché è ovvio considerare questi elementi sostanziali anziché il solo farlocco riferimento costituito dalla frasetta di cui abbiamo ora detto smonterebbe immediatamente l'assurda tesi portata avanti dal canale comico ma che purtroppo ha ingannato anche alcuni che hanno partecipato ai lavori della commissione parlamentare antimafia dello scorso anno che si è occupata delle rivelazioni di Angelo Izzo sul caso Corazzini e che ha toccato anche alcune questioni della vicenda del mostro tra cui anche questa dell'apertura della pista sarda la tesi cioè che sarebbe stata la lettera del Luz la lettera anonima che Silvia della Monica che sia Silvia della Monica che Vincenzo Tricomi menzionano nelle loro comunicazioni o richieste scritte rispettivamente del 20 agosto e del 29 ottobre 1982 bene allora vediamoli brevemente noi visto che furbescamente non ha inteso farlo il Mark & Friends Channel Show il contenuto è soprattutto l'iter subito da questa lettera anonima del Galluzzo scoperta tra virgolette con grande clamore da questo canale nell'estate dal canale quindi del Mark & Friends Channel Show nell'estate di due anni fa 39 anni dopo i fatti dell'82 partiamo dal contenuto secondo l'anonimo estensione della lettera del Galluzzo il primo delitto del mostro fu un banale fatto di corona canera il fattaccio non di via Merulana ma del Galluzzo che è superfluo dire che nulla aveva a che vedere con i dubici dei mostro di Firenze e nel quale per fortuna le conseguenze più gravi furono alcune lesioni e qualche giorno di ricovero in ospedale subiti da un'anziana signora cui si voleva sottrarre nel denaro un fattaccio velocemente risolto con rapida assicurazione alla giustizia del valordo colpevole e risolto e indovinate un po' da chi ma abbiamo detto ma ovviamente sempre del nostro uomo cioè dall'allora giovane tenente o l'inter dell'amico del nucleo operativo di Borbogni Sala questo anonimo del Galluzzo infine concludeva con il decisivo suggerimento agli inquirenti di ricercare il mostro udite udite nell'ambiente delle officine meccaniche beh si presume quella della val di Pesa ragionevolmente ma cercare razionalità in una segnalazione del genere è a due imprese un contenuto che parla da sé inutile a spenderci più di tante parole basterà dire che a Borbogni Santi dove quel caso era evidentemente ben noto essendo stato indagato e risolto proprio da colui che nel 1982 era capo del nucleo investigativo di quel comando ah già dimenticavo ma era un po' sbemolato ci si mise forse qualche minuto giusto il tempo di leggere la lettera per classificare quella farneticante segnalazione come priva di qualsivoglia valore investigativo questo dunque il contenuto ma veniamo ora all'iter subito da questa segnalazione anonima una volta giunta in procura a Firenze come si è detto indicativamente verso fine giugno 82 bene questo iter conferma definitivamente quanto ho appena detto circa la totale irrilevanza attribuita a questa segnalazione che invece secondo i monoratori del comico di Anagni avrebbe confuso le idee ai magistrati incaricati dell'indagine sul mostro almeno fino all'ottobre dell'82 che è la data della nota scritta della richiesta scritta di Tricomi al tribunale di Palermo in base alla procedura concordata tra procura e funzione di polizia giudiziaria che nell'82 era come noto Borgogni Santi per il trattamento delle numerose segnalazioni anonime e non segnalazioni di regola farneticanti che arrivarono a frotte in procura o a Borgogni Santi negli anni di attività del vostro e ne arrivavano di queste segnalazioni in particolare nelle settimane successive a ogni duplice delitto la letterolima del fattaccio del Galluzzo fu subito inviata a Borgogni Santi dalla procura assieme ad altre segnalazioni pervenute sempre in procura nei giorni seguenti l'aggressione di Baccaiano per l'esame preliminare della funzione di polizia giudiziale questa trasmissione avvenne il 2 luglio 1982 e poi una volta assaminata da quelli del nucleo investigativo il 24 agosto 1982 questa lettera del Galluzzo fu restituita da Borgogni Santi alla procura ma insieme a tutte le altre segnalazioni pervenute nel post Baccaiano con lettera accompagnatoria che precisava come nessuna di queste segnalazioni avesse un qualche valore investigativo e che pertanto si rinviavano in procura per l'archiviazione del fascicolo del PM al riguardo si deve tenere conto che di solito e così si fece nel 1982 Borgogni Santi rinviava in blocco in procura tutte le segnalazioni conseguenti un duplice delitto che aveva preventivamente esaminato in quanto funzione di polizia giudiziaria dopo un certo tempo variabile cioè non codificato di norma quando il flusso di queste segnalazioni si affievoliva o cessava passato un certo un certo tempo diciamo così da un duplice delitto questo a meno di una segnalazione che si fosse ritenuta di un qualche valore investigativo che in quel caso si sarebbe subito senza attendere inviata o restituita in procura cosa mai successa negli anni del mostro va detto la della Monica del luglio del 1982 pensava invece che fosse giunta una segnalazione di questo tipo cioè avente elevato valore investigativo ma non era così la PM era stata mal informata e sappiamo da chi perché lo scrivo della stessa PM e cioè dal giudice istruttore Tricomi a sua volta imbeccato come ormai sappiamo da dell'amico Fiori del nucleo investigativo di Borgo di Sante e certo non stupisce che la lettera del frattaccio del Galluzzo sia stata considerata priva di valore investigativo da Borgo di Sante e che quindi non sia stata segnalata e rinviata subito in procura una volta letta a Borgo di Sante attesi i suoi farneticanti contenuti che abbiamo qui brevemente illustrato ma chiude definitivamente ogni possibile discorso sulla segnalazione anonima del Galluzzo quale lettera che avrebbe come dire generato equivoci o portato addirittura all'apertura della pista sarda il fatto indubitabile che nessuno e quando dico nessuno significa nessuno fa anche solo una mezza parola di questa lettera anonima del Galluzzo né nell'estate dell'82 né nei mesi e anni che seguivano la lettera anonima del Galluzzo fu definitivamente archiviata nel fascicolo del PM nell'agosto dell'82 con tutte le altre segnalazioni giunte del post baccaiano in quanto come tutte queste altre segnalazioni ritenuta priva di qualsivoglia valore investigativo e fu per la prima volta menzionata ancorché non esplicitamente quindi il termine corretto sarebbe presumibilmente menzionata dal giudice Rotella nel 1989 ben sette anni dopo i fatti dell'82 ma è Rotella la menzione solo per dire che non è stata certa quella insulsa lettera anonima a far aprire la pista sarda nel quadro di ragionamento più ampio con cui il magistrato sosteneva giustamente come non risultassero esserci state segnalazioni anonime di sorta che avevano fatto aprire quella pista e non accennando nell'occasione di Rotella ovviamente ad alcun equivoco che questa segnalazione del Galluzzo potesse avere ingenerato ignorando peraltro il Rotella a quanto pare l'esistenza sia dell'appello a mezzo stampa al cittadino amico di cui ora diremo sia delle comunicazioni scritte di Della Monica e Tricomi in cui si menziona esplicitamente una lettera anonima quale elemento che aveva condotto l'apertura della pista sarda questo per dire cosa? che del cosiddetto equivoco del Galluzzo si parla per la prima volta in assoluto nel canale comico Mark & Friends Channel Show nel doveroso riconoscimento al Mark & Friends Channel Show nel merito di questo scoop più correttamente da definirsi come bufala d'altra parte questa fonte è per definizione inattendibile per ogni storico minimamente serio in quanto fonte non imparziale la cui ragione sociale è la difesa della verità giudiziale a ogni costo e contro ogni evidenza anche se come si è detto purtroppo questo concetto è errato dell'equivoco unitamente alla cattiva comunicazione fra magistrati e ingredienti del caso mostro è poi stato ripreso dalla commissione parlamentare che nel 2022 si è occupata anche di questo delicato passaggio dall'apertura della pista sarda fra l'altro facendo pure incazzare il comico Anagnino che ha strillato peraltro a ragione che quelli della commissione lo avevano ignorato e lo avevano riconosciuto la paternità di questo scoop bufala ragazzi non a caso vi dico che il market French Channel Show è guardato troppo poco bisogna guardarlo invece c'è da spezzarsi in due delle risate altro che oggi le comiche ma non voglio qui dire che la comunicazione e lo scambio di informazioni fra i PM e il 12 strutturato del caso mostro sia stata un'occasione ottimale anzi tutt'altro come ora vedremo ma enfatizzare questo come ha fatto la commissione antimafia purtroppo sulla scena del market French Channel del market French Channel Show significa mettere in ombra un fatto cruciale un fatto che con altre clamorose circostanze che ora analizzeremo in dettaglio cambiano l'intero modo di guardare alla vicenda del mostro di Firenze sostenere l'inverosimile inesistente equivoco generato da una segnalazione anonima alla quale i fatti ci dicono che non fu data alcuna rilevanza da chi che sia nei giorni dell'apertura della pista sarda significa mettere in ombra la cruciale circostanza che i magistrati che i magistrati che si occupavano in quel periodo del caso del mostro furono disinformati tricomi innanzitutto e per mezzo del tricomi poi Izzo e della Monica furono disinformati dagli uomini di Borgogli Santi che aprirono la pista sarda nel luglio del 1982 questi uomini di Borgogli Santi volontariamente confusero le acque dei magistrati che indagavano sul killer delle coppie e in particolare essi disinformarono direttamente il solo giudice istruttore trico ricordate sempre quanto abbiamo detto poco fa in ordine alla tattica che giocarono i nostri amici di Borgogli Santi nei giorni in cui fu aperta la pista sarda la tattica cioè di interloquire esclusivamente con gli istruttori tricomi evitando accuratamente in quel frangente l'interlocuzione diretta con i PM incaricati dell'indagine sul caso mostro Adolfo Izzo e Siva della Monica i quali come da piano avrebbero dovuto essere informati e furono infatti informati dei tanto inattesi quanto clamorosi sviluppi delle indagini ma non dagli uomini di Borgogli Santi che quegli sviluppi avevano impresso le indagini del mostro ma dal giudice istruttore di quel caso il dottor Vincenzo Tricomi sono come si è visto il contenuto dello stesso ITER della lettera onema di Galluzzo a discludere ogni possibilità che si sia verificato l'equivoco che invece alcuni appassionati e studiosi della vicenda credono possa essersi verificato qualcuno è in buona fede qualcun altro con intento che non è possibile definire se non come nei fatti depistanti ma anche sfortunatamente in commissione parlamentare antimafia che ahimè ha boccato al tranello predisposto dagli occulti burattinai che muovono le figlie del comico di Anagni un equivoco quindi un equivoco sostengono diversi mostrogi di fatto seguendo le tesi del Mark and Friends Channel e del show addirittura dunque un equivoco innescato dalla lettera onema del fattaccio del galluzzo ma un equivoco riguardo a non si capisce cosa e soprattutto come possa essersi verificato e soprattutto non si capisce perché gli uomini di Borgogni Santi dell'amico Fiori avrebbero dovuto anche solo accennare al tricomi del delirante anonimo del galluzzo perché se equivoco ci fu come erroneamente ma da parte di alcuni strumentalmente si sostiene allora è chiaro che dell'amico e o Fiori avrebbero dovuto fare almeno qualche accenno all'anonimo del galluzzo al giudice sottore tricomi accenno non compreso cioè equivocato dallo stesso tricomi che poi ma riferì a Sive della Monde peccato che non si riesca a trovare alcuna ragione razionale al mondo perché i due nostri amici di Borgogni Santi possano in che primi contatti da cui fu appresa la pista sarda quindi nella prima quindicina di luglio dell'82 aver fatto al giudice tricomi anche solo un cenno alla delirante lettera del galluzzo che a Borgogni Santi era stata letta e subito accantonata in quanto evidentemente priva di valore investigativo e del resto abbiamo già detto era stato proprio il fattaccio del galluzzo era conosciuto a Borgogni Santi era stato dell'amico a indegare a indegare e a fermare assicurare alla giustizia il balordo colpevole di quel crimine e allora per qual motivo farne cenno al tricomi di questa come si è detto delirante segnalazione quando si andò dal tricomi per da giudice istruttore appunto per parlargli del caso di Castelletti di Signe è semplicemente un non senso oltre che una mena di tutto infondata cioè prima di qualsiasi scontro oggettivo supposizione ipotizzare un equivoco dovuto alla lettera del galluzzo del galluzzo non si è semplicemente mai parlato nei contatti fra dell'amico e Fiori da una parte e il tricomi dall'altra i contatti cioè che innescarono gli eventi che portarono poi all'apertura della pista sarda nei primi giorni di agosto del 82 lo abbiamo già detto l'equivoco del galluzzo non la lettera del galluzzo che è veramente arrivata in procura nei giorni successivi dell'aggressione di Baccaiano è né più né meno questo equivoco del galluzzo semplicemente un falso ideato dai monoratori occulti del simpatico comico di Aragni allo scopo di smentire e alzare fumo su ciò che per primi e unici noi in questo canale abbiamo detto e continuiamo senza tema a sostenere e che qui ora torniamo a dimostrare cosa che adesso siamo pronti a fare in ogni opportuna sede la segnalazione anonima del caso di Castelletti di Signa quale primo duplice delitto e sottolineo duplice delitto del mostro di Firenze di cui della Monica e Trico mi scrivono a chiare lettere nelle loro richieste formali del 20 agosto e del 29 ottobre rispettivamente in realtà non è mai esistita la segnalazione del caso di Castelletti di Signa la segnalazione del caso di Castelletti di Signa quale possibile primo duplice delitto del mostro di Firenze fu segnalazione non anonima ma segnalazione nata e morta a Borgogni Santi come l'abbiamo definita in questo canale ma più precisamente dovremmo dire opera del nucleo investigativo di Borgogni Santi e in particolare di chi in quel nucleo sul caso di Castelletti di Signa aveva a lungo indagato perché fu un'indagine quella sul duplice di Castelletti di Signa che impegnò a dell'amico per diversi mesi abbiamo già detto ancora a maggio del 69 circa nove mesi dopo i fatti dell'agosto 68 l'indagine era di fatto ancora in corso visto che si andò in quel mese a interrogare per la prima volta Silvano Vargio in merito all'alibi fornito da Salvatore Vinci per la notte dell'omicidio l'occido bianco e considerato altresì che la condanna del Mele in appello fu annullata dalla Cassazione tanto che l'iter giudiziario contro il Mele si prolungò fino al 73 e veramente volete farci vedere l'assurdità che uno come olinto dell'amico avesse rimosso dai suoi ricordi quel caso già nel 74 a neanche un anno dalla sentenza passata giudicata nei confronti di Stiano comele non certo del Galluzzo ed elettronimo del Galluzzo il dell'amico e o il fiori parlarono al Tricomi in quella cruciale prima quindicina di luglio del 1982 quando il dell'amico prese la decisiva iniziativa che spinse i magistrati incaricati dell'indagine sul mostro a riprendere in mano il duplice diritto del 68 avvenuto a Cassetti di Signa sul quale era stato proprio lui dell'amico a indagare a luogo e largo quattordici anni prima i due o uno dei due uomini di Borboni Santi ma ricordiamoci sempre amico e amici chi era subordinato e di chi con il Tricomi parlarono invece forse anche mostrarono ma in tal caso la fecero poi sparire subito in quanto farlocca di una segnalazione anonima lettera un biglietto o annotazione su foglioni di giornale che fosse che uno era arrivata in procura del post-baccaiano che due come da Prassi nel tempo del mostro era stata letta per la prima volta a Borboni Santi in quanto funzione di polizia giudiziaria e che tre richiamava l'attenzione su un duplice delitto perché sia la richiesta della Monica del 20 agosto sia la rogatoria del Tricomi due mesi dopo menzionano infatti una lettera che aveva richiamato l'attenzione su un duplice delitto un duplice delitto avvenuto nel 68 in provincia di Firenze e non ci si poteva sbagliare né confondere né equivocare perché solo un duplice delitto ai danni di una coppia in auto era avvenuto nel 68 in provincia di Firenze comunque prima del 74 in provincia di Firenze quello di Castelletti di Signia ai danni di Barbara Rocci e Antonio Robianco come da adesso scrive a chiarissime lettere il Vincenzo Tricomi il 29 ottobre del 1982 voglio rileggere perché questa è importante cosa scrive Tricomi il 29 ottobre ragazzi il 29 ottobre il Tricomi scrive a seguito di segnalazione anonima che esisteva un quinto duplice omicidio non il fattaccio del Galluzzo commesso dal cosiddetto mostro si risaliva all'omicidio lo Bianco Antonio e l'Orci Barbara commesso nel 68 in relazione al quale era stato condannato il marito della Orci ma più chiaro di così quindi quindi era una lettera anonima che parlava di castretti di signa ok e infine questa lettera anonima suggeriva di dare un'occhiata al processo Mele cioè al fascicolo Mele-Signa che era a Perugia come del resto verosimilmente ebbe a riferire solo verbalmente purtroppo allo Spezzi il giudice Tricomi nel gennaio 2002 e questo si doveva raccontare Spezzi stesso nel libro scritto a quattro mani con il giudice americano Preston dolci colline diciamo ok quindi il il questa era ciò che avevano in mente della Monica il 20 agosto e Tricomi addirittura il 29 ottobre non di Galluzzo o di altre cose e perché avevano in mente perché nei contatti iniziali fra dell'amico e Fiori e Tricomi si parlò della lettera anonima su Signa questo disse dell'amico e Fiori ai giustificazioni del fatto che si stava tirando fuori il caso i cassetti di Signa in quel luglio 82 e che si stava chiedendo al Tricomi acquisisci il fascicolo del processo mese ok giustificarono questo con una lettera anonima il problema è che una si fatta lettera anonima in atti non esiste una segnalazione di un ignoto esterno a Borgogni Santi che parlasse del caso di Cassetti di Signa non risulta essere mai pervenuta in procura e non essendo presente in atti se ne deduce che non è mai esistita una lettera anonima di un ignoto cittadino che abbia fatto ricordare a Borgogni Santi del caso di Castelletti di Signa e questa conclusione è assolutamente irragionevole considerato che il capo del nucleo di Borgogni Santi era proprio colui che su quel caso aveva in prima persona a lungo e largo indagato in prima persona e non aveva certo bisogno di aiuti né esterni né interni per ricordarsi di un caso di duplice omicidio che noi conoscevamo benissimo in ogni dettaglio come vi faremo vedere ancora meglio nel prossimo video ma se equivoco causato dall'anonimo del Galluzzo non ci fu come abbiamo qui ampiamente dimostrato allora si trattò di una bugia una bugia che gli uomini di Borgogni Santi dell'amico e il suo sottoposto Fiori dissero al giudice sottore Tregoli che poi inconsapevolmente in quanto disinformato dai due del nucleo investigativo di Borgogni Santi malinformò la Silvia della Monica ma direi piuttosto i due PM incaricati del caso mostro Silvia della Monica e Adolfo Rizzo a questo punto però si presenta un'ulteriore questione molto rilevante che ora chiariamo per quanto possibile la Silvia della Monica inizia a chiedere molto presto dopo il 20 luglio per le vie brevi cioè non formalmente a Borgogni Santi la lettera anonima di cui il Tricomene aveva parlato lo scrivo di Artesapm il 20 agosto che la sua richiesta formale seguiva sue ripetute sulle citazioni verbali fatte a Borgogni Santi alle quali evidentemente Borgogni Santi aveva fatto orecchio da mercante siamo infatti nel periodo di blackout dei contatti fra il nucleo investigativo e la PM che era iniziato nei giorni successivi l'aggressione di Balcaiano io dico dal blef giocato dalla PM il 22 giugno blackout che durerà fino al 24 agosto infine come sappiamo il 20 agosto la PM si decide a farla per iscrivere si decide a farla per iscritto la richiesta a Borgogni Santi di avere indietro quella importante lettera anonima di cui aveva parlato a giudice e istruttore vista l'inutilità delle sue sollecitazioni verbali al nucleo investigativo di Borgogni Santi ma quando il 24 agosto la della Monica ebbe finalmente di ritorno da Borgogni Santi tutte le segnalazioni giunte nel post Balcaiano che il 2 luglio precedente la procura aveva inviato a quel comando per le indagini preliminare della funzione di polizia giudiziaria quindi lettera del Galluzzo inclusa la PM dovete prendere atto che nessuno di queste segnalazioni come il resto scriveva lo stesso Borgogni Santi nella sua lettera accompagnatoria tuttora disponibile in atti era di un qualche valore investigativo ma soprattutto che nessuna di queste segnalazioni aveva le caratteristiche i contenuti della lettera di cui le aveva parlato Vincenzo Trico cioè della lettera menzionata dalla stessa della Monica nella sua richiesta scritta del 20 agosto una lettera che sino a quel momento la PM aveva più volte richiesto senza alcun esito come sappiamo al nucleo investigativo di Borgogni Santi una lettera che era giunta in procura e che lei voleva che Borgogni Santi le restituisse quanto prima quindi non secondo procedura ordinaria in quanto di massimo valore investigativo ritenendo la PM lo scrive lei stessa il 20 agosto che l'autore di quello scritto fosse a conoscenza dell'identità dell'assassino delle coppie e attenzione la deduzione della PM era più che corretta poiché quello scritto aveva condotto la scoperta di reperti balistici esplosi dall'arma del mostro nel tribunale di Firenze e l'anonimo autore molto probabilmente sapeva questo fu il corretto ragionamento della Monica che cosa si sarebbe trovato nel fascicolo dove lui in quel momento stava suggerendo agli inquirenti di andare a dare un'occhiata e quindi questo anonimo per forza di cose o era il mostro o era qualcuno che conosceva bene il mostro una lettera anonima che la PM si aspettava di trovare pur tardivamente perché essendo del massimo valore investigativo comunque avrebbe dovuto essere restituito quanto prima al suo ufficio come una procedura concordata e questa l'aveva trovata finalmente si aspettava di ritrovarla dicevo fra le segnalazioni che Borgogni Santi aveva rimandato indietro il 24 agosto e che invece ora il 24 agosto che tutte queste segnalazioni guarda sei lettere regaluzzo inclusi erano tornate finalmente in procura lei stava vedendo che erano le solide insulse segnalazioni del tipo delle tante che negli anni del mostro obbedarono procura ai Borgogni Santi questo fu un momento assolutamente delicato per non dire cruciale di tutta l'operazione camuffata false flag apertura della pista sarda la PM avrebbe potuto reagire chiedere conto dov'è questa lettera anonima che ha fatto aprire la pista sarda perché avete detto certe cose che ora non trovano alcun riscontro ma gli effetti dell'intelligente mostra dell'amico di cui si è detto cioè circoscrivere l'interlocuzione con il solo giudice sottore tricomi nei giorni in cui si aprì la pista sarda furono portate all'incasso proprio quel 24 agosto è evidente che della Monica si attendeva a risolvere la lettera che stava richiedendo da un po' a Borgogni Santi e che aveva chiesto in forma scritta solo 4 giorni prima fra quelle rinviate dallo stesso Borgogni Santi il 24 agosto una lettera anonima che richiamasse l'attenzione sul caso dei castretti di Signa quale primo duplice delitto del mostro e fu subito evidente all'APM che questa lettera non c'era fra le segnalazioni che Borgogni Santi aveva restituito in procura il 24 agosto ma chi alla della Monica aveva parlato di questa lettera anonima? non erano stati gli uomini di Borgogni Santi che l'avevano detto di questa fantomatica lettera anonima bensì il giudice Vincenzo Tricomi era dunque semmai a Tricomi che la Silvia della Monica avrebbe dovuto chiedere conto la Silvia della Monica non lo fece noi oggi non possiamo dire con certezza stanti il silenzio e in un ricordo dietro ai quali si è ormai da anni trincerata la dottoressa della Monica perché ella non chiese conto non possiamo ecco dire con certezza come mai ella non chiese conto al Tricomi di questa apparente stranezza possiamo però dire con relativa certezza che il Tricomi alla della Monica e le sue beghe su questa lettera anonima che come si è detto secondo la PM era probabilmente opera del mostro o di qualcuno vicino al mostro ormai lui non aveva più tempo da dedicare ormai per il giudice istruttore l'unica cosa che contava era il fatto che la polizia scampinata avesse dimostrato senza ombra di dubbio che i bossoli ritrovati a Firenze nel fascicolo del processo Melle erano stati esplossi della pistola del mostro e che come gli aveva assicurato dell'amico e questo lo vedremo tra poco questi bossoli erano coerenti con la descrizione che ne aveva fatto Zungini nel 68 non voleva perdere il minimo tempo dietro alle quisquie della della Monica il giudice istruttore per il Tricomi il caso è ormai risolto inutile divagare spaccare il capello in quattro tanto che come ben sappiamo il 29 ottobre ben due mesi dopo dalla restituzione alla procura da parte di Borgogni Santi tutte le segnalazioni anonime che erano giunte nel post baccaiano tutte giudicate a preve di valore investigativo da Borgogni Santi il Tricomi scrive in perterrito al tribunale di Palermo che si era giunti a resumare il fatto di esame dei castri di Trisigna grazie a una lettera anonima sulla base della quale si era risalita al duplice omicidio l'occido bianco parole del Tricomi che abbiamo letto poco fa il quale è il primo duplice omicidio del mostro di Firenze evidentemente per il Tricomi questa fantomatica lettera anonima era un dato di fatto gli avevano parlato dell'amico e fiori a luglio di questa segnalazione e quindi questa per lui era la realtà sulla quale sarebbe stato solo tempo sprecare star lì a disquisire addirittura a indagare a indagare come voleva fare quella rompiballe della della Monica ma se il Tricomi avesse dato anche solo un'occhiata alla risposta che Borgogni Santi chiede il 24 agosto alle note dell'ufficio della PM del 2 luglio e del 20 di agosto egli non avrebbe potuto tranquillamente scrivere il 29 ottobre che era per via di una segnalazione anonima che si era giunta a risumare il duplice delitto l'occilo bianco parole di Tricomi dove era questa fantomatica segnalazione anonima che aveva portato all'attenzione il duplice delitto di Castelletti l'aveva imboscata da qualche parte o se l'era persa Borgogni Santi come qualche ingenuo mostrologo con Tassua sostiene per certo una lettera anonima del genere non c'era fra quelle che Borgogni Santi aveva inviato il 24 agosto e il Tricomi avrebbe avuto titolo e io credo manca il dovere di chiedere conto al dell'amico con il quale il duplice istruttore aveva interloquito direttamente a differenza dei PM incaricati del caso mostro il quale di questa lettera anonima e dell'inaspettata svolta impressa all'indagine dell'amico con il suo sottoposto Fiori così come dei suoi dei successivi clavorsi sviluppi erano sempre stati informati ma sempre dal giudice e struttore Trico se non che il Tricomi a questa questione della lettera anonima non era in alcun modo interessato altrimenti avremmo voluto prendere conoscenza della comunicazione di Borgogni Santi il 24 agosto e lo ribadiamo se solo ne avesse presa conoscenza di questa comunicazione di Borgogni Santi nel 24 agosto non avrebbe mai scritto il 29 ottobre di una lettera anonima che aveva condotto a riprendere in mano il caso del duplice delitto L'Occidobiano perché non c'è una traccia alcuna di una lettera anonima del genere nella documentazione che Borgogni Santi aveva restituito alla procura il 24 agosto e credo altresì che la Silvia della Monica non sarebbe rimasta silente il 24 agosto se di questa lettera anonima ne avesse parlato direttamente il dell'amico o il sottoposto del dell'amico maresciallo Fiori ma questi due si erano sempre guardati bene dal parlare con la della Monica come si è qui ampiamente illustrato costoro avevano badato a interlopire sempre e solo con il malleabile e sotto controllo tricomi evitando di parlare con i due PM incaricati del caso del mostro pertanto la Silvia della Monica che di questa lettera anonima aveva saputo dal tricomi e che ovviamente era a conoscenza del fatto che questa informazione era venuta fuori dai contatti iniziali tra tricomi e dell'amico nella prima quindicina di luglio preferì lasciar perdere la questione se la vedesse se la vedesse il tricomi con quelli di Borgogni la pista sarda in fin dei conti era questione sua del tricomi e di quelli del nucleo investigativo esattamente ciò che voleva il capo del nucleo investigativo di Borgogni Santi che quella strategia aveva sapientemente giocato da navigato giocatore di scacchi o di poker vedete voi nonché da profondo conoscitore delle personalità e dei comportamenti dei magistrati della procura fiorentina non dimentichiamoci che dell'amico oltre che figura di riferimento all'interno del nucleo investigativo di Borgogni Santi fungeva anche da recruiter per conto del coesistente centro di conto sperancio del servizio segreto militare di Firenze comandato dall'uomo di cui egli era sodale storico il mago del depistaggio e della deception il colonnello Federico Margucci in casa ed essendo un recruiter per conto del servizio segreto militare il dell'amico se ne intendeva e come dell'arte della valutazione di profili umani il dell'amico l'aveva lucidamente e correttamente previsto e calcolato ciò che avrebbe fatto il tricomi una volta che si fosse riusciti a far acquisire il fascicolo nel processo Mili con sorpresa di Pasqua legata dell'amico puntò tutto con scelta magistrale nella sua semplicità ma anche sul controllabile tricomi e sulle sue prevedibili sicuramente per il dell'amico ma anche per il manucci ben in casa aggiungo io condotte e quindi a luglio si andò esclusivamente dal tricomi a raccontare la storia della lettera anonima e a dirgli che pertanto gli avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del processo Mele mentre si evitò accuratamente ogni contatto con i PM incaricati del caso del mostro e coerentemente facendo orecchio da mercante alle successive reiterate richieste verbali fine messe per iscritto della PM Silvia della Monica di rientrare in possesso della fantomatica ma è più corretto dire inesistente o finta lettera anonima sussiglia della quale lei aveva però parlato al giudice istruttore tricomi non dell'amico e o il filo sottoposto dell'amico maresciallo cortocircuito comunicativo perfetto in procura pertanto ma cortocircuito solo in parte causato da inadeguate comunicazioni fra i magistrati incaricati delle indagini sul mostro cortocircuito invece in maggior parte provocato dalla tattica magistralmente giocata dal tenente colonnello dell'amico una partita giocata sul filo del rasoio una tattica di gioco rischiosa ma fondata sulla profonda conoscenza delle personalità e dei comportamenti tipici dei magistrati inquirenti incaricati dell'indagine sull'assassino delle coppie e dei meccanismi di comunicazione all'interno della procura quindi non un mero azzardo tutto questo per tenere ben nascosta la mano leggasi la mano dell'amico e andremo a vedere su ordine di chi anche se qui l'abbiamo già menzionato colui dal quale dell'amico prendeva gli ordini che non potevano essere discursi la mano che stava lanciando il sasso leggasi che stava prendo la pista sarda cioè che stava deviando il corso delle indagini sul killer delle coppie verso il caso di Cassetti di Signa cioè sui soggetti menzionati dal colpevole designato nel 68 Stefano Mele già all'indomale di Verduce per tanto che il dell'amico e il suo sottoposto Fiori dissero agli udici e sottore Tricomi che era stata una lettera anonima riguardante il duplice diritto di Cassetti di Signa a fargli riprendere in mano quel caso chiuso da una decina d'anni con un colpevole giudizialmente accertato è documentalmente provato al di là di ogni ragionevole dubbio dalle comunicazioni scritte della PM della Monica e del giudice sottore Tricomi rispettivamente del 20 agosto e del 29 ottobre del 1982 qui come sempre vale la soglia di Ockham lo scrivono a chiare lettere della Monica e Tricomi quale fosse la lettera anonima che loro la lettera anonima che loro avevano in mente attenzione che avevano in mente perché andare a lucubrare e a rampecarsi sugli specchi no ma le due avevano in mente un'altra cosa avevano capito male Tricomi si è espresso male la lettera del Galluzzo eccetera eccetera nel tentativo di dare arzigolate spiegazioni perché dare arzigolate spiegazioni che poi non stanno né in cielo né in terra ma perché fate questo state ignorando un fatto clamoroso e che è decisivo per arrivare alla verità e invece voi cercate di giustificare e non vi accorgete nemmeno che cumulate cumulate circostanze sì ma quindi diecimila circostanze fortuite devono essere successe come ora vedremo affinché si possa formare no no ma è tutto avvenuto per caso ma dai amiche ed amici lasciamo perdere i mostrologi senza volerlo depistano occultano la verità sono nemici della verità i due magistrati quando ho scritto con le loro note oggi presenti in arti avevano in mente una ben precisa lettera che parlava di un duplice delitto di coppia avvenuto in provincia di Firenze prima del 74 e cioè del duplice delitto di Cassetti di Signo l'unico duplice delitto a danni di coppia avvenuto in provincia di Firenze prima del 74 punto e com'è che i due magistrati per prima della Moni menzionano una lettera anonima che parlava di un caso quello di Cassetti di Signo del 68 di cui sino a luglio dell'82 non avevano mai neppure sentito parlare gli era venuta l'idea in sogno come capitava un tempo con i numeri del gioco dell'otto gli avevano detto il classico uccellino una cosa è certa in quanto documentata questa idea era misteriosamente entrata nella testa del giudice istruttore e quindi della PM incaricata del caso del mostro informata dal giudice istruttore dopo i contatti della prima quindicina di luglio tra dell'amico e il suo subordinato Fiori e il giudice istruttore Vincenzo Tricomi della lettera anonima sul duplice detto di Signia alla della Monica l'aveva detto il Tricomi e a Tricomi avevano detto di questa lettera anonima il dell'amico e il Fiori punto del resto chi volete che l'aveva tirato fuori il caso di Cassetti di Signia nel 1982 se non colui che su quel caso aveva lungo e largo indagato in prima persona a 14 anni 14 anni prima e non si trattava mica di un furto di galline era un duplice omicidio per Dinci ai danni di una coppia in auto con lo stesso tipo di arma e munizione di quelli del mostro arma che anche in quel caso non si era trovata e secondo voi chiedo nel 74 il quarantennio brillante carabiniere investigatore capitano un'into dell'amico aveva rimosso ogni ricordo di quel duplice delitto su cui aveva a lungo indagato sei anni prima e il cui colpevole da lui stesso consegnato alla procura era stato condannato con sentenza definitiva sì e no un anno prima ma per cortesia ragazzi questo lo lasciamo dire ai tanti rintontiti nella più benevole delle ipotesi mostrologi noi in questo canale la testa per la giornata ce l'abbiamo per fortuna della Monica e Trico mi avevano in mente una lettera anonima da loro piuttosto precisamente identificata e chiaramente identificabile da tutti coloro che non avevano spesse fette di prosciutto sugli occhi quindi a patto di non essere uno stolto o intellettualmente disonesto mostrologo nelle loro comunicazioni scritte del 20 agosto e del 29 ottobre 1982 distanti quindi più di due mesi l'una dall'altra e quindi con tutto il tempo per chiarire un eventuale equivoco ma questo scritto anonimo era anonimo era una lettera anonima che nessuno ha mai visto e che oggi noi possiamo serenamente affermare come non sia mai esistita e chi gli aveva messa in mente allora questa lettera anonima inesistente ai due magistrati incaricati dell'indagine sull'assassino delle coppie i meri fatti ce lo dicono fu il tenente colonnello amico con il suo fidato sottoposto maresciallo Francesco Fiori che naturalmente agiva su ordini dell'amico quando nella prima quindicina di luglio del 1982 di questa segnalazione anonima e dell'amico parlò o fece dire a Fiori direttamente al giudice istruttore Vincenzo Trico e indirettamente via Vincenzo Trico ai PM incaricati del caso lo scrive della Monica il 20 agosto che a lei di questa lettera anonima aveva in effetti detto il giudice istruttore ma è ragionevole di ritenere che anche Adolfo Izzo ne fosse informato anche lui comunque per il tramite di Trico tuttavia una lettera anonima che parlava del duplice delitto di Castetti di Signa non risulta essere mai giunta a Firenze non è presente in atti nessuno l'ha mai vista dunque prima piuttosto clamorosa cugia che nel luglio del 1982 il duo dell'amico Fiori ma ricordiamoci sempre che il Fiori è un subordinato dell'amico dice al giudice istruttore Tricomi e indirettamente via Tricomi anche ai sostituti incaricati dell'indagine sul mostro Izzo e della Monica a luglio del 1982 certamente prima del 17 luglio del 1982 questi due uomini del nucleo investigativo di Borgogni Santi dissero al Tricomi e indirettamente via Tricomi anche ai pubblici ministeri Izzo e della Monica che gli era tornata la memoria a seguito di una lettera anonima che parlava del duplice diritto di Castelletti di Signa questo dissero a giustificazione del fatto che andarono dal Tricomi dicendo devi richiedere il fascicolo del processo me gli dissero che gli era tornata la memoria del caso per via di una lettera anonima che parlava del duplice delitto di Castelletti di Signa il foglio di giornale il nostro amico Fiori l'aveva sul Galluzzo l'aveva sul Signa ma una lettera anonima di questo tipo non era mai arrivata né in procura né in Borgogni Santi i due mentirono al giudice istruttore Tricomi che conseguentemente malinformò i PM della Monica e Izzo amiche ed amici prima di procedere con le ulteriori bugie di Borgogni Santi dell'estate del 1982 un'importante osservazione era correttissimo il ragionamento della Monica che voleva indagare sull'anonimo estensore della lettera di cui l'aveva parlato il giudice istruttore Tricomi l'anonimo autore di questo scritto sapeva evidentemente cosa si sarebbe trovato nel fascicolo del processo Mele nel momento in cui fece questa segnalazione così pensava la della Monica ma questo ragionamento era viziato dalla disinformazione di cui si è detto la PM riteneva che fosse giunta una lettera anonima su Castrette di Signa che invece non era mai pervenuta questa era una bugia dei nostri due di Borgogni Santi chi era la fonte primigenia di questa disinformazione qui l'abbiamo dimostrato chi era questa fonte fu il tenente colonia all'olento dell'amico che nell'occasione si è avvalse anche del suo sottoposto Fiori i quali interloquivano direttamente nei cruciali giorni dell'apertura della Trampista Sarda con il solo giudice istruttore Vincenzo Tricomi se allora nella comunicazione della PM del 20 agosto 82 e in particolare della frase in cui la PM spiega il perché lei voleva rientrare subito in possesso della lettera anonima di cui le aveva parlato il giudice istruttore Tricomi togliamo ogni riferimento alla lettera anonima e all'autore dello scritto anonimo e inseriamo invece la locuzione qualcuno del nucleo investigativo di Borgogni Santi otteniamo la seguente frase che è quella che avrebbe dovuto scrivere nella monica se avesse avuto corrette informazioni su chi nei fatti aveva aperto la Trampista Sarda questo ufficio ritiene indispensabili ulteriori indagini concernenti persona o persone del nucleo investigativo di Borgogni Santi potendosi presupporre che costui o costoro sia o sia la conoscenza dell'identità del vero assassino ebbene cari amici e amici qui abbiamo mostrato chi sarebbe stata la prima persona da indagare o da interrogare seconda bugia di quelle stato 82 detta da quelli del nucleo investigativo di Borgogni Santi questa la intitoliamo il tribunale sbagliato si sapeva che c'era con il fascicolo mele il corpo del reato ma non si sapeva che fascicolo e corpo del reato erano a Firenze non a Perugia strano no? fatto sta che dopo aver parlato con l'amico i fiori il 17 luglio 82 il tricomi invia al tribunale di Perugia richiesta scritta di acquisire il fascicolo processuale relativo al caso mele signa fascicolo che però era a Firenze e non a Perugia da almeno nove anni fra l'altro sembra dalla lettura di questa richiesta che il tricomi sapesse già cosa c'era legato a quel fascicolo leggiamo in una al procedimento intende assieme al fascicolo del processo mele mi si vorrà trasmettere scrive il tricomi anche il corpo di reato onde effettuare le comparazioni malistiche tra i bossoli repertati in occasione dell'omicidio all'occido bianco con quelli repertati nei duplici omicidi commessi in Firenze e in oggetto indicati parrebbe quindi che quando dispose questa richiesta tribunale di Prusa nel 17 luglio 1982 il tricomi fosse edotto della presenza di questi famosi repertati malistici che provenivano chissà da dove e dico chissà da dove perché non è mai stato provato che provenissero dal terreno nei cassetti di Signa nonostante il greggio mostrologico ancora oggi Beli che è provato che l'arma che uccise a Signa sia la stessa del mostro di Firenze che n perizie l'hanno dimostrato eccetera ma su questo importantissimo punto che chiama in casa fra l'altro la figura del colonnello Ignazio Scampinato ci torniamo fra poco la domanda che ora sorge spontanea è ma come faceva a sapere il tricomi del corpo del reato ancora presente con il fascicolo Melesigna visto che lui il 17 luglio richiede di acquisire questo materiale al tribunale sbagliato cioè a Perugia mentre il suo materiale era a Firenze la contraddizione è palese se infatti se infatti scusate se infatti come sembrerebbe leggendo il testo della richiesta scritta avanzata dallo stesso tricomi al tribunale di Perugia il 17 luglio il giudice istruttore sapeva che i reperti malistici erano ancora presenti in atti processuali o nel deposito dei colpi di reato possibile allora che non sapesse che quel fascicolo e quel colpo di reato non erano a Perugia ma erano quasi dieci anni presso il tribunale di Firenze per cercare di rispondere a questa domanda occorre innanzitutto ricordare che tra i fatti acquisiti che abbiamo prima elencato spero che ve li ricordiate comunque ve li ricordo io ci fosse diciamo così vi è la circostanza che il tricomi non aveva mai sentito parlare del duplice delitto di signa prima di essere contattato da dell'amico e dal sottoposto dell'amico Fiori quindi tutto ciò che il tricomi in quel frangente sa dice e fa riguardo questo caso dei cassetti di signa lo fa lo dice lo sa lo dice e lo fa su imbeccata di questi due carabinieri del nucleo investigativo cioè dell'amico e del suo sottoposto Fiori consegue il fatto che ci fosse ancora un corpo di reato assieme al fascicolo del processo Mene se consegue che il fatto che ci fosse ancora un corpo di reato assieme al fascicolo del processo Mene e che queste evidenze fascicolo e corpo di reato si trovassero presso il tribunale di Perugia sede del secondo processo di appello contro il Mene altri incominciano senza dubbio detto dell'amico e o Fiori quest'ultimo su input dell'amico evidentemente ciò che interessava dell'amico era che il tricomi acquisisse i reperti che una volta periziati sarebbero risultati esposi dalla persona del mostro ma non gli disse dove veramente si trovavano in quel momento il fascicolo processuale Mene segna e l'allegato colpo di reato tanto avrebbe trovato lo stesso il tricomi perché Perugia gli disse guarda sono a Firenze anche per non dare l'impressione il dell'amico di essere troppo informato su queste evidenze visto ciò che ci sarebbe trovato nel fascicolo Mene reperti esplosi dall'arma del mostro di Firenze ma qualcuno sarebbe anche potuto vedere il sospetto che venne alla della Monica riguardo l'estensore dello scritto anonimo su castretti di signa e in questo caso però avrebbe potuto essere lui il dell'amico il sospettato di saperla molto più lunga di quanto gli stava dando a vedere visto che era lui che aveva condotto le immagini di polizia giudiziaria su quel duplice delitto quindi direi del resto una regola di base quando si confondono le acque e si depista è mescolare verità e bugie e in effetti altricome si disse una verità la possibile esistenza in atti del corpo di reato magari menzionando agli udici struttori la prassi dello Zuntini che dell'amico evidentemente conosceva molto bene di spillare alle proprie relazioni per itale i reperti che esaminava è una bugia fascicolo reperti erano a Firenze non a Perugia anche questa pertanto sembra essere una stranezza verosimilmente rientrante nella serie di condotte più che anomale che nei giorni in cui si aprì la pista sarda i nostri uomini di Borgo degli Santi tennero allo scopo di confondere le acque del già confuso Tricomi e attraverso quest'ultimo anche le acque di Izzo della Morica che dal Tricomi furono puntualmente informati ma meglio dire disinformati riguardo agli inattesi sviluppi dell'indagine e comunque seconda bugia detta dagli uomini di Borgo degli Santi a Tricomi perché come si è detto il fascicolo del processo Mele non era a Perugia ma era a Firenze da almeno un decennio e chi crede possibile che il tridente colore dell'amico ignorasse questo e anzi ritenesse che il fascicolo del processo Mele fosse ancora nel tribunale sbagliato quando era a Firenze da quasi dieci anni è uno che crede alle favole e dell'amico disse il tribunale sbagliato per far vedere che non sapeva troppo si ricordava della prassi di Zuntini ma dice a Tricomi il tribunale sbagliato perché ricordiamoci e dell'amico sta lanciando un sasso bisogna nascondere la mano per lanciare il sasso ma di bugie e stranezze in quel luglio agosto dell'82 si sono sprecate da parte del nucleo investigativo di Borgogni Santi vediamo dunque la terza bugia l'appello a mezzo stampa del nucleo investigativo di Borgogni Santi a inesistente cittadino amico ma parleremo anche del fascicolo nei parretti come ora vedremo c'era un piano un piano come era da aspettarsi per aprire la pista salda in relativa sicurezza come ho detto si giocava una partita sul filo del rasoio una partita delicata contro la procura e la giocava la funzione di pulizia giudiziale per non dire conto vediamo dunque alla terza palla di Borgogni Santi segnatamente del capo del nucleo investigativo Olinto dell'amico dell'estate 82 dopo l'inesistente lettera anonima su Signa che aveva fatto ritornare la memoria agli smemorati di Borgogni Santi e dopo quella del tribunale sbagliato dove cercare il fascicolo del processo Mele con sorpresa di Pasqua attaccata dopo queste due abbiamo anche la terza bugia questa terza bugia però più che una palla è un classico false flag o falso segnale anche perché questa non fu una bugia detta a qualcuno in particolare è l'appello a inesistente cittadino amico fatto pubblicare dal nucleo investigativo di Borgogni Santi Legasi dell'amico sul quotidiano La Nazione in data 20 luglio 82 e quindi più o meno lo stesso giorno in cui il fascicolo del processo Mele con sorpresa di Pasqua allegata che era a Firenze non a Perugia come abbiamo detto fu sulla scrivania del giudice Vincenzo Trico giudice struttore Vincenzo Trico ebbene è un fatto incontrovertibile che questo fantomatico cittadino amico non sia mai venuto fuori ne è stato mai chiarito quali siano le plurime segnalazioni che costui avrebbe fatto come si sostiene nell'appello di Borgogni Santi pubblicato sul quotidiano fiorentino fiorentino la nazione del 20 luglio 1982 lo scenario di La Lunga più probabile è pertanto quello che vede il tenente colonnello linto dell'amico perché sappiamo che il nucleo investigativo che dispose questo appello a mezzo stampa e una cosa del genere non potesse essere fatta che su disposizione dell'amico abbia fatto fare un finto appello a mezzo stampa a una mai identificata e quindi inesistente fonte esterna probabilmente per puntellare la bugia sulla lettera anonima detta solo qualche giorno prima al Tricomi e indirettamente cioè via Tricomi alla della Monica e a Izzo che questa lettera anonima poi diciamo chiedono come abbiamo detto più volte in loro comunicazioni scritte addirittura 20 agosto della Monica e il 29 ottobre Tricomi dunque nel cioè quindi per puntellare questa bugia che avevano detto solo qualche giorno prima al Tricomi l'ipotesi che noi facciamo è che fu fatto questa pelle a mezzo stampa alla nazione ok e questo a cosa sarebbe dovuto servire sarebbe dovuto servire nel caso la procura avesse insistito nel chiedere delucidazioni su questa fantomatica lettera anonima su questa fantomatica lettera anonima che stando a quanto dell'amico e il suo sottoposto fiori dissero a giudice struttore chissà da dove chissà da dove e dico chissà da dove perché il corpo di reato non era assistito da nessuna alcuna documentazione da cui poter avere indicazioni circa il suo percorso e autenticità e questo corpo di reato erano niente poco di meno che reperti malistici esplosi dalla pistola del mostro come inoppugnabilmente dimostrò l'accertamento malistico eseguito dal perito amico ignazio spampinato era dunque più che giusto premunirsi tant'è vero che la silvia della monica aveva già iniziato a richiederla questa lettera anonima non appena edotta di questi clamorosi sviluppi innescati dagli uomini di Borgogli Santi tuttavia grazie anche all'ambile mostra di parlare esclusivamente con il giudice istruttore ideata da chi in Borgogli Santi ebbe il compito di intervenire per coprire il mostro e ora vedremo insieme amiche ed amici chi oltre l'indo dell'amico e sopra dell'amico mise in piedi di operazione false flag pista sarda nell'ugno del 1982 la silvia della monica rimase isolata in una procura già festeggiante per la risoluzione del caso vista dunque la facilità assai maggiore del previsto con cui la procura abboccò all'esca della pista sarda non ci fu nemmeno bisogno di metterlo in campo questo appello a mezzo stampa affantomatico cittadino amico e di trovare le segnalazioni di questa falsa fonte che sarebbero state mostrate ai magistrati trovare una segnalazione una qualche segnalazione ad hoc del resto non sarebbe stata difficile ne erano pervenute parecchie ne erano pervenute parecchie sino a quel momento e fabbricarne qualcuna ad hoc non sarebbe stato un grosso problema e chissà magari una di queste lettere per cui attribuire la paternità del cittadino amico avrebbe potuto essere proprio l'anonimo del Galluzzo ipotesi tutt'altro che Peregrina semmai si confermasse che l'attore di quell'anonimo sia stato il Maruscelli De Biase mentre si trovava in carcere cioè in una condizione che lo rendeva facilmente pilotabile da soggetti esponenti importanti delle forze dell'ordine che davano la caccia alla mostra di Firenze quali erano gli ideatori del depistaggio apertura della pista sarda così l'appello a mezzo stampa sulla nazione del 20 luglio rimase all'epoca del tutto inosservato e direi ignorato pensate fu scovato molti anni dopo da Stefano Calastri il compianto De Gotia noto studioso e forumista appassionato del caso ma certo non un investigatore professionale coinvolto nelle indagini sul caso del mostro come nemmeno ci fu bisogno di utilizzare il prefabbricato dossier Parretti da Prato anche questo dossier o fascicolo che prende il nome dal suo creatore dall'epoca brigadiere Vincenzo Parretti in forza al comando dei Carabinieri di Prato rispolverato di recente l'anno scorso dalla citata commissione parlamentare che si è occupato che si è occupata della questione Izzo Corazzin Narducci ancorché c'è da dire questo documento sia stato preso in maggiore considerazione rispetto alla lettera del Galluzzo da magistrati inquirenti del caso Mostro in particolare la giudice Rotella ma pur sempre anni dopo il 1982 lo troviamo citato in sentenza Rotella quindi sette anni dopo i fatti del 1982 senza peraltro che dall'approfondimento dei contenuti di questo dossier sia mai scaturito alcun che di significativo basti qui ricordare che il salvatore vinci il principale colpevole del duplice letto di Castretti di Signa stando alla misteriosa fonte del brigadier Parretti fu fatto arrestare e poi rinviato a giudizio da Rotella nel 1987 o 88 e infine prosciolto con il sospetto di aver ucciso della sua prima moglie Barbarina Steri nel 60 a Villa Cidro non già di essere il responsabile del duplice omicidio dei Castretti di Signa come si legge nel fascicolo Parretti tuttavia era del duplice delitto dei Castretti di Signa che si occupava del fascicolo Parretti dossier che rega le sospettissime date del 3 e del 7 luglio 82 cioè proprio i giorni in cui a Firenze in Borgo Ogni Santi ci si stava predisponendo a contattare il tricomi per sottopoglio il caso di Castretti di Signa e a fargli acquisire il fascicolo del processo Mele cari amiche ed amici un'osservazione un po' più attenta dei fatti del luglio 82 e delle diverse evidenze documentali e diverse a pezzi e bocconi nel tempo fa venire fuori con evidenza un disegno un piano articolato volto a fronteggiare ogni evidenza piano che era stato predisposto per poter mettere a terra la rischiosa operazione falsa pista investigativa nota oggi come pista sarda mitigando gli evidenti rischi che ci sarebbe dovuti assumere nel quale piano sono stati ritrovati nel tempo pezzi singoli tasselli in ordine temporale il fascicolo parretti da rotella l'appello sulla nazione al cittadino amico dal galastra le richieste scritte della monica tricomi dal vero adriano singoli pezzi di mosaico che però non si è mai provato ad inserire all'interno di un quadro unitario organico come si sarebbe dovuto fare di fronte a tutti questi tasselli via via raccolti da soggetti diversi tra loro evidentemente non collegati sarebbe bastato a porsi una semplice domanda ma è possibile che tutte queste circostanze parretti che contatta o è contattato da una misteriosa fonte a Prato fiori che negli stessi giorni a Firenze si rammenta del caso di Castelletti e sempre nello stesso periodo fa c'è lo stranissimo appello a mezzo stampa del nucleo di Borgoni Santi a un cittadino amico che avrebbe fatto uno o più misteriose segnalazioni ma è un appello datato 20 luglio quando la chiesa santa si stava inesorabilmente aprendo essendosi ormai acquisito il fascicolo processuale mele signa con la sorpresa di masqua attaccata circostanze queste che hanno tutte più o meno a che fare con un caso che nel 1982 era vecchio di 14 anni e che da 10 anni aveva un colpevole accertato è possibile che tutto questo fiorire di ricordi e richiami al diritto di signa che non era avvenuto esattamente l'anno precedente si sia per puro caso verificato nel luglio del 1982 beh la risposta si è possibile che tutto questo fiorire di ricordi dei fatti di signa si sia concentrato in quel luglio 82 ma certo non per caso le circostanze che abbiamo testemme menzionato sono circostanze collegate sono pezzi di un piano il piano per lanciare il sasso cioè aprire la pista sarda tenendo il più possibile nascosta la mala che lo stava lanciando cioè nascondendo il fatto che quella pista la stava aprendo il nucleo investigativo di Borgogni Santi e segnatamente il capo del nucleo investigativo di Borgogni Santi volontariamente e questo doveva essere nascosto no? e siccome è una partita delicata complessa che avrebbe avuto conseguenze inimmaginabili se si fosse scoperto che il nucleo investigativo era volontariamente stava depistando non impistando quindi si predispose a un piano lo vediamo vediamo questo piano ecco a grandi linee questo piano era così strutturato contattare e interloquire direttamente solo con il malleabile accondiscendente giudice e struttore Vincenzo Tricomi nel periodo nei giorni di apertura della pista sarda 2 digli che era per viaggio una lettera anonima che ci si era ricordati del caso di Castelletti e qualora in procura avessero voluto approfondire la questione di questa lettera anonima fagli vedere è presumibile che lo si sarebbe fatto sempre con il solo Tricomi alcune lettere anonime tra le quali magari qui a Zardo anche quella del Galluzzo ma come si è detto niente di più facile di trovare uno o più segnalazioni adatte allo scopro fra le tante che si in quel momento erano giunte in procura o a vulgo gli santi e magari perché no fabbricarne anche qualcuna doc corredate però dall'appello a mezzo stampa all'anonimo estensore amico per far sembrare il tutto più credibile tre una volta una volta fatti acquisire al Tricomi i reperti balistici nel frattempo piazzati presso il tribunale di Firenze e poi i risultati della polizia balistica di cui sarebbe stato incaricato il perito amico stampinato che inequivocabilmente avrebbe avvenuto che quei reperti erano stati esplosi dall'arma del mostro di Firenze tirare fuori il fascicolo Parretti e quindi indirizzare le indagini sui veri colpevoli del duplice delitto di sindaco come da indicazioni contenute nel dossier Parretti cioè sui probabili mostri di Firenze ma accadde in procura grazie alla mostra dell'amico ma sarebbe più corretto dire di Manucci Benincasa e dell'amico di interloquire esclusivamente con il giudice sottore Tricomi si abboccò all'esca tesa molto e si abboccò all'esca tesa in procura molto più facilmente del previsto una volta che furono acquisite le risultanze dell'esame balistico del perito amico colonnello spampinato e così non ci fu bisogno di giocarsene tutte le carte che si erano preparate di sicuro non ci fu bisogno di giocare visto la facilità con cui si abboccò all'esca che era stata tesa in procura non ci fu più bisogno di giocare da parte di quelli di Borgogni Santi uno l'appello farlocco al cittadino amico carta che si sarebbe potuta giocare come abbiamo detto in caso qualcuno della procura avesse insistito troppo con la richiesta di esibire la lettera anonima mai pervenuta che parlava del caso di Signa e sappiamo che la simbolo della modica cominciò assai presto a sollecitare verbalmente Borgogni Santi non sappiamo esattamente da quando trattandosi di richieste informali ma verosimilmente non più di qualche giorno dopo il 20 luglio della modica lo scrive il 20 di agosto che la sua richiesta scritta seguiva ripetute sollecitazioni verbali e sappiamo che la PM non fu in servizio per ferie nei primi 15 giorni di agosto chiedendo a Borgogni Santi che le fosse al più presto restituita questa lettera anonima di cui l'aveva parlato il tricomi come la stessa PM scrive il 20 agosto abbiamo già detto l'abbiamo visto prima ma poi con la risposta di Borgogni Santi è stata il 24 agosto la PM si acquetò diciamo che si arregge e ne abbiamo spiegato prima le ragioni non se la sentì la PM di prendere per il Bavano il giudice istruttore del caso che era però colui con il quale la PM aveva a quel momento interlocuito e dal quale aveva avuto le informazioni e quindi l'unico con cui Silvio della Monica avrebbe potuto prendersela perché dell'amico e Fiori non avevano parlato con lei di questa lettera anonima e e io dico forse da quel momento la PM cominciò a riflettere se fosse il caso di rimanere ancora a lungo e invischiata nell'indagine sul killer delle coppie ma non ci fu bisogno di giocare non solo la carta appello al cittadino amico ma anche non ci fu bisogno di giocare la carta del prefabbricato dossier parretti che a pista sarda aperta col trucco dei bossoli esplosi dalla pistola del mostro opportunamente piazzati al posto giusto e nel tempo giusto e che si fece questo siamo in grado di dimostrarlo con pochissimo margini di errore come ora si vedrà avrebbe se del caso indicato chi era o chi erano i più probabiliti in vostri diserenzi cioè uno dei due vinci o entrambi i fratelli vinci che poi in effetti finiranno entrambi attenzionati e indagati per i delitti del mostro perché come noto il dossier parretti non stabilisce un collegamento esplicito tra caso di cassetti di signa e le successive uccisioni di coppia del mostro di Firenze ma indica riportando dichiarazioni di una fonte misteriosa rimasta sempre non identificata per ragioni peraltro risibili addotte da Parretti nei fratelli vinci e in particolare in Salvatore vinci i responsabili dell'uccisione di Barbara Volce e Antonio Loviano è evidente mi pare amiche ed amici che non siate ottusi o peggio volutamente ottusi mostrologi è evidente che era stato approntato un piano ben articolato in grado di fronteggiare tutte le evidenze perché la partita che si apprestava a giocare contro la procura era delicata rischiosa ma poi non ci fu bisogno di sforzarsi più di tanto non ci fu bisogno di giocare tutte le carte che erano state predisposte semplicemente perché come si è già avuto modo di osservare in procura si abboccò più facilmente del previsto all'esca avvelenata della pista salda e allora perché rischiare continuando a contraballe sia pure a uno come il tricomi che tendenzialmente se le beveva senza eccessivi problemi queste balle come ad esempio quella della lettera anonima su signa esagerare non conviene mai meno fai meno rischi tanto ormai ciò che si doveva fare era stato fatto e ciò che si era fatto era stato semplicemente tendere l'esca avvelenata e poi aspettare di vedere se a quest'esca in procura avessero abboccato cioè aspettare di vedere se l'indagine sul mostro avessi deviato o meno in direzione dei cassetti di signa in ogni caso mettendoci dal punto di vista del mostro o di chi doveva coprirlo forzando la procura a scoprire le carte che avesse avuto in mano dopo il grave errore commesso dal mostro a baccaiano era questo il vero scopo dell'operazione di depistaggio pista sarda ebbene si vide che le indagini una volta acquisiti gli esiti della presa spampinato avevano subito virato a tutta velocità in direzione di cassetti di signa e subito si erano concentrate su uno in particolare dei soggetti tirati in ballo da Stefano Mele già nell'agosto del 68 nonché uno dei due soggetti menzionati nel prefabbricato fascicolo Barretti poco comportavano se in questo dossier non era lui ma il fratello il principale responsabile solo la PM Silvia della Monica rimase per un momento perplessa dal modo in cui si era aperta così repentinamente questa nuova pista investigativa ma quando la PM che da circa un paio di mesi non aveva una vera interlocuzione con Borgogni Santi a parte comunicazioni tutto ordinari e formali riebbe finalmente indietro il 24 agosto tutte le segnalazioni anonime che erano giunte nei giorni seguenti l'aggressione di Maccaiano bene in quel momento si arrese grande vittoria della tattica giocata dell'amico e la aggiungo io ma non ci vedi in casa io credo che in quel momento la PM iniziò seriamente a pensare che da quell'indagine non ci sarebbe mai cavato un regno dal buco e che forse sarebbe stato meglio occuparsi d'altro infatti quello che avrebbe dovuto fare era avviare una sua indagine che passando per la sua fonte diretta tricomi sarebbe poi approdata sulla funzione di polizia giudiziaria cioè sul nucleo investigativo di Borgogni Santi ma questa sarebbe stata un'attività con effetti devastanti sull'ambiente di indagine e di sicuro in procura nessuno specie in quel momento con la nuova più che promettente pista investigativa che si era appena aperta nessuno in procura l'avrebbe seguita o almeno un minimo supportato simile della Monica non se la sentì avviare una guerra solitaria contro tutto e tutti e meno di un anno dopo questi fatti nel 1983 la magistrata chiese ottenne di essere assegnata ad altro incarico certo fa capolino da questo piano da questa operazione false flag così mirabilmente costruita e che si rivelò così efficace la ramificazione all'interno dell'arma dei carabinieri fiorentina della locale struttura stay behind di guerra psicologica oltre al manucci ben in casa e al dell'amico che di questa struttura rappresentavano un po' la testa pensante o quantomeno la parte italiana di questo vertice o testa pensante e allo spampinato il fido perito balistico ed esplosivista di manucci ben in casa che fu chiamato per esaminare senza far domande o richieste scomodi i reperti balistici ritrovati presso il tribunale di Firenze agiscono nell'occasione Francesco Fiori a Firenze e Vincenzo Parretti a Prato ma probabilmente era uomo di questa rete anche Filippone di Toscano a San Gasciano e di questa rete era parte anche Gerardo Matassino come vedremo meglio trattando nel prossimo video dei fatti di Castelletti di Sina del 1968 ma veniamo alla quarta bugia di Pugonisano in quei giorni a cavallo tra luglio e agosto del 1982 siamo all'incirca alla metà di agosto del 1982 quando la nuova pista investigativa divenne di dominio pubblico con addirittura già un sospetto mostro arrestato quindi il caso della sassione delle coppie era da considerarsi con ogni probabilità ormai risolto era solo questione di tempo così almeno si credeva in procura in quell'agosto del 1982 così ritenne anche l'opinione pubblica anche se noi giovani di quegli anni si era comunque sospettosi perché l'arrestato Francesco Vinci non stava ammettendo nulla quindi con l'agente memore di ciò che era accaduto con lo spalletti nel 1981 la mostrofobia non cessò al mondo che chiedeva come si possa arrivati a Francesco Vinci quale probabile autore dei delitti delle coppie Borgogni Santi comunicò quella che sarà e rimanrà sempre la versione ufficiale del come si aprì la pista sarda cioè la versione giunta sino ai nostri giorni se ne è tutto d'un tratto ricordato si disse discutendone con il collega Piattelli a inizio luglio 1982 il già qui citato maresciallo Francesco Fiori guarda caso il sotto ufficiale del nucleo investigativo di cui dell'amico si stava servendo alla grande in quel delicato frangente con lo stesso maresciallo Fiori che dell'amico aveva inviato dall'ufficio del Tricomi con il foglio di giornale in mano che parlava del caso dei castelletti di Signa però stranamente in quell'occasione stando anche a quanto il Tricomi ebbe a riferire i cospezi del 2002 si era parlato della segnalazione anonima su Signa e del processo Mele diciamo con il Tricomi non dell'improvvisa reminiscenza del maresciallo il qual Fiore Fiori così almeno si disse ad agosto era a distanza a Signa nel 1968 e per questo motivo egli si sarebbe ricordato di quel duplice delitto parlando a quel collega Piattelli a inizio luglio anche lui nei primi giorni di luglio negli stessi giorni in cui il Parretti apparato predispone il suo dossier sulla base delle rivelazioni della sua misteriosa fonte entrambi tirano fuori il caso di Signa proprio in quel mese come probabilmente come probabilmente anche il cittadino amico insomma sono in diversi a meno che dell'amico che su quel caso aveva meno che dell'amico che su quel caso aveva a lungo indagato a ricordarsi del duplice detto di Signa nel luglio del 1982 possibile ma non sarà invece che in diversi se ne ricordano proprio perché il dell'amico li aveva opportunamente rinfrescato la memoria e dato le opportune istruzioni fatto sta che ad agosto la versione di Boi Bogni Santi su come si era ritirato fuori il caso dei cassetti di Signa cambiò non più una lettera anonima che aveva riportato all'attenzione degli inquirenti il duplice omicidio di 14 anni prima versione questa di cui erano operata corrente di soli magistrati incaricati del caso mostro secondo la versione agostana resta da Boi Bogni Santi questa invece comunicata al grande pubblico il collegamento con il caso del 68 si sarebbe dovuto alla memoria a scoppio un po' ritardato del maresciallo Francesco Fiori guarda caso proprio l'uomo che dell'amico stava in più frangente utilizzando per lanciare il sasso cioè aprire la pista sarda e poi nascondere la mano quel Fiori che però nell'indagine sul duplice del diritto del 68 non era stato mai minimamente coinvolto a differenza del suo capo dell'82 il tenente colonnello Olinto dell'Avigo e la cui presenza signa nel 68 come ha evidenziato di recente l'ultimamente informato anche in virtù del suo ruolo di avvocato di parte civile dei parenti delle vittime francesi del mostro di Firenze avvocato di veri Adriani questa asserita presenza del Fiori a signa al tempo del duplice delitto l'occilo bianco non è confermata da un documento in atti e poi se di ricordo del Fiori si fosse veramente trattato perché mai allora andare a giustificare la richiesta che si era fatta al giudice di sottore Tricomi di acquisire il fascicolo del processo Melli nella prima quindicina di luglio 82 con il fatto che si era giunta che era giunta una certa lettera anonima quindi come dire qui diciamo quindi come si è detto quarta bugia detta da Nucleo Investigativo di Borgogni Santi nell'estate del 1982 l'estate delle bugie di Borgogni Santi l'improvvisa reminiscenza del fulminato sulla via di Damasco maresciallo Francesco Fiore giustificata con la circostanza che il sottoufficiale aveva prestato servizio a Signa e che invece nel 68 probabilmente a Signa non c'era non c'era neanche mai stata credo peraltro che questa bugia della improvvisa reminiscenza del fiori fu concordata con la procura con la scusa che altrimenti sarebbe incentivato il fenomeno degli anonimi che già gravemente operava e quindi ostacolava il lavoro degli inquirenti del caso mostro e perché così aggiungo maliziosamente non si sarebbe data eccessiva pubblicità alla spinosissima questione della lettera anonima inesistente che comprensibilmente era meglio mettere sotto tappeto e che infatti sotto pesante tappeto e che infatti grazie anche a diffondersi e a radicarsi della versione ricordo del maresciallo fiori finì subito nel dimenticatoio questa questione della lettera anonima tornando a Galla ben vent'anni dopo l'82 grazie a Mario Spezzi e trovando importante conferma ulteriori anni dopo nelle comunicazioni scritte di Della della Monica e del Tricomi qui rapidamente citate scoperte dall'avvocato di veri Adriani credo che la bugia della riminiscenza del fiori fu concordata con i magistrati inquirenti del caso del mostro quindi con il Tricomi perché altrimenti in procura dove quelli di Borgogli Santi avevano appena detto che era stata una lettera anonima a far fare il collegamento signale di letti del mostro più di uno avrebbe cominciato a sospettirsi per via di quel repentino radicale cambio di versione tuttavia questa in realtà non credibile versione dei fatti cioè la memoria del maresciallo Fiori che si disse era a distanza a Signa nel 68 ma anche a quanto pare a Signa manco c'era nel 68 aveva convinto un po' tutti dal grande pubblico alle varie autorità ed è stata come ho detto mantenuta ferma sino ai nostri giorni ma le bugie più grosse e direi e direi piuttosto le condotte più clamorose del nucleo investigativo di Borgogli Santi in quell'estate di 41 anni fa le dobbiamo ancora esaminare anzi è soprattutto ciò di cui parliamo ora a configurare una vera e propria operazione false flag perché questo fu tecnicamente l'apertura della falsa pista investigativa detta pista sarda un'operazione false flag di disseminazioni di falsi segnali a indicare una via che allontanava dalla verità e diciamo un'operazione false flag magistralmente realizzata da chi aveva la preparazione l'addestramento oltre che i mezzi le informazioni le complicità necessarie a realizzarla nel breve tempo in cui fu realizzato all'abilissimo probabilissimo esecutore di questa operazione abbiamo dato un nome l'esecutore non ci sono molte alternative è ferma opinione di chi vi sta parlando amiche ed amici un'opinione fondata su circostanze oggettive che questo esecutore non potrebbe essere che il capo del nucleo investigativo di Borgoggi Santi c'è colui che aveva indagato in prima persona sul caso di Cassetti di Signa e che su quel caso unico fra tutti i personaggi direttamente o indirettamente coinvolti nell'indagine sul mostro sapeva tutto e di più e disponeva da sempre sin dal 1968 di ogni informazione anche balistica evidentemente utile alla causa come in particolare la polizia di Zuntini nel 68 colui che tutto d'un tratto nella prima quindicina di luglio 82 aveva contattato il giudice istruttore del caso del mostro Vincenzo Tricomi per dirgli d'acquisire il fascicolo e il processo mele fingendo di non sapere bene in quale il tribunale detto fascicolo effettivamente si trovasse colui che nell'occasione fece sapere al Tricomi che era stato una lettera o un biglietto anonimo mai pervenuto e forse prefabbricato e poi fatto subito sparire a suggerire di dare un'occhiata a questo fascicolo e a riprendere in mano il caso di Castelletti di Sindia colui che come da piano che era stato predisposto dispose l'appello a mezzo stampa a inesistente cittadino amico lo stesso giorno in cui il fascicolo con i reperti balistici allegati arrivarono sulla schiavania del Tricomi colui che e questo lo vediamo ora rassicurò il Tricomi che un decisivo e sostanzialmente obbligatorio confronto balistico quello tra i reperti ritrovati nel Tribunale di Firenze e le risultanze della notizia balistica del colonnello Zuntini nel 68 era stato fatto e invece non era stato fatto nemmai neanche in seguito sarà fatto in alcuna sede ufficiale il punto decisivo che corona tutto quanto abbiamo appena detto è fare un balzo in avanti di anni luce a chi vuole veramente togliere la maschera al mostro di Firenze e non restare a gingillarsi con le ossessive e inutili ricostruzioni del dettaglio del dettaglio dell'Enrico Manieri di turno e quindi di conseguenza ignorare e neppure vedere l'elefante nella stanza è che fra i mezzi che si resero necessari per realizzare l'operazione false flag pista sarda ci sono reperti balistici bossoli e palle esplose dalla pistola che nel 1982 stava utilizzando il cosiddetto mostro di Firenze sono reperti balistici ritrovati secondo la maggior parte delle fonti in bustina spillata al fascicolo mele presso il tribunale di Firenze senza però niente che potesse certificare la loro provenienza questo particolare è ovviamente della massima importanza è è a motivo di questo particolare del quale la della Monica è stata informata dal Tricom verosimilmente dal Tricom ma certo non da Bologni che la PM che la PM vuole diciamo vederci chiaro non accontentandosi unica in procura quanto è dato sapere della sciocca associazione a cui invece gli odierni mostrovi del mainstream ottusamente ciecamente credono questi reperti erano nel fascicolo mele questi reperti sono allora quelli raccolti sulla scena del crimine di Castelletti di Signa e quindi aveva iniziato a chiedere più volte chiese al nucleo investigativo di Bologni Sani ma fino al 24 agosto Bologni Sani fece la ricchia da mercante di rientrare subito in possesso della lettera anonima che a dire di Tricomi imbeccato da dell'amico e fiori aveva portato all'apertura della pista investigativa sarda la PM però rimase isolata in procura come ben sappiamo anche per la mile mossa giocata da dell'amico di interloquire esclusivamente con la condiscendente giudice e istruttore del caso in quel luglio del 1982 giudice e istruttore che della genesi dell'apertura della pista sarda della lettera anonima eccetera eccetera non ne voleva sapere più niente una volta che acquisì i risultati della perizia palistica di Spampinato lo mette infatti nero su bianco la stessa della Monica il 20 agosto del 1982 il perché ella voleva che Borgogni Santi le restituisse subito questa lettera anonima di cui aveva parlato giudice istruttore Tricoli a sua volta impeccato e non certo per errore o per equivoco dal dell'amico e dall'uomo di cui si servì l'amico dell'occasione il maresciallo Francesco l'estensore l'estensore anonimo di quella lettera era con ogni probabilità conoscenza dell'identità del killer delle coppie in soldoni questo estensore anonimo o era il mostro o era qualcuno vicino al mostro e quindi occorreva indagare sull'autore di questa segnalazione anonima occorreva cercare di capire chi potesse essere questo autore anonimo l'abbiamo già detto e lo ribadiamo fu un'intuzione giustissima questa di Sivea della Monica perché con ogni probabilità che aveva fatto quella segnalazione nel momento in cui la fece sapeva già cosa avrebbero trovato gli inquiretti del fascicolo dove lui li stava spingendo a sbirciare e questo qualcosa erano reperti balistici esplosi dalla pistola del mostro di Firenze l'abbiamo però anche detto qual era l'elemento sbagliato nel ragionamento di Sivea della Monica non esisteva né alcun cittadino amico né alcuna lettera anonima di questo cittadino amico o di altri che aveva suggerito agli inquirenti di dare un'occhiata al fascicolo mele questa lettera era solo il frutto di una comunicazione errata alla della Monica da parte del giudice il sottore Tricomi a sua volta disinformato ma in questo caso volontariamente dal dell'amico e dall'uomo del dell'amico il maresciallo Francesco Fiori fu di fatto di fatto dal dell'amico visto che il Fiori rispondeva al dell'amico sono stati infatti dell'amico e il suo uomo Fiori a spingere il giudice istruttore a dare un'occhiata al fascicolo del processo mele con la sorpresa di Pasqua allegata come vi abbiamo fatto vedere amiche ed amici e quindi la della Monica fosse stata correttamente informata avrebbe dovuto indagare dell'amico e Fiori quali soggetti probabilmente a conoscenza dell'identità dell'assassino e dell'amico con ogni probabilità lo era non un inesistente estensore di un inesistente scritto a noi e quando la della Monica si rese conto di questo il 24 agosto 82 questo rischio avrebbe potuto concretizzarsi ma in questo momento massimamente delicato della vicenda dell'apertura della pista sarda la brillante mossa dell'amico e dietro di lui con ogni probabilità Federico Mannucci viene in casa di non interloquire mai direttamente né quella della Monica né Conizzo nei giorni decisivi in cui fu aperta la pista sarda diede i suoi frutti come vi abbiamo prima ampiamente illustrato la della Monica prima di arrivare a prendere il bavaro dell'amico avrebbe dovuto passare per il muro di gomma tricomi che però dopo aver acquisito le risultanze della turizia malistica di Spampinato è ormai rivolto al 110% in direzione di Castelletti di Segno andiamo dunque a vedere in maggior dettaglio quello che fu il principale direi decisivo mezzo che fu utilizzato per realizzare con successo l'operazione Fals Flag operazione pista sarda cioè i reperti malistici per fortuita e inspiegabile circostanza così ebbe dire il giudice sottore Rutella nel 1989 ritrovati in bustina spillata al fascicolo del processo Mele presso il tribunale di Firenze circa 10 anni dopo la sentenza definitiva a carico del marito della vittima femminile del duplice delitto del 68 di Castelletti di Segno i reperti malistici che la perizia di Spampinato dimostrò essere stati esplosi dall'arma del mostro di Firenze infatti ciò che consentì materialmente di aprire la pista sarda nell'ultima decada di luglio 82 fu l'esito della polizia malistica affidata al colonnello Ignazio Spampinato e da questi eseguita sui reperti malistici stranamente ritrovati ancora attaccati al fascico processuale Mele signa si tenga conto che in quel 1982 si era a 14 anni dall'esame malistico dello Zuntini e a poco meno di 10 anni dalla sentenza definitiva una sentenza di Cassazione a carica dello Stefano Mele e si tenga conto che le panzane che sentite dire in giro sul fatto che la pistola non c'era mai trovata o che Mele fu condannato in concorso con i gnoti cosa non verificata peraltro e che quindi il corpo di reato non doveva essere alienato o distrutto in questo caso distrutto sono solo stupidaggini partorite da chi non ha adeguata conoscenza del codice di procedura penale e ancor più stranamente ma dovremmo dire incredibilmente lo stessimo parlando di questa nera vicenda del posto di Firenze dove la mancanza di evidenze la sparizione di carte l'inganno e persino il depistaggio occupano e persino il depistaggio cioè la deception sono l'assoluta normalità purtroppo anche per la gran parte degli ottusi mostrologi che oggi si occupano di questo caso questi reperti erano rigorosamente non assistiti da alcuna documentazione che ne certificasse la provenienza cioè era del tutto assente la cosiddetta filiera della conservazione del corpo di reato del corpo del reato aggiungiamo che la perizia balistica eseguita nel 68 sui reperti ritrovati sulla scena del crimine di Castelletti dal colonnello Zuntini era priva di ogni rilevo fotografico dei reperti esaminati ogni carta non c'era si era persa era andata via era volata via è molto più probabile che sia stata ripulita ripulito il fascicolo processuale da tutte le carte che potevano essere rognose per l'apertura della pista salda quindi neppure rilevi fotografici diciamo dei reperti esaminati nel 68 erano presenti nella perizia balistica di Zuntini ok queste dunque le oggettive incontestabili condizioni del ritrovamento nel tribunale di Firenze di questi reperti balistici grazie al quale e solo grazie al quale e non certo per il ritrovamento dell'auto del Vinci a Civitella come vorrebbero farci credere i burattinai che manorrono l'amico comico a Nagnino si è potuto aprire la cosiddetta Pesta Sarda questa si è aperta per questo ritrovamento di reperti balistici nel luglio all'incirca intorno al 20 luglio 82 che poi subito periziati sono risultati essere reperti esplosi dalla pistola del mostro ecco cosa ha aperto la Pesta Sarda materialmente e poi a Monte c'è che in cerca di quel fascico con la sorpresa di Pasqua attaccata chi aveva mandato i magistrati incaricati le indagini sul mostro o l'into dell'amico e il suo uomo il suo sottoposto Francesco Fiore questo è ciò che è successo ragazzi sono i fatti ok bene ma stanti queste del tutto anomale condizioni del loro ritrovamento ancora prima di andare a vedere da quale pistola fossero stati esplosi quei reperti balistici e in particolare se fossero stati esplosi dall'arma che in quel momento stanno uccidendo i coppi negli intorni di Firenze cosa si sarebbe dovuto fare prima ancora di questo secondo voi amiche ed amici è ovvio cosa si sarebbe dovuto fare e cosa si sarebbe dovuto senz'altro chiedere che si facesse a un perito realmente indipendente si sarebbe dovuto in qualche modo innanzitutto certificare che quei reperti balistici provenissero effettivamente dalla scena del crimine di Castelletti di Singa cioè che fossero i reperti che lo Zuntini aveva esaminato nel 68 nell'unica maniera possibile in cui sarebbe stato possibile certificare questo stando a quanto noi vediamo almeno cioè attraverso il confronto di questi reperti con gli esiti della perizia Zuntini nel 68 meglio ancora con il coinvolgimento dello stesso Zuntini che nel 1982 era ancora vivo e vegeto vista soprattutto l'assenza della perizia Zuntini nel 68 la strana assenza di rilievi fotografici dei reperti balistici raccolti lungo l'argine del vingone e dallo stesso Zuntini esaminato ma quel confronto incredibilmente non si fece non c'è una singola carta in atti che possa provare che quel confronto sia stato fatto eppure quel confronto era tanto obbligatorio direi naturale che si facesse che persino il Tricomi chiese qualcosa in merito a Borgogni Santi persino il Tricomi che si beveva tutto dalla sua funzione di polizia giudiziaria qualcosa dovette chiedere a Borgogni Santi lo possiamo dedurre da ciò che lo stesso Tricomi ebbe a dire nell'agosto del 2011 quindi molti anni dopo certo i fatti di Castelletti di Signia diciamo questi fatti dell'apertura della pista Sard rispondendo ad alcune domande che gli stava facendo l'intervistatore Paolo Cochi questa intervista del Tricomi a Cochi del Cochi a Tricomi scusate ve la trovate anche in rete nel nel sito cronacanera.it allora cosa leggiamo diciamo così leggo alcuni stralci di questa intervista nel fascicolo del processo Mele dice il Tricomi rinvenimmo come ormai è noto una bustina con allegati i bossoli di quello strano omicidi strano omicidi questo è interessante le perizie del colonnello Zuntini erano all'interno del faldone ci fu dunque un controllo immediato con i bossoli della famigerata calibro 22 e ricollegammo gli omicidi come si vede nonostante gli anni della memoria notoriamente non da elefante del Tricomi questo è sufficientemente chiaro che il controllo che si doveva fare al fine di certificare l'identicità dell'arma del mostro e dell'arma di analogo calibro che aveva sparato a castretti di signa era un controllo basato su tre evidenze tre evidenze prima i reperti ritrovati verso il tribunale di Firenze nel 1982 evidentemente in una bustina spillata al fascicolo del processo Mele dice il Tricomi in linea con praticamente tutte le altre fonti autorevoli quindi nel fascicolo del processo Mele due seconda fonte da considerare i reperti correlativi perizie balistiche sicuramente ritrovati in una delle scene del crimine del mostro di Firenze nel luglio 82 a Ignacio e Scampinato furono messi a disposizione reperti e relative balistiche e reperizie balistiche del caso della Roveta quello del giugno 81 e tre attenzione fate attenzione a questa terza evidenza la perizia Zuntini del 68 in qualsiasi altro caso non ci sarebbe stato bisogno ma qui i reperti balistici che andavamo a vedere se erano o no sparati dalla pistola del mostro dell'82 questi erano reperti balistici non repertati quindi ritrovati e repertati sul terreno di Castelletti di Signa sul terreno di Castelletti di Signa sulla scena del crimine di Castelletti di Signa ma erano stati ritrovati a Firenze fra l'altro senza cura documentazione a supporto in una bustina semplicemente in una bustina spillata al fascicolo del processo Mele neanche nel deposito dei colpi di reato beh è chiaro che poi ci vuole una terza evidenza questa terza evidenza è quella che dovrebbe avrebbe dovuto certificare la provenienza di quei reperti cioè se quei reperti provenissero o meno da Castelletti di Signa perché allora queste tre cose messe insieme avrebbero provato che l'arma utilizzata a Castelletti di Signa era quella del mostro di Firenze ok solo il confronto fra queste tre evidenze avrebbe potuto provare con sufficiente certezza cioè con margine di errore più che accettabile che l'arma dei duplici delitti del mostro di Firenze ma attenzione non il tipo d'arma noi siamo interessati a una precisa arma non a un tipo d'arma fosse la stessa cioè che fosse quell'arma che aveva sparato a Castelletti di Signa nel 68 invece il colonnello spampinato luglio 1982 il colonnello spampinato fece il confronto solo fra due di queste tre evidenze cioè i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze e le evidenze reperti a relativa perizia della scena del crimine della rovetta né lui né altri periti dopo di lui hanno mai fatto il confronto fra tutte e tre le evidenze che ho citato non esiste alcun documento ufficiale e che documentalmente provi che questo cruciale confronto sia stato fatto suona incredibile a dirlo ma è così e non può essere una mera coincidenza una mera distrazione come ora torneremo a dire ma continuiamo a seguire ora la chiacchiata fra il cochi e l'ex giudice istruttore all'epoca ex giudice istruttore incaricato del caso del mostro quindi Vincenzo Trico il cochi pone una domanda giusta al Trico il raffronto dei bossoli fu fatto unicamente con i bossoli ritrovati nel fascicolo di Perugia e qui ecco e chi oso io all'epoca dell'intervista non era ancora venuto fuori che in realtà il fascicolo era da anni a Firenze e non a Perugia quindi tutti si ritenevano a Perugia per via della richiesta scritta di Tricomio il 17 luglio rivolta a Perugia che è ancora l'unico riferimento documentale di cui dispongono gli studiosi del caso riguardo le richieste avanzate dalla procura in quei giorni per acquisire il fascicolo del processo Mere ma risponde il Tricomio fu fatta la comparazione con i bossoli ritrovati nel fascicolo e fu confrontata l'avverizia allegata del colonnello Zuntini con le perizie successive redatte sempre dal colonnello ricordo perfettamente sulla mia scrivania l'avverizia con le foto dei bossoli dell'omicidio di via dell'arrivo del 1981 domanda Cochi quindi non ci sono dubbi la pistola ed il munizionamento era il medesimo risposta Tricomi questa è una delle pochissime certezze di questa storia il Tricomi ormai piuttosto avanti quegli anni ha per molte cose memoria evanescente ad esempio fa evidente confusione tra la perizia dello spambinato del 1982 che ha aperto la pista sarda nella quale il confronto è stato fatto fra i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze e i reperti di via dell'arrivo questo invece il Tricomi lo ricorda correttamente lo ricorda correttamente anzi se questo se lo ricorda il Tricomi infatti dice Alcocchi ricordo perfettamente sulla mia scrivania la perizia con le foto dei bossoli dell'omicidio di via dell'arrivo del 1981 dice l'ex magistrato Alcocchi nel 2011 e perizie successive che hanno messo allora scusate rileggo perché qui mi sono confuso il Tricomi ormai piuttosto avanti quegli anni ha per molte cose memoria evanescente ad esempio fa evidente confusione tra la perizia dello spampinato dell'82 che ha aperto la pista sarda nella quale il confronto è stato fatto fra i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze e i reperti di via dell'arrivo e questo il Tricomi lo ricorda correttamente ricordo perfettamente sulla mia scrivania la perizia con le foto dei bossoli dell'omicidio dell'arrivo del 1981 e però confonde con perizie successive che hanno messo a confronto sempre i bossoli ritrovati nel tribunale di Firenze con reperti e certamente peritali di altre scene del crimine tra cui quelle della rabatta episodio con il quale il confronto tra evidenze malistiche di cui stiamo occupando assume particolare rilevanza perché si raffrontano due casi distanti tra loro solo sei anni nei quali i proiettivi sono esattamente dello stesso tipo sono 15 SSRH calibro 22 a palla ramata e la relativa perizia malistica è redatta in entrambi questi episodi 68 e 74 dal colonnello Zuntini come ricorda il Tricomi correttamente il quale Zuntini nel 74 non può essersi quindi avvalso di strumenti molto più sofisticati di quelli del 68 quindi il problema però rimane sempre lo stesso ed è incredibile a dirsi sono stati messi a confronto i reperti ritrovati nel Tribunale di Firenze nel 1982 con gli esiti peritali relativi a duplici delitti sicuramente del mostro di Firenze ma mai e quando dico mai e mai è stato fatto un confronto in sede ufficiale tra i reperti ritrovati a Firenze nel 82 e la presenza Zuntini nel 68 eppure eppure il pur confuso Tricomi una cosa oltre alle foto dei bossoli repertati alla romanità sulla sua scrivania se la ricorda distintamente fu fatta la comparazione con i bossoli ritrovati nel fascicolo e fu confrontata la perizia legata del colonnello Zuntini con le perizie successive redatte sempre dal colonnello quindi una cosa se la ricorda Tricomi che la perizia Zuntini è stata utilizzata che sono state fatte delle comparazioni con la perizia dello Zuntini del 68 così ha detto il Tricomi rispondendo alla domanda di Paolo Cochi nel 2011 si ricorda cioè il Tricomi che la terza fondamentale evidenza con cui si sarebbero dovuti confrontare i reperti balistici rinvenuti nel tribunale di Firenze cioè la perizia Zuntini nel 68 era stata utilizzata ed è per questo motivo che il Tricomi dice al Cochi che l'identicità dell'arma in otto duplici omicidi è una delle pochissime certezze di questa storia ma oggi sappiamo anche grazie a studiosi come Valeria Vecchione ma cito anche Alessandro Silvestri che questo non è vero i reperti ritrovati a Firenze nel 1982 non sono mai stati sottoposti al confronto con la perizia Zuntini nel 68 e come spiegheremo tra poco questa non fu una mera inosservanza quel confronto si doveva evitare altrimenti l'apertura della pista sarda avrebbe potuto essere pregiudicata ma tornando all'apertura all'intervista fatta dal Cochi al Tricomi nell'agosto del 2011 faccia notare che la considerazione che dobbiamo fare è del tutto analoga a quella che abbiamo già fatta per la lettera anonima che non esisteva di cui abbiamo prima parlato chi secondo voi assicurò al Tricomi che l'essenziale confronto dei bossoli ritrovati a Firenze con la perizia Zuntini nel 68 era stato fatto così ricorda distintamente il Tricomi intervistato dal Cochi no? abbiamo detto ora quando invece questo fondamentale noi sappiamo che non è stato mai fatto allora perché Tricomi dice questo? ebbene abbiamo già detto tutto ciò che Tricomi dice tutto ciò di cui Tricomi sa dice o fa riguardo a Castelletti di Segna e a fatti riguardanti relativi a Castelletti di Segna nel 1982 nel luglio 82 lo sa lo fa e lo dice perché gliel'hanno detto quelli di Borgogni Santi segnatamente dell'amico e l'uomo dell'amico il sottoposto dell'amico Fiori quindi chi vuole che gli ha detto a Tricomi che questo confronto era stato fatto? ebbene è ovvio che ad assicurare a Tricomi che questo confronto era stato fatto quando invece non era stato fatto sia stato lo stesso individuo che a Tricomi in quel delicato frangente di balle ne aveva detto più di una colui che a Tricomi aveva detto solo qualche giorno prima che era per via di una lettera anonima in realtà inesistente che si era tirato fuori dal cassetto il caso di Castelletti di Signa colui che aveva detto a Tricomi di richiedere il fascicolo mele al tribunale di Verugia ben sapendo che quel fascicolo era a Firenze da anni e ben sapendo che in quel fascicolo c'erano reperti balistici che sarebbero risultati esplosi dalla pistola del mostro lo stesso che conoscendo come le sue tasche il Tricomi sapeva che il giudice istruttore aveva preso per oro colato tutto quello che gli veniva appropriato dalla sua funzione di polizia giudiziaria senza star lì a chiedere più di tanto riscontri di esibire documenti in cielo colui che nel 1982 a Firenze rappresentava questa funzione di polizia giudiziaria era il tenente colonnello olinto dell'amico colui che aveva indagato in prima persona sul duplice omicidio del 68 disponendo pertanto da sempre su questo caso di ogni documentazione utile per poi subito misteriosamente rimuoverlo dai suoi ricordi in questo caso questa è la favola che l'ottuso mondo mostrologico è ancora oggi capace di bersi fino in fondo è stato dell'amico ad assicurare al giudice istruttore tricomi che il confronto con la polizia perizia zuntini era stato fatto tant'è che il tricomi che non era un elefante come memoria diciamo questo però se lo ricorda abbiamo visto ora lo dice al cochi risponde al cochi è stato fatto il confronto con la perizia zuntini del 68 confrontata con tutte le perizie successive anche quelle dello stesso tricomi lui si ricorda tutto eh sì anche quelle dello stesso zuntini scusate quindi il tricomi si ricorda e invece noi questo non sappiamo che non è in atti non c'è niente che ci dica che questo confronto necessarissimo fu fatto tuttavia come si è visto persino il mansueto del condiscendente tricomi aveva chiesto ai suoi interlocutori di Borgo ogni santi se fosse stato fatto o no il confronto con la perizia zuntini del 68 tanto dovuto era questo confronto a tesele singolari per non dire del tutto anomale condizioni di ritrovamento nel tribunale di Firenze dei reperti balistici che solo asseritamente erano stati associati al caso di Cassetti di Signia perché questa associazione era stata semplicemente ipotizzata per l'essere questi reperti in una bustina attaccata al fascicolo mele ma senza nessunissima carta che la potesse provare hanno sparito persino i rilevi fotografici della perizia zuntini nel 68 tutte le carte erano state tirate via il fascicolo è stato ripulito da ogni tipo di carta che potesse essere compromettente questo è abbastanza palese amiche e amici ma al trigumi appunto fu assicurato dalla funzione di polizia giudiziaria cioè dal nucleo investigativo di Borgo di Sante evidentemente che quel confronto era stato fatto e per il trigumi ciò che gli diceva la sua funzione di polizia giudiziaria era oro colato ma la verità è che non era stato fatto quel dovutissimo confronto dunque quinta bugia di Borgo di Sante e in particolare nel suo nucleo investigativo guidato dal terente colonnello lento dell'amico in quell'estate del 1982 l'estate delle bugie di Borgo di Sante ci rendiamo conto amiche e amiche amiche ed amici che si assicurò ad un giudice istruttore incaricato di un caso come quello del mostro di Firenze che un certo confronto di fatto obbligatorio si era fatto e invece non si era fatto non solo per sostenere questa bugia si doveva conoscere e quindi si doveva fidare del docile trigomi che si sapeva evidentemente che non avrebbe mai fatto alzate di testa del tipo di quella che aveva fatto la della Monica il 22 giugno tanto per fare un esempio quando aveva preso tutto in contropiede quello inaspettato blef del Mainardi che aveva parlato prima di Spirano ma si doveva avere anche un perito che non ti tradisse anche involontariamente né in quel momento magari chiedendo a magistrati inquirenti incaricati del caso del mostro di poter acquisire la polizia balistica del colonnello Zuntini del 68 e magari chiedendo di coinvolgere nell'accertamento lo stesso lo stesso Zuntini né successivamente magari qualora sentito da magistrati ai quali un perito realmente indipendente avrebbe potuto riferire dell'evidente dell'evidente anomalia di un incarico che chiedeva solo di accertare se quei reperti sbucati Dio solo Dio solo sa da dove fossero stati o meno esplosi dall'arma da fuoco dello mostro di Firenze dando per scontato che provenissero dalla scena del crimine di Castelletti di Signa perché non c'era uno straccio di documento che potesse provare che quei reperti provenissero dalla scena criminis di Castelletti di Signa è evidente che sarebbe bastato assai meno di una denuncia sarebbe bastato anche una sola perplessità del perito indipendente perché quel gioco condotto sul filo del rasoio potesse essere scoperto ma è il giusto perito il perito non indipendente ma amico da far nominare al giudice sottore d'Recom quelli di Borgogni Santi ce l'avevano era il colonnello Ignacio Spalminato l'uomo di Federico Mannucci per in casa il perito in quell'occasione esplosivista che aveva illegalmente passato in anteprima lo stesso Mannucci per in casa gli esiti della perizia a lui affidata sull'esplosivo utilizzato per la stagia di Bologna Spalminato l'uomo chiamato in casa dal comando di Borgogni Santi includendo nella definizione anche il coesistente centro di conto speraggio del servizio segreso militare ubicato in Borgogni Santi per tutte le perizie decisive della vicenda del mostro di Firenze lo rivedremo infatti all'opera dieci anni dopo i fatti dell'82 lo Spalminato quando ebbe l'incarico di sottoporre ad esame peritale la cartuccia o incest SRH ovviamente calibro 22 ritrovata nell'orto del Pacciano secondo lo Spalminato e il suo collaboratore in quelle perizie proietto o cartuccia scarrellata ad arma compatibile con quella del mostro secondo il più recente accertamento di pari dei Minervini cartuccia che ha subito artefazione così Minervini ecco dunque la quinta clamorosa bugia la terza detta al Tricomi dal nucleo la terza detta direttamente al Tricomi dal nucleo investigativo di Borgogni Santi in quell'estate del 1982 l'estate delle bugie di Borgogni Santi si disse al Tricomi che il confronto con la prezia a Zuntini era stato fatto e non era vero ok si stenta a crederlo ma quel confronto non fu mai fatto la radice di questa apparentemente incredibile carenza o omissione risiede nell'omissione di questo necessarissimo confronto che si fece nel 1982 quando con l'assassino delle coppie a piede libero e ancora in attività si stava prendo una pista investigativa importantissima con tanto di mandato di arresto nei confronti di una persona e quindi i costi di eventuali errori o di cadere vittima di depistaggi sarebbero stati altissimi per le indagini in tutti i successivi e certamente peritali eseguiti sui reperti ritrovati a Firenze nel 1982 i periti incaricati hanno sempre dato per scontato che quel confronto fosse stato fatto nel 1982 per i motivi che abbiamo appena detto e invece quel confronto nel 1982 non era stato fatto quel confronto evidentemente non si doveva fare in quel 1982 e oggi sappiamo perché e ora lo ribadiamo il perché questo confronto non si doveva fare qui anticipando che questo perché attiene al fatto che quel confronto se si fosse eseguito magari con il coinvolgimento di Zuntini avrebbe sollevato come minimo serie di dubbi circa l'effettiva provenienza di quei bossoli ritrovati a Firenze nel luglio 1982 dubbi che in un passaggio estremamente delicato come fu l'apertura della pista sarda avrebbero con ogni probabilità progiudicato questa operazione false flag e in tal caso anche sollevato più di un interrogativo sull'operato del nucleo persegativo di Corpogli Santi era fondamentale per la riuscita del depistaggio che in procura si strappassero si strappassero subito bottiglie di champagne per il raggiungimento della guagnata soluzione del caso del mostro non appena acquisiti gli esiti dell'aprizia dell'amico spampinato il perito amico non si poteva permettere che ci fosse neppure il benché minimo dubbio la benché minima ombra guastafeste sulla pista investigativa che in quel momento si stava a prendere e per questo motivo fu necessaria oltre all'interazione esclusiva col tricomi l'abile mossa di Mannucci ben in casa e dell'amico di cui si è già detto anche l'attivazione di Gnaccio Spampinato il perito di stretta strettissima riducia del colonnello Mannucci ben in casa ma vediamo ora perché il confronto tra i reperti balistici rinvenuti nel tribunale di Firenze nel luglio del 1982 nel luglio del 1982 e l'attività di Zuntini nel 68 non doveva essere fatto si è provato a fare peraltro che sia non ufficiale su meritorie iniziative parallele quindi indipendenti fra loro del giornalista Francesco Amicone e della nota storiosa del caso Valeria Vecchione che a questo scopo hanno coinvolto titolati esperti balistici il confronto fra la descrizione di certi segni sui bossoli esplosi dalla pistola del mostro come erano quelli ritrovati nel tribunale di Firenze nel 1982 risultati essere certamente esplosi dalla pistola del mostro che troviamo nelle polizie balistiche eseguite su quei reperti e la descrizione di quegli stessi segni che che di quegli stessi segni fa il colonnello Zuntini nel 68 su bossoli repertati sulla scena del crimine di Castelletti di Signia in ordine ai quali purtroppo non disponiamo di alcuna evidenza a parte la perizia a Zuntini e in particolare non disponiamo di rilievi fotografici di cui la perizia di Zuntini nel 68 era totalmente ma dovrei dire incredibilmente sprovvista come abbiamo già osservato ebbene il risultato di questo peraltro non ufficiale confronto che hanno richiesto a noti esperti Francesco Micone e Valeria Vecchione è stato che non solo non sono affatti venuti meno i dubbi riguardo l'identicità dell'arma di cui bossoli esplosi sono stati esaminati dallo Zuntini del 68 e si presumo dunque l'arma del duplice diritto l'occido bianco ma in ordine a questo punto poi ci torneremo e dell'arma del mostro di Firenze ma al contrario questi dubbi sono risultati se possibile significativamente rafforzati infatti al di là degli arrampicamenti sugli specchi di ogni ordine grado da parte di esperti balistici o presunti tali cioè solo autodichiarati non ho sentito ad oggi spiegazioni anche solo minimamente convincenti della radicalmente differente descrizione che fa lo Zuntini di alcuni determinati segni sui bossoli da lui esaminati nel 68 rispetto a quella che dei medesimi segni fanno tutti gli altri periti che sono stati incaricati di esaminare bossoli esplosi della pistola del mostro incluso lo stesso Zuntini nel 74 e ovviamente lo spampinato nel 82 sto parlando dei segni realmente identificativi di una certa arma non di un certo tipo d'arma che sono quelli lasciati sul bossolo dall'estrattore e dall'espulsore di una segna automatica del tipo di quella utilizzata sia a castelletti di signa sia dal mostro di Firenze e non vi fate ingannare dai finti esperti e intellettualmente disonesti fari che popolano la rete e gruppi facebook amiche d'amici quello che vi dicono questi pifferai riguardo ai reperti balistici ritrovati nel tribunale di Firenze nel 1982 è uno dei falsi che circolano nel web come ad esempio quello che non si doveva procedere alla distruzione dei reperti balistici cioè del corpo del reato dopo la sentenza definitiva a carico del mele perché l'arma del delitto non era stata ritrovata o perché il mele sarebbe stato condannato in concorso con gli ignoti nel web delle leggende metropolitane e le invenzioni sono sempre all'ordine del giorno ma ricordatevi non sono le rigature rilevabili sui proiettili esplosi né il rigonfiamento dei vostri esplosi a poter identificare con sufficiente precisione un'arma in particolare in particolare se del tipo di quella del mostro con ogni probabilità una semiautomatica calibro 22 stesso discorso in questo tipo d'arma vale per l'unghiata del percussore non è infatti un generico tipo d'arma ciò che ci interessa come si è detto a noi serve un'arma serve cioè di verificare che l'arma del mostro di Firenze sia quell'arma non uno dello stesso tipo ma quella i cui bossoni sono stati ripertati sul terreno a castretti di signa ed esaminati tra usuntini nel 68 e per far questo occorre considerare quelle che sono le vere impronte digitali dell'arma in questione e le impronte digitali di una semiautomatica del tipo usato da questi delitti di coppie cioè i segni che con il minimo margine di trone possibile identificano non un'arma del tipo leggero leggera semiautomatica ma una particolare arma leggera semiautomatica sono i segni dell'estrattore il meccanismo che estra la cartuccia dal caricatore per mettere nella sede dove sarà esploso e dell'espulsore il meccanismo che afferra il bossolo una volta esplosò il colpo e lo espelle per far posto alla cartuccia successiva queste sono le impronte digitali del tipo di arma da fuoco che ha ucciso cocchi di diamanti o fidanzati appartate nei doni di Firenze tra il 68 e il 1985 ebbene nel 68 lo Zuntini fornisce una descrizione dei segni che l'estrattore e l'espulsore dell'arma i cui bossoli esplosi sono stati ritrovati sul terreno dei castetti di signa che è significativamente diversa da quella che dei medesimi segni ha fatto ogni altro periodo incaricato di esaminare reperti esplosi dalla pistola e del mostro incluso lo stesso Zuntini nel 74 e ovviamente lo spampinato nel 1982 l'ho detto più volte e qui lo ripeto l'unica descrizione fuori dal coro dei segni lasciati dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma Caidro 22 sui bossoli repertati sulle scene del crimine nelle quali tra il 68 e il 1985 sono state uccise coppie appartate negli intorni di Firenze è quella che fa il colonnello Zuntini nel 68 è l'unica voce fuori dal coro il quale Zuntini nel 68 descrive questi segni come quasi irrilevabili questa è l'espressione che usa quasi irrilevabili tutte le altre successive peristi descrivono coerentemente fra loro i segni lasciati dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma del mostro come marcati chiaramente visibili quindi in maniera nettamente difforme dalla descrizione che fa lo Zuntini nel 68 caro Enrico Manieri anziché produrre tesi fantasiosi sugli scopiti di cui nessuno ha bisogno salvo il tuo piccolo ego perché non fai un piccolo sforzo anche per spiegare la differente descrizione che lo Zuntini fa nel 68 dei segni di estrattore ed espulsore rispetto a quella che fanno dei medesimi segni tutti e dico tutte le altre peristi eseguite su bossoli sicuramente esplose dalla pistola del mostro perché Zuntini nel 68 descrive questi segni come quasi irrilevabili tanto che finì per concludere giusto o sbagliato che fosse che l'arma che aveva sparato e ucciso nel 68 era vecchia e l'ora mentre tutte le altre perizie compresa quella del 74 eseguita nello stesso Zuntini i segni dell'estrattore e dell'espulsore della calibro 22 sono descritti come marcati e ben visibili in particolare ricordo che il segno che l'espulsore dell'arma del mostro lasciava sui bossoli esplosi è un segno visibile praticamente a occhio nulo e quindi sono segni lasciati da un'arma mantenuta in ottimo stato che non a caso in 11 anni non si è mai inceppata neppure una volta ma quello che conta sottolineo onde evitare vivoci più o meno strumentali non è determinare lo stato e o l'anzianità dell'arma e quindi di squisire se le conclusioni tratte da Zultini nel 68 circa la vetustà dell'arma calibro 22 di Castelletti siano corrette o meno quello che qui conta è spiegare la diversa descrizione dei segni lasciati da espulsore e da estrattore dell'arma e cui bossoli esplosi sono stati repertati sulla scena del crimine di Castelletti di Signa rispetto agli stessi segni che l'arma del mostro di Firenze lasciava sui bossoli esplosi e se questa diversa descrizione dobbiamo chiederci sia compatibile con l'ipotesi di stessa arma non lo stesso tipo d'arma stessa arma che dunque ha sparato in 8 duplici delitti dal 68 all'85 e allora cerca di renderti utile in qualche modo spiegaci in maniera convincente senza gli arrabbricamenti sugli specchi e le fasullaggini che ho sentito dire da tanti tuoi colleghi negazionisti del depistaggio la cui spiegazione scusate è sì ma Zuntini di qua Zuntini di là Zuntini ha sbagliato qui si tratta semplicemente di spiegare come mai se l'arma è esattamente la stessa Zuntini scrive nel 68 che i segni di estrattore e di esculsore sono quasi irrilevabili mentre lo stesso Zuntini solo sei anni dopo scrive che quei segni sono ben visibili e lasciati da un'arma in ottimo stato questa semplice palese differenza che attiene a lingua italiana quasi più che alla balistica la vogliamo spiegare in qualche modo o no eh i tanti attuali depristatori e incantatori che si incontrano in rete almeno quelli che tra costoro hanno una certa dimestichezza con la balistica vi diranno cari amiche ed amici delle striature sulle ogive lasciate dalle rigature della canna vi diranno di certi riconfiamenti sui bossoli sapendo costoro benissimo che si tratta di particolari non sufficientemente distintivi poiché rilevabili in tutte le armi dello stesso tipo munizionate con quel tipo di cartucce ma noi qui non ci stanchiamo di ripeterlo interessa un'arma precisa non un'arma di un certo tipo e con un certo tipo di munizionamento un'arma precisa quella non ci interessa gli esperti balistici interpellati da Francesco Amicone e da Valeria Pecchione sono in larga maggioranza concordi nel ritenere improbabile un errore così marchiano da parte dello Zuntini nel 68 ripeto il segno lasciato dall'espulsore dell'arma del mostro sui bossoli esplosi è visibile a occhio nudo quindi anche la spiegazione di diversi strumenti ottici disponibili non tiene un errore troppo marchiano per essere credibile assai più probabile invece lo scenario dell'arma diversa è diversa per vari motivi potrebbe anche essere la stessa arma ma modificata questo lo vedremo meglio nel prossimo video possiamo dire che l'arma i cui bossoli esplosi sono stati repertati sulla scena del crimine di cassetti di signa è diversa per una serie di ragioni pur essendo un modello analogo ma è diversa da quella del mostro di Firenze pertanto fino a prova contraria ad oggi non è immersa i reperti balistici ritrovati nell'82 nel tribunale di Firenze sono stati esplosi esplosi da un'arma carico esattamente quella che nel 1982 stava uccidendo le coppie attorno a Firenze cioè l'arma presumibilmente una pistola del mostro di Firenze non corrispondente però a quella dalla quale sono stati espulsi i bossoli repertati a castelletti di signa nell'agosto del 1968 cioè ragione dei segni di dubbio valore identificativo lasciati da estrattore ed espulsore dell'arma utilizzata a castelletti di signa sui bossoli esplosi repertati su quella scena del crimine ed esaminati dal colonnello Zuntini nel 1968 segni difformi stanno alle iscrizioni dei periti dai medesimi segni che l'arma del mostro lasciava sui bossoli esplosi stanti queste evidenze la conclusione è pressoché obbligatoria è che salvo prova contraria di cui oggi non sia notizia i reperti balistici ritrovati a Firenze nel 1982 secondo la maggior parte delle fonti in una bustina attaccata al fascicolo del processo Mele come era d'abitudine fare si dice ancora oggi diciamo da parte del colonnello Zuntini non sarà vero io confermo i ufficiali di questa che mi sa tanto di una leggenda mostrologica non le ho trovate ma vogliamo prenderla per bene ma quello che rileva è che questi reperti balistici ci sono stati messi a bella posta lì dove sono stati ritrovati nel 1982 e infatti nel 1982 non fu trovata e ancora oggi non esiste alcuna documentazione che possa comprovare la provenienza di questi reperti balistici e fatto clamoroso pur con queste anomale condizioni del loro fortunoso e inspiegabile ritrovamento come ebbe a dire il giudice Rotella non si è proceduto ad alcun confronto ufficiale e documentato di questi reperti con la predizia Zuntini nel 68 anzi nel luglio 1982 come si è visto molto probabilmente si disse versino una bugia al giudice istruttore Tricolo rassicurandolo che quel fondamentale confronto era stato fatto è l'intervista abbiamo qui riportato l'intervista del Cochi al Tricolo che si ricordava che era stato fatto questo confronto la prova della manipolazione del fascicolo Miele e della volontaria omissione del confronto tra reperti ritrovati nel tribunale di Firenze e la perizia balistica del Comune dello Zuntini al 68 bene vediamo questo che ci sia stata manomissione cioè l'intervento di soggetti ignoti sicuramente anteriore al 20 luglio 1982 per mettere là dove sono stati ritrovati secondo la maggior parte delle fonti attaccate al fascicolo del processo Miele i reperti balistici ritrovati nel tribunale di Firenze nel luglio 1982 è circostanza provata con pochissimo ma io mi spiego a dire nulla nullo margine di dubbio dal concorso seguite bene le parole che dico dal concorso cioè non guardatevi ciascuno preso a sé stante questi elementi che ora io vi elenco la prova nasce dal concorso da considerare che questi quattro da queste quattro situazioni di cui ora vi leggo sono tutte e quattro avvenute sono tutte e quattro contemporaneamente avvenute ed è il concorso di questi quattro elementi che ove congiuntamente considerati configurano un difficilmente contestabile elemento di prova un difficilmente contestabile elemento di prova che il fascicolo mele nel luglio 82 era stato oggetto quando ci arriva alla fine a Firenze il tricomi a recuperare il fascicolo no? quel fascicolo è stato manipolato quei reperti balistici ci sono stati messi ok? andiamo a vedere come provo questo si prova dal considerare congiuntamente questi quattro elementi tutti insieme questi quattro elementi costituiscono prova di volontarietà quindi di manipolazione volontaria del fascicolo processuale mele e della volontarietà dell'aver omesso dell'omissione volontarietà dell'omissione del confronto fra reperti balistici titolati a Firenze nel 1982 e risultanze esiti della perizia balistica Zuntini del 68 bene andiamo a vedere questi elementi i segni sui bossoli descritti dallo Zuntini nella sua perizia del 68 quasi irrilevabili lasciati dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma da fuoco calibro 22 i cui bossoli sono stati ripertati sul terreno dei castelletti di Signa nel 68 che in base alle evidenze disponibili per castelletti di Signa esclusivamente la perizia Zuntini purtroppo risultano essere diversi rispetto ai medesimi segni lasciati sui bossoli dall'arma da fuoco calibro 22 del mostro di Firenze quindi ci sono segni che sono descritti come quasi irrilevabili in particolare i segni di estrattore ed espulsore dal solo Zuntini nel 68 non in tutte le altre perizie sicuramente seguite su reperti esplosi della pistola del mostro di Firenze non rilevano invece abbiamo già detto quantomeno per identificare quell'arma e non un certo tipo di arma leppure rilevate similitudini tra arma del 68 e arma del mostro quanto a rigature sui proiettili e al rigonfiamento dei bossoli similitudini atti al più a concludere che diciamo ci poteva trattarsi di arma fuoco di un certo tipo e con un certo munizionamento quindi proiettili di tipo super speed ad aver sparato a coppie appartate in auto veicolo o in tenna da campeggio in provincia di Firenze tra il 68 e l'85 ma non a provare che si tratta di un'unica arma di quel tipo ad aver sparato a tutte quelle coppie non fosse che l'unica evidenza disponibile concernente i repletti malistici del 68 è la perizia a Zuttini tra l'altro redatta anche in gergo non sempre rigoroso quantomeno rispetto agli attuali standard di una perizia malistica questa differenza di segni sui bossoli sarebbe di per sé prova definitiva che il fascicolo mele sia stato manipolato nell'82 purtroppo non possiamo giungere a questa conclusione per le limitazioni di cui ho appena detto assenza anomala peraltro di rilevi fotografici per i reperti del 68 e il linguaggio dello Zuttini che in alcuni cruciali passaggi in particolare quello crucialissimo dei segni di estrattore ed espulsore quasi irrilevabili non dà sufficiente certezza anche se non possiamo minimizzare come fanno tanti odierni esperti balistici o presunti tali il fatto che Zuttini nel 68 parli di segni di estrattore ed espulsore quasi irrilevabili tanto da concludere che a sparare a castezza di segna sarebbe stata un'arma usurata mentre solo sei anni dopo fra l'altro analizzando proiettili identici a quelli utilizzati nel 68 un incerto a serie H a palla ramata lo stesso Zuttini descriva come marcati e ben visibili i segni impressi sui bossoli dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma che aveva ucciso Pasquale Genticone sicché quest'arma doveva essere nuova o comunque mantenuta in ottimo stato una descrizione peraltro coerente quella di Zuttini nel 74 con quella fornita da tutti gli altri periti malistici incaricati di esaminare reperti esplosi dalla pistola del mostro ma noi non abbiamo solo questa differenza in certi segni lasciati sui bossoli dall'arma da fuoco calibro 22 utilizzata a signa a riprova della manipolazione del fascicolo del processo mene ed è come ho detto la considerazione di questi congiunta di questi altri elementi assieme alla differente descrizione dei segni di estrattore ed espulsore che Zuttini fornisce nel 68 che costituisce prova quasi matematica della manipolazione del fascicolo mene quindi andiamo a vedere questi altri elementi da associare a questo primo cioè questo primo è la descrizione di Zuttini nel 68 l'unica descrizione fuori dal corpo che descrive segni di estrattore ed espulsore quasi irrilevabili non sono così i segni che l'estrattore ed espulsore della pistola del mostro lascia sui bossoli esplosi il secondo elemento che va considerato è il fatto che reperti balistici cioè corpi di reato sui quali non c'erano diritti di terzi e che erano evidentemente privi di valore fossero luglio 82 per fortuita in spiegabile circostanza così dice gli udici sottori Rutella ancora presenti e quindi non fossero stati oggetto di distruzione come da codice di procedura penale a circa un decennio la sentenza passata giudicata cioè sentenza definitiva emessa dalla corte di Cassazione e chi afferma come ho anche sentito di recente da personaggi però digiuni di studio e conoscenze in materia giuridica che quei colpi di reato non dovevano essere distrutti perché l'arma non si era trovata o perché me sarebbe stato condannato in via definitiva per aver commesso che il dupo c'è un uccidio di concorso con tersi ignoti peraltro a me non risulta la semine formulazione in sentenza chiunque dica questo dice questo per quel che non conosce il codice di procedura penale che invece parla chiarissimo un colpo di reato con queste caratteristiche nessuno che lo reclami avendo titolo e primo di valore economico deve essere distrutto a sentenza definitiva passata ingiudicato valga anche ricordare sul punto che nessuna disposizione formale di conservazione del corpo del reato da parte di autorità competente è stata mai trovata né nel fascicolo processuale Melesigna né altrove sicché quei reperti erano ancora presenti nel 1982 presso il tribunale di Firenze in aperta violazione del codice né è possibile credere che fossero lì da così tanto tempo da sentenza definitiva senza che alcuno se ne fosse mai accorto così il PM Perugio Giuliano Mignini tanto più che questi reperti erano spillati in un fascicolo processuale e non nel deposito nei colpi di reato dove avrebbero dovuto essere tuttavia all'allogamento dal primo elemento indiziario che abbiamo considerato la diversa descrizione che Giuggini ha nel 68 dei segni lasciati sui bossoli da estrattore ed espulsore dell'arma in quell'occasione utilizzata anche questo secondo elemento ha una certa anche se non elevatissima direi come si vorrebbe far credere da parte dei difensori delle verità consolidate giudiziali o non che siano probabilità di verificarsi per motivi casuali considerata la quanto ricorrente situazione delle cancellerie dei tribunali nostrani non sempre rigorose nell'applicazione dei condici di procedura ma certo se li consideriamo congiuntamente questi due primi elementi la probabilità congiunta che Zuntini abbia fornito nel 68 una descrizione errata di certi segni sui bossoli e che quei bossoli siano poi rimasti in arti spillati ad un fascicolo processuale quindi neppure nella giusta location che sarebbe stata il deposito dei corpi di reato per 14 anni gli ultimi 9 o 10 dei quali contra Legend poiché dopo sentenza definitiva di Cassazione e senza che nessuno abbia avuto mai niente da dire beh è intuitivo mi pare che la probabilità dello scenario definito da questi due eventi che ho illustrato si riduce considerevolmente rispetto alla probabilità che ciascuno di questi due eventi preso a sé stante si sia verificato per motivi casuali ma non è finita qui c'è anche il fatto ancora più sorprendente della mercata di istruzione del corpo del reato nonostante sentenza definitiva di Cassazione vecchia di quasi 10 anni che i reperti balistici ritrovati nel tribunale di Firenze nel luglio dell'82 non erano assistiti da qualsivoglia documentazione comprovante la provenienza e l'eventuale percorso cioè gli spostamenti di quel corpo di reato in altri termini detti reperti sono stati ritrovati secondo praticamente tutte le fonti che ho potuto sentire o leggere neppure nel deposito dei corpi di reato ma semplicemente in una bustina spillata al fascicolpo c'è sto meglio senza che vi fosse alcuna filiera della conservazione del corpo del reato questo elemento indiziario anche preso a sé stante ha una probabilità davvero bassa di verificarsi per motivi casuali ammesso il non processo che si fosse trattato di incuria o dimenticanza il fatto che i repetti balistici ritrovati sulla scena di un crimine erano ancora presenti in atti a circa dieci anni da sentenza definitiva e anche la loro documentazione a quel punto avrebbero dovuto esserci in atti e invece in atti questa documentazione non c'è sembra dunque esserci stata una distrazione mirata ci si dimentica del corpo del reato e si procede alla distruzione della sola documentazione è possibile perché io penso che a meno di essere un ottuso mostrologo si possa facilmente comprendere come la probabilità che casualmente Zuntini abbia fornito una descrizione errata di certi segni sui bossoli che poi sono rimasti per circa un decennio spillati a un fascicolo processuale contra legem nel senso che nessuno abbia avuto niente da dire ma la cui documentazione di supporto o filiera di conservazione a differenza del corpo di reato sia sparita persa o distrutta beh la probabilità di una roba del genere è sicuramente assai vicina allo zero ma c'è ancora dell'altro ed è la circostanza piuttosto incredibile in verità che nonostante le condizioni così fortemente anomale di ritrovamento nel luglio 82 presso il tribunale di Firenze di reperti malistici solo asseritamente provenienti dalla scena crimini del duplo del delitto di Castelletti di Signia l'unica prova di questa provenienza essendo il fatto che questi reperti erano stranamente attaccati al fascicolo processuale nel caso Melesigna in sostanza una circostanza già di per sé anomala presenza di corpo di reato a 10 anni di distanza la sentenza definitiva di Cassazione provata da un'altra circostanza anomala il corpo di reato era attaccato ad un fascicolo processuale beh nessun tipo nonostante questo nessun tipo di confronto fra questi reperti malistici e gli esiti della presenza adultini nel 68 fu presente in atti anche se risultata priva ulteriore circostanza fortemente anomala dei dilievi fotografici dei reperti periziati nel 68 è stato mai fatto né da sfampinato né in alcuna altra sede successiva in alcuna altra successiva sede ufficiale come si è detto avendo le successive perizie semplicemente replicato il confronto balistico fatto dallo stampinato nel 82 è chiaro che la decisiva omissione avvenuta nel 82 si è perpetuata nel tempo in questa maniera già di per sé le probabilità che un evento del genere si verifichi casualmente vicina allo zero qui è molto vicina allo zero e nella fattispecie questa probabilità è ridottissima considerando anche ciò di cui il tricomi intervistato da Paolo Cochi si ricordava nel 2011 ma se consideriamo questo fatto assieme agli altri tre che abbiamo prima illustrato consiede che lo scenario che esclude la manipolazione del fascicolo del processo e la volontarietà dell'omissione del confronto dei reperti ritrovati nel 82 nel tribunale di Firenze e la perizia di un genio del 68 è lo scenario in altri termini compatibile con la versione a cui la maggior parte della mostrologia oggi crede e cioè che l'arma del mostro di Firenze sia la stessa arma che nel 68 aveva ucciso lo cielo bianco come dimostrato non so quante malizie malistiche che invece non hanno fatto altro che dimostrare tutto nessuno esclusa che i reperti ritrovati nel tribunale di Firenze sono stati esplosi dall'arma del mostro di Firenze ma non che quei reperti provenissero da castretti di Sini ecco chi invece crede in questo ha in mente anche se non si ne rende conto probabilmente il seguente scenario Zuntini ha fornito nel 68 una descrizione errata di certi segni sui bossoli bossoli che poi per fortuita in spiegabile circostanza sono rimasti per ben 14 anni circa 10 dei quali trascorsi dopo una sentenza passata e ingiudicato la sentenza di condanna definitiva carico di Stefano Mere spillati ad un fascicolo processuale dunque contra legem senza che nessuno se ne sia accorto comunque abbia mai avuto niente a credere ma la cui documentazione di supporto o filiera di conservazione nonostante la mancata distruzione del corpo di reato è andata casualmente persa o è stata distrutta e nonostante tutte queste paresi anomalie nel luglio dell'82 quando infine questi reperti palistici sono stati rinvenuti presso il tribunale di Firenze ci si è semplicemente dimenticati di fare il confronto con la polizia palistica redatta da Conello Zuntini nel 68 che sempre per sfortunata coincidenza non era neppure correrata dai rievi fotografici dei reperti raccolti a Castelletti di Signa onde accertare che questi reperti ritrovati 14 anni dopo i fatti di Signa nel tribunale di Firenze provenissero effettivamente dalla scena del crimine di Castelletti di Signa e cioè erano quelli che aveva esaminato lo Zuntini nel 68 questo amiche ed amici è lo scenario che esclude interventi manipolativi sul fascicolo Mele volti a far ritrovare in tale fascicolo reperti balistici esplosi dall'arma dell'assassino delle coppie a Tona Firenze stava a quell'epoca utilizzando e che è compatibile con l'ipotesi di puramente casuale omissioni nel 1982 del pur necessarissimo confronto tra questi reperti balistici e il risultato della polizia a Zuntini del 68 il fatto è che la probabilità di questo scenario è praticamente nulla questo scenario è pura fantascienza ma è a questo del tutto improbabile scenario che di fatto credono in più che si interessano alla vicenda del mostro di Firenze sia mostrologi sia inquirenti gli elementi che abbiamo ora elencato congiuntamente considerati provano matematicamente per mero calcolo delle probabilità quindi con margine di incertezza non nullo ma molto ridotto che i reperti balistici ritrovati in luglio 82 presso il tribunale di Firenze in realtà sono stati piazzati in quel tribunale a quanto pare in bustina spillata al fascicolo processuale mele signa da chi magari conosceva molto bene l'epito di Niconello Zuntini in un momento imprecisato ma sicuramente anteriore al 20 luglio 82 la data in cui il fascicolo mele con i reperti balistici allegati fu sulla scrivania del giudice Tricomi e molto probabilmente anteriore il 17 luglio 82 la data della richiesta di Tricomi al tribunale di Perusa di fargli avere il fascicolo del processo mele con il relativo corpo di eteale i reperti ritrovati nel 81 per il suo tribunale di Firenze con ogni probabilità non provenivano dalla scena di crimine di cassetti di Silvia abbiamo qui sostanzialmente provato questa decisiva circostanza la realtà o meglio l'elefante della stanza un elefante che sta davanti agli occhi di tutti e che chiunque non voglia tapparsi negli occhi non può non vedere è l'evidentissimo fatto che fu il terente colonnello l'indro dell'amico avvalendosi in occasione del suo figlio sottoposto al maresciallo Francesco Fiori a spingere il giudice Tricomi nella prima quindicina di luglio 82 ad andare alla ricerca di un fascicolo processuale fascicolo menesigna che era stato preventivamente manipolato cioè che conteneva reperti balistici esposti nella questola del mostro il corpo del reato scrive il giudice sottore Tricomi al tribunale di Perusa il 17 luglio che in quel fascicolo c'erano stati precedentemente messi a bella posta dunque bene abbiamo fatto inserire dell'amico e fiori nella nostra lista palego risentitevi il video precedente a questo cioè la lista di nominativi su cui occorrerebbe o sarebbe un corso indagare secondo la nostra ricostruzione il resto della vicenda del mostro di Firenze lista che non è evidentemente un caso che sia al momento probabilmente composta da nominativi di carabinieri in forza ai comandi operativi della provincia di Firenze ricordiamoci che abbiamo detto a proposito del piano che era stato predisposto per nascondere la mano che stava lanciando il sasso cioè che stava aprendo la pista sarda il piano per non far vedere e non far capire alla procura che quella pista era la realtà un'esca a dirci che fu il dell'amico a spingere il tricomi e indirettamente via tricomi anche i 2pm inizio della monica verso la trappola che era stata accuratamente predisposta sogno sia i meri fatti è un fatto che fu il dell'amico ad attivare il primo contatto col tricomi in un giorno imprecisato prima del 17 luglio del 1982 ed è altestì un fatto che sia stato dell'amico a mandare il suo uomo fiori dal tricomi con il foglio di giornale in mano che parlava del duplice delitto di signa e del processo medico sia quindi questi i fatti è dell'amico che manda il fiori e che fa muovere il tricomi sia le soprattutto condotte anomale e la serie di cose non vere cioè le bugie dette dal terreno dell'amico segnatamente a giudice istruttore Vincenzo Trico e solo a giudice istruttore Vincenzo Tricomi nei giorni in cui si aprì la cosiddetta pista salda altri come si disse che il fascicolo era a Perugia quando invece era a Firenze da anni e sempre altri come si disse nella lettera anonima che non era mai giunta per giustificare il fatto che si stava chiedendo al giudice istruttore di acquisire il fascicolo e poi c'è Sommere poi si face l'appello a un cittadino amico inesistente infine si assicurò sempre rigorosamente altri ricomi che il necessario confronto tra i reperti palistici ritrovati a Tricomi in Firenze e la presa di Gini nel 68 era stato fatto quando invece non era stato fatto non può che conseguire da tutto ciò che lo scenario massimamente probabile il più verosimile in senso statistico sia quello che vede il tenente colonnello olito dell'amico volontariamente spingere le indagini sul mostro nell'ugno del 1982 in direzione di cassetti di signa cioè verso il duplice delitto su cui lui stesso aveva condotto le indagini sul campo e di cui lui e solo lui conosceva ogni dettaglio sin dal 68 a differenza dei magistrati incaricati delle indagini sul mostro i quali come abbiamo più volte detto di quel caso non avevano mai sentito parlare prima che dell'amico contattasse il Tricomi nella prima quindicina di luglio 1982 un'ultima osservazione per completezza di analisi sulla manipolazione volontaria del fascicolo mene l'immissione o la sostituzione di reperti balistici esposti dalla pistola del mostro nel fascicolo mene disposta dagli uomini di Borgogni Santi che dovevano aprire la falsa pista investigativa potrebbe essere stata effettuata avvalendosi nella complicità di qualcuno all'interno del tribunale di Firenze cito qui il nome che dell'all'epoca ha detto ai servizi di cancelleria di quel tribunale tale Gianni Frezzolini un malvivente niente più e niente di meno che sarà poi condannato per aver passato a una banda di rapinatori armi provenienti da depositi dei colpi di reato del tribunale di Firenze e credo anche Luca i fatti risalgono a 1983 addirittura se non vado per raro quindi l'anno successivo accorde l'apertura della pista sarda sarda il quale Frezzolini pensate un po' aveva accertati i rapporti con la famiglia della vittima nel mostro di Firenze la famiglia Cambi fece tra gli altri il suo nome la sorella di Susanna Cinzi in quanto soggetto che potrebbe avere infastidito e seguito una sorella prima della sua uccisione alle Bartoline a trovare di Calenzano pare infatti che l'assai poco di buono squallido individuo Frezzolini avesse promesso alla famiglia Cambi nonostante notoriamente versante in difficoltà finanziarie di favorire un certo concordato con i creditori ma che non lo facesse in maniera disinteressata comando egli lo schimile sulla bella Susanna ma ma perché si depistò è altresì un fatto aggettivo che dell'amico aveva messo in piedi questa azione depistante poco dopo che l'assassino delle coppie aveva commesso un grave errore a Maccaillane lasciando in vita una delle sue vittime abbandonando la scena del crimine è l'unico che era stato enfatizzato dalla della Monica il 22 giugno 82 con il suo note blef non era mai avvenuto prima non avrà mai più che il killer delle coppie abbandoni una delle sue scena del crimine lasciando di sé dietro di sé una vittima ancora in vita quindi affatto eccezionale l'errore del vostro a Maccaillano consegue un altro fatto eccezionale l'improvvisa apertura della pista sarda su iniziativa del tente colonnello l'interno dell'amico ed è questa sequenza temporale di fatti straordinari di fatti assolutamente straordinari a dirci a dirci quale fu la finalità dell'operazione false flag apertura della pista sarda proviamo ancora una volta a ricostruire sulla base delle considerazioni che abbiamo appena fatto il possibile ragionamento del mostro e di chi lo copriva proviamo e a mio avviso costoro sapevano costoro sapevano a dirà della dichiarazione della Monica stampa che lo scenario di rallunga tutelabile da quello in cui la procura non aveva alcun asso in mano per via delle rivelazioni di Paolo Mainardi attesa da quasi nulla probabilità che il ragazzo si potesse essere anche solo temporaneamente ripreso dopo il definitivo colpo di grazia ricevuto lungo la via di Virginia un uova bossola corrispondente ritrovato nell'auto del povero ragazzo e in tal caso una simile a qualche largamente improbabile eventualità non poteva che essere accaduta durante il tragitto in ambulanza verso l'ospedale di Empoli visto che di fatto che è un fatto certo era che il ragazzo in ospedale c'era arrivato in coma irreversibile il che spiegherebbe le strane minaccio se telefonate all'autista dell'ambulanza Lorenzo alle grandi che portarono dalla mattina del giorno successivo che partono dalla mattina del giorno successivo a quello delle dichiarazioni inesive della Monica ai giornalisti tuttavia si voleva essere esserne certi ricordiamoci del break out tra Borgogni Santi e la sigla della Monica dopo il blef dell'PM del 22 giugno e in fin di oggi era comunque vero che il Mainardi era ancora vivo all'arrivo dei soccorritori sulla scena del crimine di Baccaiano altrimenti dell'amico ne avrebbe trovato il cadavere invece una volta giunto sulla scena del crimine egli trovò solo il cadavere di Antonella segno inequivocabile che Paolo avrebbe stato lasciato ancora in vita quando il killer o i killer avevano abbandonato la via di Virginia nuova si voleva così essere certi al 100% non al 99,9% che il Paolo non avesse detto una parola poiché anche se noi non sappiamo esattamente il perché di questa ferrea regola nessun soggetto non coinvolto della banda quindi non controllabile che potesse anche solo aver intravisto il mostro in azione doveva restare vivo questo emerge piuttosto chiaramente dall'osservazione delle dinamiche omiciliarie e il caso di Baccaiano da questo punto di vista è emblematico come abbiamo visto il mostro attaccando quel luogo così scoperto e con un armamento del tutto inadeguato a difendersi da eventuali interventi delle forze dell'undine ci fa vedere di non avere alcun timore di essere intercedato dal casuale passaggio di una pattuglia l'unica sua preoccupazione quella volta è stata quella di non essere avvistato tanto da interrompere più volte la propria azione per nascondersi al passaggio di un'auto o di auto estrane dalla scena del crimine consentendo in tal modo il scusate quindi consentendo in tal modo il tentativo di fuga del Mainardi che pur fallendo manderà all'aria irrimediabilmente i piani dell'assassino o degli assassini per quella notte ebbene è ragionevole per ritenere visto anche il prolungato tempo dell'azione a fuoco di Maccaiano proprio a caso del tentativo di fuga del Mainardi che il ragazzo potesse aver visto qualcosa o qualcuno l'obiettivo primario della trappola della pista sarda era dunque questo vedere se la procura dopo ciò che era successo nell'esatta dopo ciò che la procura dopo ciò che era successo a Maccaiano avesse in mano qualcosa e non brancolasse nel buio più assoluto e non brancolasse più nel buio assoluto vedere cioè se la procura era rimasta nell'esatta condizione in cui era più aderone del mostro a Maccaiano se infatti il mostro fosse morto senza aver ripreso conoscenza se infatti il Mainardi non il mostro fosse morto senza aver ripreso conoscenza come ragionevolmente doveva essere andata perché quel ragazzo era stato sparato un colpo in testa quasi a brucia venuto all'assassino prima che questi lasciassero la via di Virginio Nuova allora la procura avrebbe abboccato all'amoteso cioè la pista sarda e in quel caso l'indagine che sul mostro si sarebbe irrimediavelmente impantanata altrimenti ce l'ha da prendere urgenti contro misure perché la procura si sarebbe impantanata nel caso fosse caduta nel tranello perché la si stava spingendo verso un'autentica valuta investigativa creata 14 anni prima proprio da colui che ora stava spingendoci l'indagine sul mostro una valuta investigativa rappresentata da un caso di duplice delitto il duplice delitto l'orcillo bianco la cui indagine sul campo condotta nel 1968 da un lento dell'amico codificato da Gerardo Matassino fece in modo da far passare per fatto di sangue da banale delitto passionale commesso da un marito in cerca di riparazione proprio non referito ma quel duplice delitto non fu un delitto d'onore fu camuffato da delitto d'onore commesso dal marito della vittima femminile in auto sorpresa in auto a far sesso con un altro uomo da chi fu camuffata da chi condusse le indagini sul campo nel prossimo video ve lo dimostreremo questi sono i fatti che parlano abbastanza da soli abbiamo dimostrato che ci fu devistaggio e le condizioni quando when chi who e perché why sono tutte soddisfatte ma ora riprendiamo fiato amiche ed amici perché siamo giunti a cruciale turning point del nostro faticoso percorso verso il mostro di Firenze con questo nostro video abbiamo voluto dimostrare sulla base di circostanze oggettive probabilità e logica quindi circostanze oggettive probabilità e logica che il modo con cui il modo con cui si è guardato da quasi mezzo secolo a questa parte all'intera vicenda del mostro di Firenze va profondamente rivisto se non proprio buttato a mare chi ebbe in mano una funzione di polizia giudiziale competente per il caso sino a praticamente tutto 1984 cioè il quartier generale della locale sotto la stay behind il livello di guerra non ortodossa che era in Borgogni Santi ebbe il compito della linea di comando del nucleo territoriale diciamo che ebbe il compito nella linea di comando del nucleo territoriale di guerra non ortodossa prioritario dunco rispetto al compito di segno contrario istituzionale di coprire le spalle a chi gli è delle coppie gli uomini migliori sicuramente tra gli uomini migliori quantomeno del colonnello Federico Mannucci Benincasa il tenente colonnello Oriente dell'Amico capo del nucleo investigativo e il colonnello Ignazio Spampinato entrambi uomini della rete stay behind livello occulto organizzazione X utilizzando la definizione di Roberto Cavallaro e Ammonos Piazzi indagati da Giovanni Tamburino nell'ambito dell'indagine rosa dei venti o organizzazione rossa definizione sismi scendono pesantemente in campo nel luglio del 1982 per coprire le spalle dell'assassino o degli assassini che aveva o avevano commesso l'unico grosso errore della carriera omicidiaria del mostro o del sodalizio mostro l'aver trovato che nel 1982 il quartier generale del nucleo di guerra non psicologico non convenzionale toscano in Borgogni Santi intervenne per dare una mano al mostro in un momento in cui il mostro aveva commesso un errore potenzialmente molto grave apre a considerazione della massima importanza queste considerazioni riguardano due questioni fondamentali per cui comprensione è estremamente necessaria per arrivare al mostro di scienze una prima questione è in realtà una domanda che discende direttamente dalla dimostrazione che abbiamo in questo video condotto circa la natura del depistaggio dell'apertura della pista sarda in favore di chi gli uomini di punta della locale struttura Stapiain dovettero esporsi e assumersi i rischi non da poco che poterono gestire e mitigare con successo grazie alla qualità e alla preparazione dei personaggi del calibro di Federico Mannucci ben in casa olito dell'amico e Ignazio Sparpinato in favore di chi poterono fare questo chi era così intoccabile da rendersi necessario che uomini di questa importanza nella locale struttura di guerra non ortodossa si assumessero questo tipo di rischi e questa era la cruciale domanda che ci condurrà al mostro di Firenze una seconda questione riguarda i fatti di Cassetti di Signa del 68 l'episodio sul quale olito dell'amico quadrivato dal suo uomo Fiori devia il corso delle indagini sul mostro nell'estate del 1982 dopo l'aggressione di Baccaiano rivisti alla luce di questo depistaggio successivo ai fatti di Castelletti di ben 14 anni questi fatti di Castelletti possono finalmente essere interpretati in una prospettiva corretta anche se non possono essere dipanati nella loro interezza come vedremo nel prossimo video vedremo infatti che dell'amico come adesso c'era da aspettarsi da uno della sua preparazione di intelligenza deviò l'indagine su quel caso che era stato da lui prima persona ovviamente indagato a ragione veduta anzi a ragione pienamente veduta sapendo più di ogni altro fra tutti coloro che nel 1982 erano impegnati nell'indagine sul caso del mostro cos'era veramente accaduto nel 68 sapendo esattamente chi sarebbe finito sotto il torchio dei magistrati incaricati dell'indagine sul killer delle cocche e sapendo di poter pienamente controllare i futuri sospetti mostri di Firenze individui soggetti agli effetti dell'applicazione nei loro confronti del mix minaccia compartimentazione ma nel loro caso soprattutto minaccia dimostreremo questo nel nostro prossimo video in cui spiegheremo ciò che è accaduto nel 68 a Signia così facendo dell'amico nel stato 82 camuffò per la seconda volta il dubbio delitto l'occillo e lo bianco la prima volta fu nel 68 abbiamo detto quando camuffò quel fatto di sangue dal delitto d'onore commesso dal marito pluricorduto della vittima femminile la seconda volta 14 anni dopo quando ricamuffò quel dubbio delitto da primo delitto del vostro di Firenze le fondamentali per la confezione della vicenda del vostro di Firenze e conseguenze che trarremo da questa analisi dei fatti di Castelletti riguardano chi era cioè qual era il suo ruolo occulto non alla luce del sole accanto a quello del sole accanto a quello alla luce del sole di valente investigatore del comando di Borgoni Santi chi era il tenente poi capitano il tenente poi capitano poi tenente colonnello Olinto dell'Amico e in quali tecniche tecniche da specialista di operazioni camuffate che troviamo ben descritte nelle testimonianze scritte che ci hanno lasciato gli importanti dirigenti CIA dell'epoca della guerra fredda quali Richard Bissell Vincent Macchetti e John David Marx lo stesso dell'Amico era specializzato circostanza questa che quadra perfettamente con la testimonianza resa dall'ex agente Sismi Vincenzo Fenivi riguardo il ruolo svolto da dell'Amico per conto del coesistente in Borgoni Santicento di Conto Spionaggio Sidi poi Sismi Fiorentino retto da colonnello Federico Manucci per in casa quindi qual è il know-how dobbiamo chiederci che tipo di know-how aveva che tipo di specializzazione aveva Federico Manucci per in casa cosa si può dire riguardo il percorso dell'arma utilizzata o delle armi utilizzate a Castelletti la notte dell'omicidio e l'Occino Bianco dimostreremo che focalizzarsi su questa da sempre dimattutissima questione in ambito nostro logico è solo uno spreco di tempo un'analisi che complica ulteriormente e quindi allontana dalla comprensione della vicenda del mostro di Firenze ciò che veramente conta non è l'arma o le armi ma come sempre sono le persone sono persone che furono attivamente presenti la notte del delitto l'Occino Bianco sulla scena di quel crimine e che ritroveremo con un ruolo attivo anche nella vicenda del mostro di Firenze a rappresentare il vero legame tra dopo c'è il ditto di Cassetti di Signia e la terribile storia del mostro di Firenze il mostro di Firenze che nel 68 era ancora arrivato a venire non era ancora all'orizzonte in quell'anno il mostro di Firenze questi soggetti porteranno in dotazione al futuro mostro dal 68 al 74 prima ancora che un'arma la conoscenza di ciò che era accaduto a Castelletti e in particolare la conoscenza di quale arma o armi e relativo a munizionamento si erano utilizzati per uccidere Antonio Lobianco e Barbara Rocci e fa sparare qualche colpo a vuoto al subnormale colpevole predestinato o di far sì che gli risultasse positivo all'altezza della paraffina e il futuro mostro così come l'altro o in pochissimi altri questo lo vedremo che con lui costituirono il nucleo primigenio fondatore della futura mostro di Firenze non era persona ricordiamoci sempre amiche ed amici del profilo tecnico-professionale che abbiamo tracciato per il mostro o per qualcuno del vertice assassino non mandante del sodalizio mostro cui poteva sfuggire l'enorme potenziale depistante deve tenere conto di questa conoscenza che chi è stato presente a cassetti di signale ne aveva portato in dote nella scelta dell'arma e del munizionamento del futuro mostro di Firenze tratteremo con maggior dettaglio di queste due fondamentali questioni nel prossimo video fatto questo saremo finalmente pronti ad approcciare l'enigma del nucleo primigenio un nucleo fondatore di quello che diventerà il gruppo mostro di Firenze cioè l'entità assassina responsabile della strage di coppia negli anni 80 6 coppie uccise 12 morti saremo cioè finalmente pronti a guardare in faccia il vero mostro di Firenze